Per favore silenzio. Con un magistrato di cui non ricordava il nome, lei ricorda che da questo magistrato è stato peraltro interrogato già altre volte prima dell'odierno dibattimento? Presidente, c'è una posizione sulla rilevanza della domanda. La toga è impigliata nella sedia, devo restare seduto. L'opposizione ha la rilevanza della domanda perché nelle dichiarazioni che ci ha reso ieri il signor Buscetta non solo hanno riempito pagine e pagine di verbali, ma sono su libri, giornali, giornaletti e figurine panini dappertutto, da anni. E non ci ha ripetuto nulla di nuovo. Che cosa dovevamo imbeccare al test Buscetta? Qual è la rilevanza di questa domanda? A che cosa deve tendere tutto questo? Capisco, avrà una qualche ragione questa disperata ricerca del colpo di teatro, però vorremmo fare il processo, parlare del processo. Quindi ritengo che la domanda sia irrilevante, così come tutte le altre sullo stesso tema. Presidente, io ho troppo rispetto per l'ufficio del pubblico ministero per non rispondere con la durezza che questo intervento meriterete. Punto primo, qui non siamo in ricerca di colpi di teatro. Punto secondo, le cose che ha detto Buscetta le ha già dette anche con riferimento a quello che il pubblico ministero ha detto ieri. E allora se tanto vale, tanto vale immediatamente discutere il processo e mandare Buscetta a casa. Io voglio dimostrare che questo testimone su ogni cosa è reticente dal primo momento delle sue dichiarazioni alla difesa. Perché è assurdo, e per questo ho chiesto la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero, che il signor Buscetta non ricordi o ignori il nome di un giudice che lo ha esaminato due giorni prima e dal quale è stato interrogato più volte nel corso delle indagini. E quindi la Corte, anche da questi dati, può trarre argomenti per valutare l'attendibilità del testimone. Quindi io riformolo la domanda. Rispondo alla domanda. Non mi ricordo la domanda, gole. Sentite, difensore, avvocato Coppi, se la persona che lo ha interrogato era il pubblico ministero che l'aveva interrogato altre volte. Sì. E lei non ha mai saputo il nome di questo giudice. Sì che l'ho saputo. Però se lo è dimenticato all'improvviso ieri. Ieri è stacco. Comunque l'aveva detto poi ieri. Adesso vorremmo sapere se in questi giorni lei ha incontrato altri magistrati oltre il dottor Cardella. Sì. Credo che erano due. Il dottor Cardella e l'altro sostituto, mi sembra che si chiama Cannevale. Benissimo. Lei non ha incontrato quindi magistrati della Procura della Repubblica di Palermo in questi giorni? Sì. Insieme al dottor Cardella. Allora ci li dica subito tutti quali sono questi magistrati? E basta. Non ci sono altri. Quelli di Palermo? Uno. E chi è? Dottor Natoli. E hanno fatto tutti insieme questo interrogatorio, questo esame dei giorni scorsi? No. Il dottor Natoli è arrivato dopo. Ha fatto un atto separato o ha partecipato allo stesso atto condotto dal dottor Cardella e dal dottor Cannavale? Presidente, però questo sistema di interrogare sul contenuto degli atti e sullo svolgimento dell'altro io non riesco, io segnalo la nostra opposizione. Abbiamo già detto ieri che il verbale è a disposizione, questo ha, io segnalo la mia opposizione. Abbiamo appreso oggi una cosa, ci stiamo riferendo solamente a circostanze di puro fatto. L'ordinanza della Corte di ieri mi sembra abbastanza chiara nel senso che queste dichiarazioni non sono utilizzabili in questo processo, questo lo sapete, quindi il problema non è questo. L'Avvocato Coppi ora ha spiegato la ragione per cui vuole sapere certe cose. Il test può rispondere con sì o con no, senza... Ho già detto ieri che si poteva, visto che queste indagini devono essere finalizzate a delle richieste che il Pubblico Ministero deve fare, visto che queste richieste non ci sono state, noi diciamo che queste indagini, questi esami avrebbero potuto essere fatti anche il giorno dopo questo esame. Comunque, Avvocato Coppi, non sappiamo che cosa sono queste indagini, non le possiamo utilizzare in questo processo, dobbiamo sapere la circostanza di fatto e il test ha riferito su questo. Vorremmo anche sapere se lei, a parte gli uomini che la scortano per la sua protezione, ha avuto incontri anche con autorità di pubblica sicurezza e ci dica quali sono i nomi, eventualmente. Nessun incontro. Nessun incontro, quindi solo con questi magistrati? Sì. Senta, lei già gliel'ho chiesto ieri, ma così riprendiamo il discorso, mentre si trovava in Brasile ha detto che ha tentato di suicidarsi, io le ho chiesto se lei aveva veramente intenzione di morire e quali erano le ragioni per le quali lei aveva deciso di suicidarsi. Le ripropongo la domanda. Rispondo alla prima parte della domanda dove dice se ha veramente intenzione di morire. E io questa domanda non la capisco come dovrei rispondere. Lei mi deve rispondere. Perché è uno che prendo a zitti il mio. Lei mi risponde. Aveva volontà di uccidersi, insomma. Voleva uccidersi, sì. Sì. Oh. E adesso perché? Perché per amore della mia famiglia. Benissimo. Quando avvenne questo fatto? Nel 1984. Nel 1984. Quanto tempo? Quanto tempo? Basta, mi diciamo certo. Quanto tempo prima di essere estradato? 10 giorni, 12 giorni, 15 giorni, non ricordo con esattezza. Mesi o giorni? Poco tempo. Poco tempo prima di essere estradato. Quindi lei esclude che questo tentativo di suicidio fosse un mezzo per evitare o per ritardare l'estradizione? Lo escludo. Lo escludo. Ma lei era favorevole o contrario alla sua estradizione? Accettavo. Il verdetto della corte. Senta, che cosa lo dice il nome di Ibrahim Abel H.L.? Leggo così come è scritto. Era il ministro della giustizia brasiliano. Brasiliano. Lei ricorda di aver scritto una lettera al ministro? No, non vi ricordo. Allora se io gliela mostro lei è in grado di riconoscere la sua calligrafia. Guardi, è una lettera con la quale lei dice che se verrà estradata in Italia lei non renderà nessuna dichiarazione, mentre è pronto invece a rendere dichiarazioni se il dottor Falcone verrà ad ascoltarla in Brasile. Quindi poneva come condizione per la sua permanenza in Brasile o per la sua estradizione questa diversità di atteggiamento in funzione ad eventuali interrogatori. La ricorda adesso questa lettera? No. No, allora se l'ufficiale giudiziario a questa questione... La facciamo vedere. ...è con il consenso della Corte. Se è sua la calligrafia e se la riconosce dopo averla letta? Sì. La vuole anche leggere in modo da confermare il contenuto che io ho riassunto? Conferma il contenuto delle cose che dice l'Avvocato Coppi? Devo leggere. Sì, sì, lei la lega, è sensato. Eccellentissimo, signor Ministro. Tengo... C'è anche la traduzione italiana prima e battuta a macchina, può essere più agevole la lettura. Questa parola non la capisco. Vi permettemi di indirizzarle quanto seguo. Il Signore conoscerà a memoria tutte le mie vicissitudini ed in ordine di tempo mi permetto di dirle che mia moglie Maria Cristina del Chimaraese... Mi scusi, lei può, se vuole, non leggerla all'altra voce, la legga per vedere se ricorda quello che ha scritto e poi può confermare o meno, ha visto l'Avvocato Coppi e ha riassunto i punti fondamentali della lettera. Se sono quelli lei può dire se è vero oppure non è vero. Ma la lettera ce l'ha sotto, quindi può leggerla. Sì, l'ho letto. Allora dica, risponda pure a che cosa. Cioè, se l'ho letto... La lettera e conferma il contenuto di questa... Sì, conferma il contenuto. Come mai lei poneva questa condizione se fosse stato... Poco. Ah, scusi, Avvocato, la produci? Sì, sì, adesso mi serve ancora... Sì, sì, no, no, volevo dire... Ecco, come mai lei poneva questa condizione, nel senso che se fosse stato estradato in Italia si sarebbe rifiutato di rispondere? Non ricordo, perché in quel momento decisi di parlare, di scrivere in questa maniera. D'accordo. Senta, lei quando ha tentato di suicidarsi ha per caso scritto su un pezzetto di carta delle parole che consentivano di comprendere immediatamente qual era la sostanza che aveva ingerito? No. Non lo ricorda o... No, no, non l'ho scritto. O lo esclude? Lo escludo. Lo esclude. Ma lei è al corrente del fatto che c'è una relazione della Segreteria della Sanità, Fondazione Ospedaliera del Distretto Federale di Brasilia, la quale dice che lei aveva scritto su un pezzetto di carta le lettere STRI, da cui è stato possibile capire immediatamente che lei aveva ingerito stricnina di tal che è stato anche possibile operare immediatamente il suo salvataggio? Avvocato, se non erro, lei ha detto che ho scritto prima di ingerire. È vero? Lei ha detto così. Prima o prima o dopo? Guarda, io ho scolto il senso della cosa. Io rispondo a lei. Lei ha detto prima che io ho scritto prima di ingerire la sostanza che cosa. Io non lo so se prima, dopo, quando. Non lo so. Vabbè, adesso ha chiarito meglio. Lei ricorda di aver scritto su un pezzo di carta comunque le iniziali della parola stricnina? Poi ci dirà come, dove, quando. Ora, devo dirlo prima. Io so di aver scritto, non so, S, T, R, ma l'ho scritto in un momento mentre sono dentro l'ospedale e il dottore domandandomi, schiaffeggiandomi che cosa, che cosa hai preso, sembra che io abbia scritto questa parola. Io l'ho saputo dopo, quindi io non l'ho scritto prima questa parola, avvocato. Comunque lei conferma di aver scritto queste lettere? Ma mi è stato detto, io non so se è vero, se l'ho scritto o no, io non l'ho visto. Va bene, risposta anche se. D'accordo, allora noi chiediamo di produrre, oltre la lettera che è stata riconosciuta dal signor Buscetta, anche la relazione a cui ho fatto cenno in cui appunto si dice che il paziente Buscetta aveva scritto su di un pezzo di carta le lettere STRI. Come il quadro clinico suggeriva, è stato quindi seguito il trattamento per l'intossicazione da stricnina. C'è opposizione? Sì, c'è opposizione perché dovrebbe essere una circostanza dedotta attraverso l'assunzione come testa della persona che ha relato la relazione. Quello non è una difficoltà, vi state cercando quello della fotografia sul matto grosso, noi sappiamo chi ha scritto questa relazione a chi è stata indirizzata, se ne avete dubbi potremo chiamare... La fotografia sul matto grosso non c'entra con la relazione, questo discorso... A me pare che sia molto più importante acquisire questa relazione agli altri piuttosto che la fotografia di un povero daino che è stato ucciso. No, che sia importante o meno un discorso, noi riteniamo che non sia ammissibile la produzione per ragioni, non ne facciamo un problema di rilassamento. Poi la Corte... Lei ha fatto la sua richiesta, c'è l'opposizione della Corte Svissella di... Trattando se... Vada pure avanti, ammocato. La posizione vale anche per il manoscritto di Buscetta... No, no. Allora, noi comunque insistiamo, trattandosi di documento, ne chiediamo l'acquisizione. Lei è stato estradato dal Brasile in Italia, questa è una circostanza pacifica. È stato estradato nel 1984? Sì. Senta, le risulta che il senatore Andreotti, all'epoca della sua estradizione, facesse parte del governo italiano, avesse una carica nel governo italiano? Credo di sì. Ricorda quale incarico avesse? No. Se le dico che era ministro degli esteri... No, nulla da obiettare. Lei sa se il senatore Andreotti svolse come capo di quel di Castero una attiva opera in favore della sua estradizione? No, non lo so. Dopo la sua estradizione, lei ha scontato una pena in carcere? Sì. Quindi a seguito dell'estradizione lei è stato ritenuto in un carcere italiano, sia pure per un periodo, non credo, molto lungo. Sì. Benissimo. Vorremmo sapere quali aiuti economici ha ricevuto dallo Stato italiano dopo la sua decisione di collaborare? Ci dica quando hai iniziato a collaborare, per conoscenza della Corte. Ho iniziato a collaborare nell'84 e i primi aiuti economici li ho avuti nel 1992. 1900? 92. Senta, nel 1988 non ha ricevuto niente? Sì. E allora? Quanto? Abbiamo... Abbiamo... Ma guarda, dobbiamo precisare chi sono i miei familiari. Dopo, adesso glielo sto per chiedere, glielo sto per chiedere. Intanto mi comincio a dire se i suoi... Poi vediamo... Io che io sappia no. Chi è Serafina Buscetta? Mia sorella. E chi è Giovanni Buscetta? Forse il figlio di mia sorella, sì. Forse il figlio... Se comparissero delle ricevute a firma di queste persone, datate per esempio 1987, lei direbbe che sono false? No. Presidente, non è... Ma è possibile questo domande? Perché tu credi? Ricevute? No. Ma non lo so che avevano ricevute. Ha detto che non sa se hanno ricevute, è chiaro. Perché mia sorella al momento... Lei ha parlato dell'88 invece che lei e i suoi familiari hanno ricevuto? E poi nel 92? E poi nel 92. Ma parlando di mia sorella, devo dire che mia sorella ha avuto il marito ucciso. Dopo le mie dichiarazioni fatte dal dottore Falcone, mia sorella mi maledisse. Io non ho mai più rivisto mia sorella da allora a oggi. Quindi io non so se mia sorella ha ricevuto degli aiuti economici. Ma sì, d'accordo. Lei svolge un'attività lavorativa attualmente? Nessuna. E quindi la fonte dei suoi guadagni, dei suoi mezzi di sottentamento qual è? È lo Stato. Lo Stato. Questi guadagni che le vengono corrisposti, sono guadagni sufficienti da consentirle crociere, vacanze su delle navi in compagnia di tua moglie? Le crociere non hanno niente a che vedere con il sussidio che mi dà il governo. Le crociere vengono da altri proventi. E quali sono questi proventi? Scrivere qualche libro. Quindi la crociera se l'è pagata con denaro proprio? Con denaro mio, sì. Con denaro proprio. Quando è entrato in Cosa Nostra? Alla fine degli anni 40. Vorrei sapere adesso, era lecito chiedere ad un uomo d'onore se un determinato altro individuo fosse un uomo d'onore? Lei ci ha detto già di sì, si poteva chiedere. Lei ieri perlomeno ha detto che si poteva chiedere informazione ad un uomo d'onore circa il fatto se un'altra persona fosse o meno uomo d'onore. Siamo d'accordo? Sì, d'accordo. A questa domanda l'interrogato aveva l'obbligo di dire la verità? Sì. E come mai ci sono però degli uomini d'onore cosiddetti riservati, il cui nome veniva tutelato con particolare riservatezza? Se per caso lei avesse chiesto a qualcuno informazioni su uno di questi uomini d'onore il cui nome veniva tenuto riservato, cosa avrebbe fatto l'altro, l'interrogato? Se non lo sapeva dovevo dire no. No, no. Se lo sapeva dovevo dire sì. E allora questa riserva e questa copertura del nome come funzionava? Se chiunque poteva chiedere ad un uomo d'onore se altra persona fosse uomo d'onore e questo aveva l'obbligo di dire la verità e quel nome si voleva mantenere riservato, era una riserva per modo di dire. Tutti potevano sapere quindi che quelle determinate persone... Ma... Conservato? Sì. Ah, ecco. Sì. Per esempio ho gli stessi salvo. Gli stessi salvo per evitare che si domandassero molto favore ma dopo un po' di tempo... Però bastava chiedere. Presidente, vorrei che completasse la risposta. Prego. Allora, gli stessi salvo... E' stato per poco tempo perché poi si è divulgato in ogni maniera ed è diventato popolare. Ma è un difetto nel passato che hanno avuto solo i corleonesi e non intendo a dire corleonesi come ho detto ieri mettendo tutto il gruppo, ma mettendo proprio i nativi di corleonesi della famiglia di Corleone hanno avuto questa abitudine di tenere persone riservate e non presentarle a nessuno. E tenendole estranei e lontane da Cosa Nostra. Quindi la curiosità di andare a chiedere se il tizio era o non era uomo d'onore non veniva a nessuno perché nessuno riconosceva. Però poi alla domanda che ha fatto l'avvocato, se un uomo d'onore avesse voluto sapere se quell'altra persona lo era o meno come faceva a saperlo? No, i corleonesi non lo dicevano. Questo non è successo nella mia famiglia per esempio. Non è mai successo di avere un uomo d'onore fatto regolarmente e non presentato a nessuno. Non è successo in altri vicini di famiglia ma i corleonesi questa abitudine l'avevano. Quindi l'abitudine di tenere dei nomi riservati era solo dei corleonesi? Più o meno. Era più dei corleonesi un'abitudine che delle altre famiglie. Però anche nelle altre famiglie c'era l'abitudine di tenere qualche nome riservato. Ma non erano molte famiglie perché io ti ricordo... Ma non ci sa se erano molte o no. Io voglio solo sapere... Sì, sì. Oh, bravo. Quando è uscito da Cosa Nostra, lei? E soprattutto perché non si è più riconosciuto in Cosa Nostra nel momento in cui ha ritenuto di uscire? Perché io non vedevo più la Cosa Nostra come quella che io mi ero abituato a viverci, a conviverci. E questo quando lo ha rilevato? Quando se ne è accorto? Negli anni... alla fine degli anni... verso l'82, l'81, quando sono scomparsi i miei figli. Quindi già prima... Ma quando sono andato via da Palermo a gennaio dell'81, io non ero ancora uscito da Cosa Nostra. No, non ero ancora uscito da Cosa Nostra. Senta, ma quando lei è entrato invece in Cosa Nostra, si uccideva ugualmente, si commettevano dei delitti o no? Sì. Però questo non le ripugnava? No. E mi spiega la differenza tra un omicidio vecchia maniera e un omicidio nuova maniera nella sua valutazione. Perché i primi omicidi non le ripugnavano e invece le ripugnavano gli altri? Ma lei parla di omicidi o parla di atteggiamenti di Cosa Nostra? No, no, io parlo di omicidi, ci stanno gli atteggiamenti, io parlo di morti, morti ammazzati. Ma io devo dare una risposta a questo che dice lei in un'altra maniera, e cioè io nel 1963, dove gli omicidi erano giornalieri a Palermo, i miei figli, mia moglie, i miei fratelli andavano a lavorare tranquillamente e non avevano paura di nessuno. Questo non è successo nel 1981. Ma io non le ho chiesto se i figli... Una valutazione che devo fare. È stata fatta una domanda piuttosto complessa, vorrei che fosse consentito al test di rispondere impiutamente. Comunque lei ha capito, la domanda che fa l'avvocato Coppia è diversa. Però io vorrei che il pubblico ministero non mi... la domanda non era per niente complessa. Il testimone non ha risposto a tono perché ha semplicemente detto che i suoi figli non avevano paura. Il che è soltanto una prova evidentemente della figura carismatica paterna. Ma io voglio sapere, nel momento della sua appartenenza a Cosa Nostra, in questo periodo in cui, come lei stesso ha riconosciuto, mi pare che si ammazzava gente tutti i giorni, lei non batteva ciglio, non era affatto preoccupato di questo fatto, non le rifugnavano questi morti. La repugnanza avviene soltanto in un momento successivo. Presidente, la domanda è già stata posta e stava iniziando a rispondere. Facciamolo rispondere. Comunque il test già ieri ha incominciato a parlare di questo tipo di problema, ne ha parlato come finalità dell'organizzazione. Comunque la domanda è precisa su quello che riguarda i morti. Ma la repugnanza viene, no, non ho nessuna repugnanza, però devo continuare e dire che in quell'epoca non si ammazzavano figli di mafiosi a 16 anni, non si tagliava il braccio ad un ragazzo per dire questo braccio non ti servirà più per sfarare a reina. I problemi a quell'epoca erano mafioso contro mafioso. D'accordo, era un problema di età e di parti del corpo, d'accordo. Non si uccidevano magistrati. Va bene, va bene. Senta, lei ha detto che dopo aver dato l'incarico ad un soldato di eseguire un omicidio non se ne parlava più. Una volta restituite le armi, compiuta l'operazione, di questa operazione non se ne parlava più. Lei conferma ovviamente quello che ha detto. Vorrei sapere, che cosa vuol dire non se ne parlava più? A quali livelli non se ne parlava più? Era un capitolo chiuso per tutti? Era un capitolo chiuso per tutti, sì. Quindi neanche i capi parlavano più ormai di una pratica archiviata, diciamo così? No, neanche i capi se non c'era l'occasione di doverne riparlare un'altra volta. Benissimo. Lei mi sa dire se fosse un'abitudine in cosa nostra quella della rivelazione da parte di capi ai semplici soldati della esecuzione di delitti? Cioè io dovrei sapere... Sì, lei sa se era un'abitudine... Lei ieri è stato... Avveniva normalmente, insomma, poteva avvenire normalmente. Ma di raccontare come era avvenuto? No, 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 non lo si diceva normalmente. No. Ebbene. Lei, dopo aver deciso di prestare la sua collaborazione alla giustizia, ad un certo momento ha deciso di interrompere questa sua collaborazione e di essersi valso della facoltà di non rispondere a qualche tentativo di interrogatorio. Ricorda quando questo avvenne e ricorda perché questo avvenne? Eh, furono tante volte. Quindi non so metterli nel tempo. Però ci sono dei verbali già sottoscritti da me, firmati, che possono testimoniare questo. Io faccio riferimento, per esempio, ad una interruzione che sarebbe avvenuta intorno agli anni 90-91, ripresa poi finalmente quando viene interrogato il 3 ottobre del 1991 dal procuratore della Repubblica di Palermo. Lei sa spiegare alla Corte le ragioni per le quali decise ad un certo momento di interrompere la sua collaborazione? Perché non vedevo nessuna volontà, secondo il mio punto di vista, che può essere anche sbagliato, volontà dello Stato di combattere veramente la mafia. Quindi lei non conferma quello che ha detto al procuratore della Repubblica il 3 ottobre del 1991, cioè che la ragione per la quale aveva prima interrotto e poi aveva deciso di riprendere la collaborazione stava invece nel fatto che finalmente lo Stato italiano ha approvato una legge che garantisce alle persone che collaborano con la giustizia misure adeguate di protezione e di assistenza? C'è opposizione alla contestazione perché questo verbale non è compreso nel fascicolo del PM. Non è compreso nel fascicolo del PM? No, questo del 91, a cui fa riferimento. È un verbale che non è nel fascicolo del PM? Io non gli contesto il verbale ai fini del PM. Gli dico semplicemente. Se ricorda la circostanza? La ricorda questa circostanza? No. Allora? Non mi ricorda la circostanza. No, ma qui non è di ricordare se ha detto o non ha detto. E se ricorda che in realtà prima interruppe e poi riprese la collaborazione perché lo Stato italiano prima non proteggeva e poi proteggeva. Questo è il punto. Io non gli chiedo se ricorda di aver detto questo in quella particolare circostanza. Gli ricordo, gli chiedo solo se si ricorda questa sua motivazione. Presidente, siamo in fase di interrogatorio diretto, non sono consentite le domande suggestive quindi c'è opposizione anche a questa domanda che contiene la risposta. È tutto meno che suggestiva. No, no, scusate, non è una domanda suggestiva. Lei ha capito? Sì, non mi ricordo, non mi ricordo né dell'occasione, quando è stato, non mi ricordo. Lei ricorda quando è stato condannato in primo grado, quando comunque grossomodo si è concluso il maxiprocesso nel quale... Sì, sì, c'è, ma certo che c'è, ma è inutile che stiamo... Tanto non mi serve per le contestazioni. Lo so che c'è, lo so che c'è, lo so che c'è. Dunque, volevo dire questo, lei si ricorda quando terminò il maxiprocesso e se in occasione della conclusione del maxiprocesso con la pronuncia della sentenza venne condannato ad una pena anche molto pesante, salvo le riduzioni poi in appello, un personaggio del calibro di Ignazio Salvo? No, non so le condanne, non di Ignazio Salvo, di nessuno, non le so le condanne. Cioè lei non ha mai saputo com'è finito il maxiprocesso? No. Non se ne è mai interessato? No, non me ne sono interessato. Quindi lei non sa che... Non ero in Italia, però, fra l'altro. Bene, ne ha parlato tutto il mondo. Senta, e quindi lei... Ma meno gli Stati Uniti. Se non gliel'avessi detto io... Ne ha parlato tutto il mondo, ma meno gli Stati Uniti. No, ma, Presidente, credo che abbia voluto dire che non sa l'entità delle condanne. Non so l'entità delle condanne, lo so che finisce, che esisteva quel processo. Ma sa che è stato condannato Ignazio Salvo? Sì, è stato condannato, ma non so nemmeno a quanto. Sa comunque che è stato condannato. Sì. Ignazio Salvo era una delle persone che lei aveva indicato come appartenenti a Cosa Nostra. Sì. Quindi le sue dichiarazioni avevano avuto un credito presso i giudici. Non lo so. Presidente, non credo che sia ammissibile una domanda di questo genere relativa al credito dei giudici. Questa è una domanda che dovrebbe essere rivolta ai giudici. No, no. E tra l'altro comunque ci opponiamo a tutte le domande che riguardano il contenuto di una sentenza che si trova a questi tagliati, che non hanno alcun rilievo sapere cosa ricorda il test e buscetta di questa sentenza e cosa non ricorda. Se lei avesse un momento di pazienza comprenderebbe anche il senso di queste domande. Non sono domande fra di loro se legate. Era per introdurre poi questa domanda su questo eterno problema della reticenza del signor Buscetta a parlare di mafia e politica. Visto che lui ha sempre detto che non aveva fiducia nello Stato, però questo Stato non appena lui ha fatto il nome di Ignazio Salvo ha torto la ragione e ha condannato Ignazio Salvo. Certamente è un argomento, professore, ma di discussione. Non può, no, no, scusate, il problema è che non possiamo chiedere a lui quello che pensa che abbiano pensato i giudici. No, però come è fatto? Lei chiede. No, io sto chiedendo che cosa lui ha pensato. Il pensiero, ed è bene metterci d'accordo una volta per tutte, perché anche in altre udienze ci sono state delle opposizioni su questo punto. Se io chiedo ad un testimone che cosa lui pensa che altri abbia pensato, evidentemente non glielo posso chiedere, ma se io chiedo cosa ha pensato lui, questo è un fatto, anche se di natura psicologica. E allora io voglio sapere questo, come mai di fronte alle prove di uno Stato che condannava anche sulla base di sue dichiarazioni e personaggi, secondo quanto dice lo stesso Buscetta, non proprio di secondo piano, abbiamo dovuto attendere l'uccisione del dottor Falcone e del dottor Borsellino perché si decidesse a parlare di rapporti fra macchia e politica e perché questa fiducia nello Stato non è scattata prima, come suo pensiero, come sua motivazione. Questa è la ragione della domanda. La domanda ha capito, ma per avere pensieri e per avere motivazione bisogna conoscere se i salvo sono stati condannati solo dalle mie dichiarazioni. Io non so se ci siano state dichiarazioni di altri che abbiano confluito e abbiano portato delle prove contro i salvo. Quindi io non so se sono stati condannati solo e unicamente per me. Come posso emettere un giudizio su questo? Io non lo posso. Senta, lei ricorda quando avvenne il suo primo interrogatorio da collaborante e con chi? Quando avvenne non me lo ricordo. Ieri mi sembra che... Ma io sono... subito dopo, un giorno, due giorni, che sono stato... E con chi è in comunicazione? Che sono arrivato a Palermo con il dottore Falcone. Il dottore Falcone qualche volta l'ha interrogata su delega anche di altri giudici, per esempio ricorda se il dottore Falcone la interrogò su delega del dottore Ghitti di Milano e per aiutare il suo ricordo, le dico anche quale avrebbe dovuto essere l'oggetto di questo interrogatorio, sequestro Moro e contatti con Bossi? Non mi ricordo, non mi ricordo se è delega, no, non ho ricordo di questo. Adesso poi le indicheremo il verbale in modo che così la sua memoria forse potrà essere sollecitata. Comunque gli interrogatori che... No, il dottore Falcone mi ha interrogato tantissime volte, ma io non ricordo se è venuto per delega. Allora, il 4 dicembre... Non è che esclude, mi sembra che dica solo non ricorda. Comunque, andiamo con calma, gli interrogatori che lei ha reso al dottor Falcone, delega o non delega, sono tutti interrogatori che avvengono dopo la sua decisione di collaborare. Prima di decidere di collaborare lei non aveva mai reso dichiarazioni al dottor Falcone? Il dottor Falcone venne in Brasile prima che collaborassi... Sì, ma gli interrogatori ufficiali resi al dottor Falcone sono tutti interrogatori dopo la sua decisione? Dopo la mia... Qualunque interrogatorio che rechi la firma del dottor Falcone è un interrogatorio reso nel quadro della sua collaborazione, d'accordo? Sì. Ecco. Lei è stato sentito anche il 4 dicembre del 1984 ed è appunto a questo che facevo riferimento. Lei ricorda, interrogato dal dottor Falcone e quindi nel dicembre del 1984, di aver detto al dottor Falcone che lei era affetto da tubercolosi renale in fase attiva? No, non è possibile. Non è possibile? No. Ho sempre dichiarato che fingevo di avere la tubercolosi renale. senta, io anziché essere trasferito a Torino sono stato... Questa è la lettura del verbale? Oggetto di attenta sorveglianza nel carcere di Cuneo, le dice il dottor Falcone. E malgrado le mie condizioni di salute non sono stato avviato né in centri clinici né in luoghi esterni di cura. Professore, per cortesia, a quale verbale si fa riferimento? Il 4 dicembre del 1984. Dell'84. Grazie. Io ero affetto da tubercolosi renale in fase attiva. Questo lei dichiara al dottor Falcone. Lo conferma? Lo ricorda? Sì, sì. No, non lo ricordo, però è un verbale fatto dal dottor Falcone. Lei era effettivamente malato? Ma non sono stato mai ammalato. Quindi lei ha mentito al dottor Falcone? Ma perché ho mentito il dottor Falcone? In altre occasioni ho sempre spiegato al dottor Falcone che era una finzione. No, io voglio sapere. No, 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 non ho mentito, perché il dottor Falcone si sarà dimenticato. Io parlavo di tubercolosi attiva perché questa è la cartella clinica in quel momento al carcere di Cuneo. Guardi che lei già più di una volta ha detto nel corso della sua carriera che il dottor Falcone dimenticava o sbagliava o dometteva di verbalizzare. Il dottor Falcone l'ho conosciuto anch'io. Non era persona che scriveva una cosa diversa da quella che lei avesse eventualmente detto. E non era persona facile a sbagliare. Qui è scritto in termini inequivocabili. Io ero affetto da tubercolosi renale in fase attiva. Se lei avesse detto altra cosa, il dottor Falcone, sono manoscritti da lui. Ma ero fatto scontato questo. Scontato di che? Va bene. Comunque il test ha risposto dicendo che... Va bene. La cartella clinica in quel momento parlava di tubercolosi renale in fase attiva. In quel momento. Dopo, dopo torniamo. Ma lei è stato mai malato di tubercolosi... No. No. Oh, e allora qui c'è poco da fare. La cartella clinica era falsa, siamo d'accordo? Sì. Oh, e qui non risulta però che lei abbia detto al dottor Falcone che la cartella clinica era un falso. Né risulta che abbia spiegato le ragioni al dottor Falcone in quell'occasione della sua falsità. E quindi ecco perché io dico che lei ha mentito al dottor Falcone. Il dottor Falcone le ha chiesto notizie su Gioachino Pennino, senior? Sì. E lei che cosa ha risposto? A proposito del fatto se fosse... Che lo conoscevo solo da artigia a polo. No, no, se fosse o non fosse mafioso. Lei che cosa ha risposto? Che era mafioso o no? Che non era mafioso. Che non era mafioso. Ma Gioachino Pennino era mafioso o no? Era. Era mafioso. Lei lo sapeva? Lo sapevo. Quindi anche in questo caso lei ha mentito al dottor Falcone durante la sua collaborazione. Ma c'è la ragione? No, non mi interessa la ragione. Poi gliela chiederanno eventualmente i pubblici ministeri se hanno interesse. A me interessa solo stabilire che anche in questo caso lei ha mentito al dottor Falcone. lei ha mai riferito al dottor Falcone che grazie alla sua, ormai possiamo dire, apparente malattia lei contava di essere trasferito dal carcere di Cuneo? Non ricordo. Non ricordo. Di averglielo detto o no? Neanche il 4 dicembre del 1984 alle ore 17 e 30? Ma la data non mi dice niente perché non mi ricordo. Non lo ricordo. Ma lei non si trovava bene a Cuneo? Eh no. E perché voleva essere trasferito adducendo questo pretesto di una falsa malattia? Perché i colloqui a Cuneo erano fatti attraverso il vetro, attraverso il telefono, non potevo vedere i miei bambini e baciarli. La vita a Cuneo era veramente impossibile e volevo essere trasferito. Va bene. E dove voleva essere, o sperava di essere trasferito? Eh, in un carcere qualsiasi. Normale. E in un carcere normale. Il trasferimento avvenne? No. Non avvenne. Vorremmo adesso che lei ci ripetesse, perché in realtà in parte lo ha detto, ma è necessario qualche volta riformulare le domande per riprendere il via con le successive. Vorrei che lei ripetesse chi le ha chiesto di interessarsi del sequestro per la liberazione di Moro. Siete, è stata già posta la domanda. L'ho già detto anch'io. Non è una domanda nuova. Sì, vorrei fare le prestazioni. Però la pone lo stesso. Signori, lo facciamo. Un'altra cosa. Dove sta scritto che in sede di contro... Perché questo è un esame e controesame, non si possa ripartire. Scusate, scusate. No, se no... È un problema che qui capiterà sempre e già è capitato. Ma quello che sta scritto... Abbiamo detto sempre che è bene non rifare le stesse domande. Ecco, però tutti voi e il pubblico ministero, la parte civile, i difensori partono sempre da una domanda già fatta e poi può arrivare a qualcosa di particolare. Comunque adesso il governo Coppio fa un interrogatore diretto. E poi... Vediamo dove vuole arrivare. Ecco lei. Io non voglio fare lezioni in aula, ma è tipico di questo tipo di processo che si possano rifare le stesse... Ma le può rifare la stessa parte dopo due ore per verificare quel che voi avete perfettamente capito e voglia essere verificato. Comunque è un problema, Avvocato, ci siamo posti tutti perché voi capite bene che con i testi, in questo modo, se noi facciamo tutte le stesse domande... No, questa è la prima domanda che riformulo già fatta. L'ho avvertito già io e lei vedrà che alla fine ce ne saranno poche di domande ripetute. Io ho ragione... Allora dica. Comunque io le posso benissimo dire che lei ha più volte, così soddisfacciamo subito il pubblico ministero, lei ha detto più volte quel che sapeva intorno ad interessamenti per la salvezza di Moro. Io adesso voglio sapere perché inizialmente lei ha parlato soltanto di Bossi e non ha fatto riferimento anche alla fonte mafiosa. Me ne sono dimenticato. Se ne è dimenticato? Me ne sarò dimenticato, sì. Parlando col dottor Falcone. Parlando col dottor Falcone. Quindi lei ha... Se non c'è un verbale me ne sarò dimenticato. Certo, come no. C'è il verbale del 4 dicembre del 1984 in cui lei parla soltanto di Bossi come della persona che l'avrebbe incaricata di interessarsi in qualche modo per la liberazione di Moro. E non fa accenno alcuno a questo particolare, non proprio insignificante per lei appartenente a Cosa Nostra, che addirittura il suo amico Bontate e il suo amico Inserillo l'avevano pregata ugualmente di interessarsi. Non era circostanza di poco conto, visto che il dottor Falcone si interessava di questioni di Cosa Nostra. Io vorrei sapere perché, quindi, lei non lo disse immediatamente. Non me lo spiego. Come? Non me lo so spiegare. Non se lo sa spiegare. Nel carcere di Cuneo lei ha conosciuto il maresciallo Manfra? Sì. D'accordo. Quali erano i suoi rapporti col maresciallo Manfra? Detenuto maresciallo. Come? Detenuto maresciallo. Ma il maresciallo Manfra le ha mai passato sotto banco bacilli di cocca da infilare nell'analisi delle urine per far risultare che lei era ammalato di tubercolosi? Sì. Questi sono i normali rapporti fra un detenuto e il custode? Ma non li passava a me. Io perlomeno sapevo che era il maresciallo Manfra ma non era direttamente con me. Ma erano destinati a lei? Ma erano destinati a me, sì. Allora, senta, perché al dottor Falcone il 4 dicembre dell'84 in piena collaborazione dopo aver naturalmente assunto l'obbligo, l'onere di dire la verità o aver promesso di dire la verità dice che lei lo ricorda vagamente questo maresciallo Manfra? Sì, in effetti lo ricordavo vagamente. Poi è nel cammino durante tutti gli anni. Poi concludere la risposta per cortesia. Vorrei che si lasciasse il testo e concludere la risposta, ogni risposta. Sì, sì, ma lo sta facendo. Stava dicendo, lo ricordavo vagamente perché... Lo ricordavo vagamente, ma durante tutti questi anni, 12 anni di collaborazione sono uscite tante altre cose che mi sono ricordato del maresciallo Manfra. Tanto è vero che a Padova poi, contrariamente a quel che ha detto adesso, a meno che lì non si sia espresso male, lei disse che il maresciallo Manfra mi diede il bacillo di cocche. Chi mi diede il bacillo di cocche era il maresciallo Manfra. Può darsi, ma però non c'è nessun riferimento che possa essere un altro detenuto a riceverlo. Vabbè, vabbè, d'accordo. Insomma, comunque attraverso varie mani era Manfra, però di Manfra lei si era praticamente dimenticato. Io invece le chiedo perché invece lei ha mentito al dottor Falcone dicendo che ricordava solo vagamente un personaggio di questo caso. Perché ricordavo cos'è già risposto che non lo ricordava. Aspetta, io non posso essere interrotto in continuazione in questo modo, perché se vuole, io siccome sono pazientissimo, la faccio prima io, Pubblico Ministero si oppone, Pubblico Ministero dice, e così andiamo avanti. Insomma, io mi pare che ieri con molto rispetto sono stato ad ascoltare tutte le domande del Pubblico Ministero. Non mi pare che ci siano queste ragioni di opposizione e queste ragioni di interruzione, a meno che non siano delle pause che si vogliono far prendere al testimone finché prenda fiato. No, senza altro. Ma se è così, lo facciamo ricordare. Professore, rassicuro che ho molto rispetto anch'io per lei. Sono posizioni che faccio rispettosamente. Non c'è una domanda che io riesco a fare senza che lei... Il rispetto è reciproco. Scusi, Avvocato Coppone. L'unica cosa, ecco, facciamo finire il test che molte volte parla lentamente e poi farò la domanda successiva. Prego. La domanda successiva è questa. Per abbreviare i tempi ci vuol dire se lei poi anche altre volte ha mentito al dottor Falcone nel corso dei suoi interrogatori. Ricorda se ha mentito anche altre volte, oltre a queste che io a titolo di esemplificazione... Non ricordo. Non lo ricordo. Ma ricorda però di recente di aver ammesso di aver mentito anche altre volte al dottor Falcone. Per esempio a Padova, il 9 gennaio interrogato, lei alla fine ha detto che altre volte ha avuto necessità o ha ritenuto di dover mentire al dottor Falcone? Conferma le dichiarazioni che ha reso a Padova? Certo, ma tutto il contenuto però. Chi ha detto niente? È allegato al dottor Falcone? Sia tranquilli. È allegato al fascicolo del... No, intendo dire tutto il contenuto, il perché aveva mentito al dottor Falcone. Poi quello sarà curiosità di altre parti. A me interessa solo stabilire che anche durante la sua collaborazione lei ogni tanto si prendeva qualche licenza. Lei ovviamente conferma che Bossi lo pregò di attivarsi per vedere di salvare l'onorevole Moro attraverso contatti con le Brigate Roste e lei ha detto che avrebbe dovuto perciò cambiare carcere. Qui siamo in una prospettiva diversa da quella di prima. Non le chiedo il trasferimento per ragioni di salute. Adesso parliamo del trasferimento del carcere che sarebbe stato necessario per consentirle di prendere contatti con brigatisti secondo quanto sollecitato da Bossi. Ecco, io voglio sapere qual era il carcere che lei riteneva il più adatto per prendere questi contatti. Torino. Torino era anche un carcere adeguato rispetto alle sue necessità di salute? Era centro clinico. Era un centro clinico. Anche in questo caso però il trasferimento non avvenne? Non avvenne. Lei ha espresso, ricorda di aver espresso, non dico che il fatto sia avvenuto, io voglio sapere, lei ricorda di aver espresso al dottor Falcone la sua convinzione che ad opporsi a questo trasferimento fosse il generale dalla Chiesa? Non ho ricordo di questo. Non ho mai saputo con precisione chi si opponesse al mio trasferimento. So però che in quel periodo si occupava della sicurezza delle carceri il generale Calvo Alberto dalla Chiesa. Mi sembra evidente dunque che il divieto al mio trasferimento non poteva che provenire dal suo ambiente. Conferma questa dichiarazione, la ricorda adesso che gliel'ho letta? Certo. Quindi è una contestazione e quindi si acquisisce il verbale. È una contestazione ma in realtà non c'era contrasto con quello che ha detto prima. Ha detto che lui abbia saputo positivamente che fosse il generale della Chiesa, non l'ha detto. Lui è una sua deduzione. Ma è una deduzione? Ma infatti la domanda era se lui aveva fatto questo ragionamento al dottor Falcone. Poi è chiaro che non interessa se è vero o non è vero che dalla Chiesa... Io voglio sapere se è vero che lui espresse questa sua convinzione alla generale della Chiesa. Per di più ha spiegato anche la ragione. Dalla Chiesa era colui che era preposto alla sicurezza... ...è una deduzione. D'altra parte qui di deduzione. Sua moglie... posso proseguire Presidente? Sua moglie. Le ha mai detto che era stato il generale della Chiesa o che comunque lei riteneva che fosse stato il generale della Chiesa ad opporsi al suo trasferimento? Non ricordo. Ma se lo avrà fatto, lo ha fatto per deduzione. Lei l'ha dichiarato? Mia moglie poteva farlo per deduzione sua. Guardi, ma insomma, certo, è incredibile come lei si dimentichi così rapidamente le cose. Perché questa domanda l'è stata fatta pochi mesi fa a Padova, il 9 gennaio. E lei dice questo. Comunque mi fa detto chiaramente da mia moglie che chi si era opposto al mio trasferimento era stato il generale della Chiesa. Lei poi ha aggiunto e mi dispiace fare queste dichiarazioni, data la sua nota a Cavalleria, perché non vorrei far entrare donne. Però lei questo lo ha detto. L'ho detto, sì. Ma non me ne ricordavo. E le risulta da dove sua moglie avesse tratto le fonti della sua convenzione? Ma forse parlandone con Bossi, la Milano, non certamente perché conoscessi... Le dispiace declinare le generalità di sua moglie di cui chiediamo fin da questo momento la citazione ai sensi dell'articolo 195 del Codice di Procedura Penale? Maria Cristina di Almeria Gimmarais. E dove la possiamo reperire? Per citarla? O lo dobbiamo chiedere, lo chiederemo attraverso il servizio protezione? Esatto. Lei ha detto di aver parlato con Bossi, ovviamente, per avere questi discorsi relativi al caso Mor, no? Sì. Lei ha parlato direttamente con Bossi? Sì. Quando lei ha parlato con Bossi, lei, signor Buscetta, era libero o era detenuto? Detenuto. Qual era il titolo, il modo attraverso il quale Bossi, che non avrebbe avuto alcun titolo per parlare con lei, se non erro, visto che non era un legale, non era comunque il suo legale, ha potuto parlare con lei in un carcere? Beh, questo bisogna chiederlo a Bossi, non lo so, ma lui è entrato. Però, ecco, lui è entrato. Quindi, quando lei ha avuto questo colloquio con Bossi, Bossi era libero o era detenuto? In un primo tempo era libero. Poi detenuto. Poi detenuto. Ricorda, più o meno, se vi fu un solo colloquio con Bossi libero, se vi furono più colloqui con Bossi mentre Bossi era libero? No, più di un colloquio, non ricordi il numero, da libero. Da libero. Naturalmente, la domanda è ovvia, non la faccio sorridere, ma questi colloqui evidentemente avvennero dopo che l'onorevole Mor era stato sequestrato, questo è ovvio. E può darsi che qualcuno sia stato anche prima? Prima del sequestro lei è stato invitato ad attivarsi per la liberazione di Moro, signor Buscetta. Non credi, non credi, vada a casa. Può darsi che lui sia venuto non per me, ma sia venuto per Turatello e io in quell'occasione forse lei avrò chiesto se si poteva attivare per un mio trasferimento da carcere. Quindi, allora, cominciamo a distinguere, abbiamo dei colloqui con Bossi, avremmo, forse, avremmo dei colloqui con Bossi che riguarderebbero esclusivamente il problema del suo trasferimento. Poi, dopo il sequestro dell'onorevole Moro, abbiamo anche dei discorsi che invece riguardano l'onorevole Moro. Siamo d'accordo? È così? Sì. Perfetto. Si ricorda quanti giorni dopo il sequestro Moro incominciarono, all'incirca evidentemente, incominciarono questi colloqui? Non mi ricordo. Non lo ricordo. Fu a causa di questo mancato trasferimento che lei non poteva avere contatti in favore di Moro? Sì. Per ottenere il trasferimento, lei non poteva dire, lo ha già detto, che si doveva trasferire per trattare la liberazione di Moro. Quale fu la ragione che lei addusse per sollecitare un trasferimento da Cuneo, dove si trovava a Torino? Era sempre per la malattia di DBC. Quindi lei ha fatto un'istanza formale di trasferimento denunciando questa malattia che lei avrebbe avuto, d'accordo? Sì. Lei fece una sola istanza formale di trasferimento? Ne ha fatta più di una, se lo ricorda? No. Non lo ricordo. Lei ricorda se si fece visitare comunque per inscenare questa falsa malattia e nel caso positivo si ricorda da chi sarebbe stato visitato? Non ho ricordi precisi, ma io sono stato fuori, il carcere di Cuneo, in un ospedale di Cuneo. No, non mi ricordo. Non lo ricordo. Lei, dopo la morte dell'onorevole Moro, dopo l'assassinio dell'onorevole Moro, ha fatto altre istanze di trasferimento? Credo di sì. Credo di sì. Ricorda quante? No. Non lo ricordo. Veniamo adesso all'interessamento del signor Calò, che lei assume essere membro di Cosa Nostra, per il suo trasferimento. Le risulta che Calò si sia interessato per il suo trasferimento da Cuneo? No. Lei sa, e le faccio questa contestazione perché la circostanza è già legata agli atti, trattandosi di dichiarazione che è stata resa in una rogatoria da Marino Mannoia. Lei sa che Marino Mannoia, invece, afferma il contrario, e cioè che Calò si sarebbe interessato per il suo trasferimento? Lo sa o non lo sa? Io non lo so. Non lo sa. E adesso che io le dico che invece Mannoia afferma che Calò si interessò per il suo trasferimento, lei continua a confermare che Calò non si sarebbe interessato per lei? Che io sappia, no? Che lei sappia. Per quali reati era detenuto a Cuneo? Per associazione a Dalinguer e per traffico di droga. Era in stato di custodia cautelare o era in stato di espiazione di pena? No, in espiazione di pena. Senta, io qui devo aprire una parentesi. Ci può dire, per cortesia, per quali reati lei è stato condannato nella sua vita, le pene riportate, quanti anni ha trascorso in carcere, in quali periodi e quanti anni ha trascorso in carcere dopo l'inizio della sua collaborazione? Possiamo andare con ordine. Intanto ci vuol dire per quali reati è stato condannato nel corso della sua carriera di uomo di Cosa Nostra? Sono stato condannato tre volte per associazione a Dalinguer. Sono stato condannato per traffico di droga. Sono stato condannato per contrabbando di sigarette, multa per contrabbando di sigarette. Basta. Queste sono le condanne riportate. Ha subito anche altri procedimenti, oltre a questi conclusisi negativamente per lei? No. Quindi lei è sempre stato condannato e basta? Sì. Quanti anni ha trascorso in carcere, complessivamente? Nove anni, otto anni e mezzo, nove anni. Non ho il conto esatto. Sì, ma io non le sto chiedendo il conto al giorno, così, approssimativamente. Qual è stato il periodo di detenzione continuativa più lunga che lei ha patito e dove l'ha trascorsa? L'ho trascorso a Palermo dal dicembre 72 1980, agli inizi del 1980. E dopo la... E parte l'ho trascorso a Palermo e parte... Quando lei è stato estradato dal Brasile, per quali reati era stato estradato? Era stato estradato per un... Per l'associazione delinguere. Era stato già condannato o si doveva celebrare il processo? No, no, no. Si doveva celebrare il processo. Quindi lei è stato estradato in Italia perché era imputato in un procedimento che doveva essere ancora celebrato per l'associazione per delinquere. E per il contrabbando di droga. E per il contrabbando di droga. Per questi reati è stato poi processato? Sì. Ed è stato condannato? Sì, no. Per il contrabbando di droga no. Per l'associazione per delinquere? Sì. A che pena? Tre anni e mezzo più un anno di casa di lavoro. Questa condanna è avvenuta dopo che era iniziata la sua collaborazione? Sì. L'ha scontata tutta? Sì. Vorrei ritornare un istante al sequestro Moro. Lei ha già accennato alle ragioni per le quali lei personalmente ha ritenuto di doversi attivare per la liberazione dell'onorevole Moro. E ha parlato di ragioni umanitarie. Tra queste ragioni entrava però anche la prospettiva di poter mutare carcere? E quindi oltre a questa finalità umanitaria ha anche una finalità niente di male, ma anche sua personale? Sì. Adesso vorrei conoscere da lei le ragioni per le quali la mafia era favorevole, e se tutta la mafia era favorevole, alla liberazione dell'onorevole Moro. Perché la mafia era favorevole? Eh, non lo so. Non ne ho parlato con nessuno. In quel momento mi si chiese di fare questo per ragioni umanitarie e lo facevo. E poi io credo di aver spiegato ieri tutta la mafia, perché chi non pensava e chi non pensava. D'accordo, io però voglio sapere le ragioni. Se lei è in grado di dirmene, bene, se no pazienza. Quindi mi dice che lei però, al di là di questo generico riferimento a ragioni umanitarie, non è in grado di dire altro. Quindi non c'entravano motivazioni politiche in questo interessamento che le proveniva da una parte della mafia per la liberazione dell'onorevole Moro. Era solo un fatto umanitario. Le ragioni politiche io non le conosco, se ci sono. Ma ragioni umanitarie sì. Se ci sono vuol dire che lei non lo sa, e allora lei deve dire che non lo sa. Non lo so. Ma infatti non lo so. Quindi a lei risulta. No, ma è inutile dire se ci sono. Perché non lo sa e quindi è inutile fare questi incisi che poi generano confusioni. Ma ieri anche su questo punto ha detto, no? Adesso le ragioni, beh, le ragioni adesso per le quali invece Totò Rina e Michele Greco erano contrari, non provavano senso d'umanità? Non erano contrari. Eh? Lo abbiamo chiarito e non erano contrari. Rilevo, scusi, signor Buscetta, che le domande vengono poste in un modo suggestivo. In questo caso hanno una rilevanza, non è soltanto un'eccezione di carattere formale. Io credo che anche, senza voler ricordare esplicitamente quello che ha detto il signor Buscetta ieri, che ha parlato di attivazione e non tanto di liberazione, sarebbe corretto porre la domanda all'assenso. La mafia era favorevole o no? Senza dare per scontato che fosse. No, prima è stato fatto così, perché i ricorleonesi erano contrari o no? Chiedere prima in maniera non suggestiva che cosa... Ma è la prima domanda che ha fatto l'Avvocato Coppi? Eh no, cos'è, se no non avrei avuto motivo di farlo tutto. A parte il fatto che... La seconda poi ha precisato questo, ma la prima domanda era proprio quella lì. La mafia è perché la mafia era favorevole. Allora, allora ne facciamo... Tottorina e mi credo, erano favorevoli o contrari alla liberazione mora? Non erano né favorevole né contrari. Volevano estranearsi dalla decisione. No, no. Ecco. Perché lei in un precedente interrogatorio ha diviso la mafia in due parti. La mafia che faceva capo a Stefano Bontate voleva attivarsi per la liberazione di Moro, mentre l'altra parte che faceva capo a Tottorina e Michele Greco era contraria. Qual è il precedente interrogatorio? Presidente, a prescindere dall'individuazione dell'interrogatorio, non c'è contrasto, perché era contraria all'attivazione, sta dicendo. Ed è esattamente la stessa cosa che sta dicendo stamattina, per la seconda o terza volta, il test è buscato. Scusate, il test è ieri a questa domanda risposta dicendo che quelle persone, indicate dall'Avvocato Coppi, che sarebbero contrarie, dissero che non volevano interessarsi di politica. Così io ricordo la risposta del testimone. E da questo risulta l'utilità di riproporre qualche volta la stessa domanda? Certamente. Questa mattina invece ha detto che non è vero che erano contrari. E allora, siccome è il mio turno di fare le contestazioni... No, no, un momento. Ha detto che non è vero che erano contrari alla liberazione. No, scusami. Perché qui gli si fa dire una cosa che non ha detto né in quel interrogatorio né stamattina. Ha detto che erano contrari ad attivarsi per la liberazione. Non gli dobbiamo far dire che erano contrari alla liberazione. Ma la Corte ha capito? La Corte ha capito, prego. Io vorrei sapere, a parte il fatto che mi piacerebbe che quando mi si dice che è sbaglio nella lettura di un verbale si avesse sotto gli occhi quel verbale, vorrei capire dalla sottigliezza dell'Avvocato di parte civile e dei miei contradditori la differenza che corre tra essere contrari all'attivazione per la liberazione ed essere contrari alla liberazione. È una domanda che mi fai? Devo rispondere? No. Perché a me sembra evidente la differenza. Non facciamo. Andiamo avanti dentro il ragazzo. Ci abbiamo altre cose? E allora vorrei sapere le ragioni per le quali... Conosci le ragioni per le quali queste persone non volevano occuparsi? E mi pare che erano contrari. Non volevano occuparsi. Conosci le ragioni per cui non volevano occuparsi? No. Come ho detto ieri, ma ecco, è una cosa che non ha nessun significato e non ci interessano queste cose di politica, perché attivarci di... quindi non c'è una ragione. Io non la conosco. D'accordo. Senta, Bontate, lei ha già detto che l'aveva interessata per questa liberazione e che poi lei ebbe un contatto successivamente con Bontate, quando fu libero, ed ebbe modo di riparlare di questa vicenda, ricevendo da Bontate quella risposta che le ha già detto. Ma Bontate le disse in maniera esplicita chi lo avesse sollecitato, o se era invece un'idea sua, per la liberazione di Moro, ad attivarsi per la liberazione di Moro? No. Non glielo ha detto. Senta. Ma lei ricorda di aver detto invece che il Bontate le aveva dichiarato di essersi mosso a seguito invece della sollecitazione di uomini politici? Può darsi, Presidente, se è una contestazione quella che fosse indicata agli estremi del verbale. Oh, madonna mia, ma io il mestiere... Ma sta facendo? Ma sta facendo? Ma non è possibile andare avanti in questo modo. Ma abbia un istante di pazienza, abbia un istante di pazienza, anche perché l'indicazione del verbale si può fare all'inizio e si può fare alla fine. Comunque, per sua soddisfazione, 20 novembre del 92, lei ha detto che i referenti politici di Stefano Bontate erano sia a livello regionale che nazionale, indica i referenti, ci mette Salvo Lima e Rosario Nicoletti, i predetti si interessarono con Bontate della liberazione di Moro. Va bene così? È una contestazione questa o no? Si ricorda questo fatto? Sì, mi ricordo. E lo conferma? Sì, e adesso lo conferma. Lei vuol produrre il verbale? E adesso lo conferma. Il verbale questo non è in attimo? No, no. Le risulta chi poi diede incarico diretto ed immediato a bontate di attivarsi per la liberazione di Moro? Di Moro? Le risulta? A lei. Che cosa? E' stato a dare questo incarico in via diretta ed immediata a Bontate di attivarsi per la liberazione di Moro? No, no. Non mi risulta. Lei, rispondendo a delle domande che le venivano rivolte dal pubblico ministero di Parermo il 6 aprile del 1993 negli Stati Uniti, ha dato invece una risposta a questa domanda? Non mi ricordo. No, non mi ricordo. Non si ricorda. Certo è che a chiedere a Bontate Stefano di interessarsi al caso Moro non potevano essere stati altri che i salvo. e quindi Giulio Andreotti. Questa viene presentata nel verbale come certo è, non potevano che essere stati. Qui ha chiesto il professore se sa chi gli ha dato l'incarico. La domanda è questa qui. Certo è, certo è. Poi vediamo perché è certo. Poi vediamo perché è certo che sono i salvo e poi vediamo perché è certo che quindi è Giulio Andreotti. Mi vuole rispondere? Intanto ci dica, senta, se ha reso quelle dichiarazioni. Sono fermate i miei, sì. Allora adesso mi spiega perché lei dice certo è che a chiedere a Bontate non potevano essere stati altro che i salvo. Lo deduce semplicemente dai rapporti di amicizia tra i salvo e Bontate o lei ha altri elementi di conoscenza? No, perché lo deduco per il rapporto che c'è in salvo con Bontate. Quindi è una deduzione di seconda mano o se vuole una seconda deduzione, una ulteriore deduzione che poi ai salvo lo avrebbe chiesto Giulio Andreotti? Sì. Benissimo. Quindi deduzioni, sono sue deduzioni tratte dalla convinzione di questa amicizia tra i salvo e Bontate. Siamo d'accordo? D'accordo. Perfetto. Quindi lei esclude che glielo abbia detto Bontate? Eh, non me lo ricordo più, sono passati tanti anni, come faccio a ricordarlo? Eh, non me lo ricordo. Se è una congettura evidentemente non può che escluderlo, mi pare, no? Eh, non me lo ricordo. Bravo. Veniamo adesso al fronte salvo su questo versante, peraltro. I salvo, con i quali abbiamo visto lei si è intrattenuto parecchio, per pochi mesi, parecchio ma per pochi mesi, le hanno mai detto di aver ricevuto in carico dall'onorevole Andreotti di sollecitare Bontate affinché si attivasse per la salvezza di Moro? No. Mai detto. Durante il periodo del sequestro Moro, lei è stato mai detenuto a Lucciardone? No. Esclude di essere stato detenuto a Lucciardone e di aver ricevuto in quell'occasione la visita di Teresi e di Giovanni Bontate? In quell'occasione del sequestro Moro, no. Lo escludo. Perché a me sembrava che in questo solito verbale del 20 novembre del 92 lei abbia detto cosa contraria, cioè abbia detto che proprio durante quel periodo lei è stato detenuto anche a Lucciardone e che lì si incontrò con Bontate e con Teresi. E' impossibile che abbia dichiarato questo perché non era. D'accordo. Le risulta che però questo sia stato detto invece da Mannoia, sempre nel famoso atto di cui abbiamo parlato prima? Ci sono cose che mi risultano di averle dette Mannoia perché alcune volte i magistrati mi hanno anche letto verbale di Mannoia. Quindi in questo caso Mannoia ha detto cose, non voglio dire consapevolmente false, cose comunque che secondo lei non corrispondono al vero. C'è qualche cosa che non sono d'accordo con quello che dice Mannoia. Non è che se sei d'accordo. Se lei stava a Lucciardone o non ci stava lo sa benissimo. No, 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 non ci stavo. Io non ci stavo a Lucciardone. Se Mannoia dice che invece lei era a Lucciardone e riceveva queste visite... Allora quindi non l'ho dichiarato io che ero a Lucciardone. Certo, le sto dicendo. Se Mannoia ha dichiarato queste cose, ha dichiarato cose non vere. Non usiamo l'aggettivo false, ma certamente è una cosa non vera. Io in quell'epoca, anche perché i trasferimenti carcerari si possono leggere quando si vogliono, io non ero a Lucciardone durante il sequestro Moro. Lei ha già risposto alla domanda che a Roma Ciaschedun, uomo d'onore, era svincolato dalla sua famiglia d'appartenenza e che poteva quindi muoversi liberamente senza necessità di fare riferimento al capo Decina o al suo capo famiglia, d'accordo? Sì, d'accordo. Questa era una regola di Cosa Nostra? Sì. Però su questa regola Mannoia dice una cosa anche qui completamente diversa, perché Mannoia invece dice che anche fuori zona e quindi anche a Roma, se si voleva fare qualche cosa, bisognava sempre fare riferimento al capo Decina o al capo famiglia. Questa è una regola di Cosa Nostra e quindi bisogna... Ma lei vuol sapere se lui sa che Mannoia ha detto? No, io gli dico che Mannoia ha detto e che sull'esistenza di questa regola, quel che lui dice è in contrasto con quello che già sappiamo, provenire da altra fonte di prova. Quindi può darsi che adesso, sentendo quel che ha detto Mannoia, si accorga di aver detto una cosa non esatta, oppure insiste in questa sua dichiarazione, si tratterà poi di vedere se questa regola esiste, come esiste, se dice la verità Mannoia o la dice il signor Buscetta. Anzitutto non abbiamo regole scritte e quindi ognuno può dare un'interpretazione molto diversa dagli altri, però io insisto nel dire che il paragone non regge, perché non posso pensare il mio rappresentante Giuseppe Calò che per fare una cosa si reghi da Cosentino per domandargli il permesso. Quindi non esiste questo. Stiamo parlando soltanto di una regola e prendiamo atto che le regole non sono scritte e che ognuno ne può dare un'interpretazione diversa. Questo vale naturalmente per tutte le regole, non credo solo per questa, no? Tutte le regole sono non scritte e rispetto ad ogni regola, quindi ognuno poi può dare una lettura un po' personale. Le risulta se Lima fosse favorevole o contrario alla liberazione di Moro? No, non mi risulta, non lo so. Le risulta se Rosario Nicoletti era favorevole o contrario alla liberazione di Moro? No. E allora perché lei, appunto parlando dei referenti politici e contestazione che l'ho già fatto prima, sempre 29 novembre, perché lei ha detto che i referenti politici erano questi signori, tra questi referenti vi erano Lima e Nicoletti, i predetti si interessarono con bontate della liberazione di Moro. Se si sono interessati per la liberazione, lei avrebbe dovuto dirmi che Lima era favorevole e non che non lo sa, che Rosario Nicoletti era favorevole e non che lei non lo sa. Altrimenti mi spieghi perché lei ha ritenuto di poter fare quell'affermazione così perentoria, e cioè che questi referenti politici si attivarono presso bontate perché bontate si attivasse. Se lo può leggere nuovamente attentamente, lo gradirei, come si attivarono i referenti politici nei confronti di bontate. No, 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 e questo lei non l'ha detto, lei ha detto soltanto questo, guarda. Allora non ho capito niente. I referenti politici di Stefano Bontate erano sia a livello regionale che nazionale, tra tali referenti vi erano Salvo Lima e Rosario Nicoletti. I predetti si interessarono con bontate della liberazione di Moro, così come con bontate si attivarono altri personaggi politici nazionali. Vuol sapere chi gliel'ha detto? Ciò mi viene detto direttamente da Stefano Bontate nel 1980. E lo confermo. Quindi Bontate le disse che Lima... Ma come mai su ogni cosa sono costretto a farle in continuazione delle contestazioni per ottenere poi le conferme? Senta, lei è a conoscenza e le è stato contestato quanto invece è stato dichiarato da Mannoia intorno al sequestro Moro? Non lo ricordo, ma è possibile. È possibile. Con riferimento a quello che Mannoia ha detto, lei ha affermato che non tutto quello, sostanzialmente gran parte di quello che Mannoia ha detto, era vero. Ma non tutto quello detto da Mannoia non era vero. Si ricorda che cosa, secondo lei, non era vero in ciò che Mannoia aveva detto? No. Non lo ricordo. Però, in un altro verbale, lei lo si ricordava, ma non ha importanza. Prendiamo atto che lei adesso non si ricorda di questo. Quando è stato interrogato dal Pubblico Ministero, prima del 1993, ricorda di non aver voluto fare altri nomi oltre quelli di Lima e di Nicoletti? Quando? Prima. Prima del 93, ed è con il 93 che lei fa questo fatidico nome, no? Quindi, diciamo, prima di fare il nome del senatore Andreotti, lei ricorda che i massimi livelli della politica a cui aveva fatto cenno esplicitamente erano Nicoletti e Lima? Ma io non capisco la domanda. Quando prima del 93? Dal 1984 al 1993. Ma ci sono stati tanti interrogatori, quindi io volevo sapere quando io ho parlato dell'onorevole Andreotti. No, non ha capito. Allora non ho capito, sì. Io voglio dire, prima del 1993, lei ricorda di non aver voluto fare il nome di altri politici oltre Lima e Nicoletti. L'ho appena letto la frase nella quale lei dice di altri politici, mi riservo. Mi riservo. Ora, Lima era però un personaggio politico di un certo calibro. Come mai nel fare il nome di Lima, nel fare il nome di Nicoletti, lei non ha avuto quelle preoccupazioni, sia pure facendo le debite e proporzioni fra i personali? Io quando ho fatto le dichiarazioni su Lima, quando ho fatto le prime dichiarazioni sull'onorevole Lima... E lo chiede a me? Lei lo dovrebbe sapere? No, no, io non mi ricordo, ma come data non mi ricordo, so di averlo fatto, ma è sicuramente subito dopo la morte del giugno di Falcone. 20 novembre del 1992? Esatto. Però lei di Lima aveva già parlato anche prima? No. Lei soltanto allora parla di Lima? Io parlo di Lima e ne parlo senza mai citare il nome. Come? Ricordo di averne parlato con il giudice Falcone, il giudice Falcone me lo diceva lui a me, e io dicevo... I referenti politici di Stefano Bontate erano sia a livello regionale che nazionale, Lima... Ma in che epoca? 20 novembre del 1992. Esatto. Non prima. Come? Non prima... Ma lo ha fatto solo quella volta lì, questa è la prima volta in cui lei parla di queste persone. Sì. Parla di queste persone perché ormai aveva deciso di rompere la sua reticenza sui rapporti tra mafia e politica? Sì. E perché allora si è fermato a questi nomi? Perché volevo approfondirlo meglio l'argomento. E in quell'interrogatorio è avvenuto di venerdì... Andavano di fretta i giudici? E andavano di fretta i poliziotti, non i giudici, i poliziotti americani. E quindi? E quindi è rimasto là. Si trattava di impiegare un secondo per fare un altro nome? No, no. Non volevano saperne. E comunque, insomma, la ragione di questa fretta è che i poliziotti americani andavano... Era più venerdì ed erano le 15.30 e per loro già era finito il suo orario di lavoro. Sì. A parte il fatto che l'interrogatorio è avvenuto a Roma di fronte ai dottori De Fichy, Ionta e Nitto Francesco Palma. Sì, ma allora io la prego, avvocato, cite verbale perché io sto parlando di un verbale fatto invece a Washington. Io sto parlando di un interrogatorio che non sembra... Lei mi stava parlando la prima volta che ho parlato di Lima. No. E la prima volta che parlo di Lima è a Washington. Avvocato, per favore. Io le sto parlando... Questa è la sua risposta. Io le sto parlando di un interrogatorio reso il 20 novembre del 92 alle ore 15.45 di fronte ai magistrati che non denunciano nessuna fretta e in questo interrogatorio lei fa i nomi di questi politici. Poi controlleremo quando l'ha fatto per la prima volta. Invece l'ho fatto prima. Ma per esempio in questo interrogatorio lei fa i nomi di questi politici. Perché si ferma lì? Eh, non lo so, non mi ricordo perché mi sono fermato lì. Allora questo va un po' meglio. Però lei al 20 novembre del 92 già sapeva che avrebbe potuto fare i nomi di altri politici. Ma l'ho già fatto prima, avvocato. E lo ripeto ancora una volta. L'ho fatto a Washington. Poi parleremo, ci abbiamo tempo, poi parleremo di Martin. La domanda è diversa, cioè, siete l'avvocato. Lei nel 92 aveva la possibilità di conoscere e di sapere quali altri uomini politici. Perché non ne ha fatti i nomi, questo vuol sapere l'avvocato. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Però lei già aveva fatto sapere che c'erano anche altri politici. Quando lei fece presente che c'erano altri politici e che non voleva fare il nome di questi politici in qualche misura coinvolti con Cosa Nostra, sia pure nell'interesse dell'onorevole Moro, eccetera, lei si rese conto che poteva commettere il delitto di favoreggiamento? Facendo che cosa? Facendo quel che sapeva circa rapporti tra uomini politici e Cosa Nostra. Sì. Qualche uno dei magistrati che procedeva le fece presente che lei avrebbe potuto incappare nella commissione di qualche reato? No, che io ricordo nessun magistrato. Mi ha mai detto simile cose. Quindi era sufficiente che lei dicesse che su un argomento non intendeva parlare perché di quell'argomento non si parlasse? Sì. Perfetto. Cambiamo per il momento argomento. Badalamenti le disse che dalla Chiesa era stato mandato in Sicilia, era stato promosso per levarselo di torno. Le disse più esplicitamente che dalla Chiesa era stato mandato in Sicilia per farlo uccidere? Detto fra me e lui, sì. Cioè nel linguaggio nostro, sì. Quindi era stato mandato volutamente in Sicilia perché venisse ammazzato. Secondo il suo punto di vista. Secondo il punto di vista di Badalamenti. Lei, c'è una frase nelle sue dichiarazioni che vorrei che lei mi aiutasse a chiarire. E sono dichiarazioni che lei ha reso a Palermo il 6 aprile del 1993. Lei ricorda di aver creato, di aver rappresentato in sede di interrogatorio al pubblico ministero un parallelismo tra la promozione del dottor Dallachiesa e la promozione del dottor Falcone? E comunque il trasferimento del dottor Falcone da Palermo a Roma? Il 6 aprile. Il 6 aprile del? 93. A Palermo. Il pubblico ministero è quello di Palermo. Lei rende le sue dichiarazioni, lo sa bene, il 6 aprile del 93 in America. Però è il pubblico ministero di Palermo che procede. Sì, ma se l'avrò detto sarà stata una mia valutazione. Questa circostanza viene chiesta direttamente in forma di contestazione sul punto dove bisognerebbe, credo, al giudizio del PM fare la domanda diretta prima, se c'è questo parallelismo secondo lui e su che cosa lo fonda. Dopodiché se c'è di fornità non si può saltare alla contestazione direttamente senza fare la domanda. Ma non c'è nessuna contestazione. Io gli chiedo se ricorda di aver costruito un certo parallelismo tra promozione e morte di Dalla Chiesa e trasferimento del dottor Falcone da Palermo a Roma. Se se lo ricorda. Non me lo ricordo se l'ho fatto. Lei ha dichiarato così. Incidentalmente osservo che considerazioni analoghe a quelle ora svolte sull'omicidio dalla Chiesa, le considerazioni sono quelle di Badalamenti, lo hanno mandato a Palermo per sbarazzarsene di lui, non aveva ancora fatto niente, eccetera, eccetera. Incidentalmente osservo che considerazioni analoghe a quelle ora svolte sull'omicidio dalla Chiesa si potrebbero fare con riferimento all'omicidio Falcone, nel senso che sotto gli occhi di tutti c'è stato ucciso perché il maxiprocesso non era andato bene per cosa nostra, ma potrebbe esserci sotto un'altra ragione che va vista. Non è che sia proprio un discorso chiarissimo. Se quindi lei, ora se lo ricordo, dopo che glielo ho contestato, è in grado di spiegarcelo, di spiegare chi ha voluto la promozione e il trasferimento di Falcone perché venisse ucciso, se questa è l'interpretazione che dobbiamo dare di questo suo passo, qual è l'altra ragione che dovrebbe essere vista, chi va imputata a quest'altra ragione, io le sarei grazie. Mi spiace, devo pormi anche a questa domanda perché è chiaro dal tenore del passo letto, in particolare dal riferimento, dall'inciso, è sotto gli occhi di tutti. È chiaro che sta facendo delle analisi sulla base di fatti notori, quindi il tutto è nel suo insieme irrilevante. Io non ho capito perché il pubblico ministero che procedeva queste domande le poteva fare e le poteva mettere a verbale. Adesso che di fronte a tutta l'Italia abbiamo l'interesse di chiarire qualche cosa, questo invece non è più ammissibile. Rispondo alla domanda. Ha capito qual è? Prima lei ha detto che non ricordava di aver fatto un certo parallelismo, adesso l'avvocato le ha letto il verbale. Ecco, cosa voleva dire quando dopo aver parlato della Chiesa ha parlato anche di Falcone? Cosa voleva dire? Voleva fare un parallelo oppure era una sua deduzione? Ma è una mia deduzione perché io non ho argomenti che possa avallare tutta questa tese. Benissimo. Le parole sono e nascono dai ragionamenti che si svolge fra l'imputato e il giudice e si possono fare delle valutazioni che poi si possono concludere in due parole. Le valutazioni saranno stati l'ambiente che c'era alla procura di Palermo negli anni, nella fine degli anni Ottanta e quindi... Quindi Falcone fu mandato a Roma per farla mangiare? No. Falcone fu mandato a Roma. Punto e basta. Ma questo... Beh, questo non c'era bisogno di dedurlo, questo lo sapevamo. Ecco. Allora perché me lo fa dire? No, invece qui lei svolge delle deduzioni o delle congetture. Io volevo sapere se sono soltanto, come lei ha appunto detto e come io pensavo, delle sue deduzioni rispettabilissime come tutte, ma semplicemente deduzioni o se lei aveva qualche cosa in più che costentisse di individuare quella ragione che andava vista tra virgolette. Ma la deduzione è scritta già nel verbale. Ha risposto a questo. Ha risposto a questo. Certo, questo è solo per dare soddisfazione alla domanda che lei a sua volta faceva a me. Lei dà badalamenti con i quali avete appunto parlato di questo trasferimento di Dalla Chiesa. Seppe o seppe comunque altrimenti chi voleva la morte di Dalla Chiesa? No. Senta, le risulta tanto per andare alle spicce che il senatore Andreotti abbia dato ordine a Cosa Nostra di far fuori il generale Dalla Chiesa? Per l'amore di Dio, no. E non l'ho mai detto. Lo poteva dire oggi. Ah, sì. Senta, la Sicilia Spero che i miei contraddittori mi passeranno questa domanda che comunque poi deve essere valutata dal Presidente ma sempre per chiarire il senso del suo discorso specialmente con riferimento a quel modo siciliano di comunicare che lei ha descritto in maniera così convincente ieri la Sicilia nel discorso che le fece badalamenti con riferimento all'omicidio del generale Dalla Chiesa le disse lo hanno mandato in Sicilia era soltanto un luogo geografico che più si prestava da guattio d'uccisione o era il luogo politico da cui doveva scaturire la motivazione dell'uccisione del generale Dalla Chiesa per quel che lei ha capito di questo discorso per quello che ne ho capito in quell'epoca con badalamenti era perché in Sicilia era più facile più facile fare fuori il generale Dalla Chiesa il badalamenti le disse lo abbiamo sentito ieri lo ha dichiarato lei anche ieri lo ha dichiarato a Padova le disse che Calò aveva operato per la sua espulsione da Cosa Nostra ho capito bene tralascio tutte le domande che le sono state già fatte vorrei soltanto sapere con maggiore chiarezza perché ieri nell'accavallarsi di domande e risposte mi pare lei abbia risposto ma non vorrei sbagliare quindi vorrei comunque una conferma di tutto ciò la persona che veniva espulsa da Cosa Nostra veniva avvertita della espulsione o della sospensione sì veniva avvertita quindi soltanto lei in questo caso se espulso non sarebbe stato avvertito perché lei se ho ben capito non è stato mai avvertito di essere stato espulso da Cosa Nostra esatto abbiamo anche appreso che Calò invece lei lo avrebbe interrogato su questo punto poi se la vedrà lei con Calò ma insomma Calò invece ha una sua domanda se fosse vero che era stato espulso da Cosa Nostra lei avrebbe risposto che non era vero d'accordo? d'accordo quindi uno dei due ha mentito uno dei due ha mentito logico è logico e ha mentito proprio su una di quelle cose sulle quali non si sarebbe mai dovuto mentire da parte di un uomo di Cosa Nostra perché qui riguardava addirittura la posizione di un soldato mi consenta l'espressione eccellente quale lei era in Cosa Nostra quindi uno diceva che lei continuava a farne parte l'altro diceva che invece era stato espulso sono due affermazioni fra di loro inconciliabili uno dei due mentiva con lei mentre invece aveva l'obbligo di dire la verità su questo punto o sbaglio esatto quindi questa famosa regola secondo cui tra persone di Cosa Nostra si deve dire sempre la verità è una regola che qualche volta anche perché non era scritta poteva essere violata da qualcuno ma niente è perfetto a questo mondo oh finalmente questo darei volevo sentire neppure le regole di Cosa Nostra e neppure l'osservanza di Cosa Nostra e neppure la partecipazione a Cosa Nostra che come lei ha detto soffre qualche libera interpretazione da parte dei suoi interpreti lei è stato interrogato dalla commissione parlamentare di inchiesta il 16 novembre del 1992 anche in quell'occasione lei si rifiutò di fare i nomi dei politici dicendo però che si riservava di farlo ai giudici perché non lo ha fatto subito dopo visto che pochi giorni dopo è stato interrogato dai giudici io credo che in un verbale lei leggerà la risposta comunque siccome si doveva farla in pubblico dibattito io non vedevo più l'umore per poter continuare la mia collaborazione siamo al 26 siamo al 16 novembre del 1992 esatto era la sede direi la più solenne perché si trattava però lei ha ritenuto ha ritenuto che non era lei ha detto cercando di offrire una chiave di lettura delle sue dichiarazioni che nelle sue dichiarazioni e dichiarazioni rese da lei signor Buscetta bisogna distinguere le cose che lei ha appreso direttamente le cose che ha appreso perché gli sono state riferite da altre persone e poi tutto ciò che invece è deduzione opinione o congettura sua o di altri che le hanno riferito le loro congetture lo ricorda questo? sì lei ricorda nel corso delle sue dichiarazioni di aver sempre avvertito quando riferiva cose di conoscenza diretta quando cose del relato quando congettura ho d'opinioni? io non ho necessità di avvertire perché è il giudice che doveva avvertire questo e domandarmelo ha ragione è giustissimo quindi lei praticamente ha riferito mi scusi l'espressione che non vuole essere offensiva un po' alla rinfusa ma insomma mettendole tutte insieme cose da lei sapute cose sapute del relato come diciamo noi in gergo ma lei sa di che cosa parlo congettura e deduzioni perché non era compito suo operare queste distinzioni era compito poi del giudice distinguere tra cose che lei riferiva per averle apprese direttamente cose del relato congettura e deduzioni d'accordo? d'accordo quindi adesso anche noi questa corte io tutti gli altri dobbiamo star molto attenti a distinguere le cose che lei dice per conoscenza diretta le cose che sa del relato e quelle che sono invece semplici congettura o deduzioni siamo d'accordo? sì allora lei poi sarà così cortese d'ora in poi quando io le faccio delle domande di avvertirmi e di avvertire soprattutto la corte se riferisce cose che lei sa per conoscenza diretta cose del relato o congettura in modo che io eviterò di farla ogni volta questa domanda avvocato facciamo al contrario non lo domandi lei no no io lo farò io lo dirò di volta in volta ecco benissimo senta se il presidente Andreotti fosse ancora presidente del consiglio in questo momento lei avrebbe detto tutto quello che ha detto eh presidente non è ammissibile questa domanda non è neanche una domanda suggestiva secondo voi vedete io ho formulato una proposizione ma presidente noi siamo in fase in fase di mista di esame diretto e lei sa che su un versante le domande quindi si tratta di stabilire se questa è una domanda suggestiva o no no la opposizione non è fondata sul carattere suggestivo della domanda ma semplicemente è una cosa ipotetica quindi andiamo ai fatti però qui non è una cosa ipotetica su quel che avrebbero fatto altri è una cosa molto concreta su quel che avrebbe fatto ipotetica sempre per lui quindi è sempre ipotetica va bene va bene lei decise lo ha dichiarato nell'arrogatoria del 6 aprile del 1993 lei ha deciso di fare le sue rivelazioni sulla compromissione dei politici con l'omicidio Pecorelli nonostante nutrisse gravi perplessità e gravi preoccupazioni non solo di natura personale su quel che le sarebbe potuto capitare ma soprattutto per le conseguenze che ne sarebbero derivate sulle istituzioni lei conferma di aver nutrito queste preoccupazioni sì e quali erano le preoccupazioni che lei signor Buscetta aveva per le istituzioni dello Stato quali sarebbero state le conseguenze che lei temiva potrebbero essere avvenute per le istituzioni dello Stato se lei avesse detto quel che pensava di dover dire di che cosa si preoccupava non ricordo non ricordo non lo ricordo ma lei non aveva deciso di combattere cosa nostra e tutto ciò che si collegava ad essa non aveva fiducia nella magistratura non aveva fiducia nella capacità della magistratura di lottare di vincere era compito suo occuparsi di queste cose no ai magistrati di quell'epoca ho fiducia vorrei sapere adesso passando ad altri argomenti scuserà se salto il palo in frasca ma seguo un po' l'ordine delle sue dichiarazioni Lima le ha mai parlato in maniera esplicita in maniera diretta in maniera tale da non consentire fra intendimenti del suo rapporto diretto e privilegiato con il senatore Andreotti Badi con riferimento però agli interessamenti che poi il senatore Andreotti avrebbe dovuto assumere grazie a questo rapporto rispetto a cose di cosa nostra non abbiamo fatto nessun accenno al senatore Andreotti quindi Lima le disse esplicitamente direttamente chiaramente che il suo referente nazionale per le cose di cosa nostra era il senatore Andreotti no da quanto tempo conosceva l'onorevole Lima dagli anni 60 quindi lo conosceva molto bene frequentava la sua casa allora ci dica da chi avrebbe appreso e in quali circostanze che il referente nazionale di Lima per le cose di cosa nostra era il senatore Andreotti le circostanze non me le ricordo nella data quando l'ho appreso però che sapevo che il referente dell'onorevole Andreotti era Lima cioè che Lima era il referente ma da quali fatti era a conoscenza di tutti direi cioè io giravo per Palermo chiedevo chi è il referente politico nazionale per cose di cosa nostra ah credo lo dà come fatto notorio come fatto no quindi non c'era neanche bisogno di pigliare un appuntino ma l'ha detto quello perché così in tutta Palermo si sapeva Badi che il referente politico per le cose di cosa nostra era il senatore Andreotti Avvocato io sono stato per circa quattro anni e mezzo carcerato a Lucerdone a Palermo e l'ingresso degli uomini d'onore al carcere di Palermo era continuo entravano uscivano entravano uscivano queste notizie le sapevamo tutti però lei non è in grado di indicarmi neppure un uomo d'onore poi parleremo di salvo ma le dico tutti invece tutti e invece di dircene uno le dico tutti tutti gli uomini mi scusi Avvocato lei prima ha domandato che non glielo avrebbe detto però Lima sì Lima è l'unico che non glielo ha detto però poi tutto il termo lo sapeva e glielo diceva questa è la confezione anzitutto quando io lascio Lima negli anni 60 Lima non è Andreottiano non è Andreottiano Lima lei lo ha rivisto in seguito e l'ho visto nel 1980 80 benissimo comunque in tutto l'arco quindi lo rivedo circa 17 anni 18 anni dopo benissimo comunque Lima non le ha mai fatto nessun riferimento questa era la domanda e lei mi ha già risposto mi ha anche risposto che tutti gli uomini d'onore lo sapevano però lei non è in grado di farmi il nome di qualcuno di essi lei ho detto tutti beh tutti sa tutti e neanche nessuno eh vabbè invece prendiamo l'elenco di tutti i uomini d'onore che sono entrati al calice del Palermo e le dico tu ne dici a quelli che ricordano e me non me li ricordo qualcuno ne ricorderà no guardi ha già detto di montate no 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 badalamenti ma le montate badalamenti già lo so perché di quelli parleremo dopo salamone di quelli parleremo dopo e come mai come mai li fa soltanto oggi e se lo ricordo soltanto oggi quando invece proprio il giorno in cui lei rendeva le sue prime dichiarazioni accusatorie 6 aprile del 93 lei disse che non era in grado di fare il nome di questi perché erano talmente tanti che non se ne ricordava nessuno come mai se lo ricorda soltanto adesso ti sa cosa ha dato la stessa risposta adesso ecco appunto non è che adesso butta lì dei nomi tanto per buttar lì dei nomi lei ha detto che i cugini salvo le dissero esplicitamente invece su questo è stato molto preciso che Andreotti era il referente nazionale a Roma per sistemare le cose di Cosa Nostra lei conferma ovviamente questa sua dichiarazione ecco i cugini salvo ma andavano sempre insieme questi due io li ho visti sempre assieme sempre insieme sempre ma sempre non ho legato erano miei benissimo quindi non è che aveva dei rapporti più intensi con l'uno o con l'altro beh più intensi erano molto più facile trattare con Nino e quello che parlava un po' di più era Nino benissimo lei la ricorda la prima occasione nella quale i salvo o uno dei salvo le fecero questa rivelazione la data non la ricordo però posso dirle il mese di dicembre del 1980 nel mese di dicembre del 1980 il mese di dicembre questi rapporti no no benissimo lei conferma che prima dell'omicidio di Michele Reina Piazzanti Mattarella era molto vicino a Cosa Nostra sì quando fu ucciso Michele Reina lo ricorda? no chi era Michele Reina ce lo può dire? io non ero a Palermo quando è stato ucciso Michele Reina beh vabbè io ho chiesto se lo ricorda non importa ma si ricorda però chi era Michele Reina sì che me lo ricorda chi era? Michele Reina l'ho conosciuto giovanissimo ed era non ci stare quando l'ho conosciuto chi era? chi era? chi era? era un politico era un politico sì stavo dicendo proprio questo sì ma non interessa quando l'ho conosciuto voglio sapere chi era era un politico e che ruoli aveva in Sicilia lo ricordo che cosa è stato si è avuto delle cariche particolari ma se lei mi faceva spiegare io l'avrei detto io l'ho conosciuto negli anni 62 e credo che sia stato nominato presidente della provincia a Palermo allora mi spiega con riferimento a questo periodo di tempo in che cosa consisteva la vicinanza di Piazzanti Mattarella a Cosa Nostra come? in che cosa consisteva la vicinanza di Piazzanti Mattarella a Cosa Nostra cosa faceva? sì si si sperava che lui fosse vicino agli ambienti di Cosa Nostra anche dovuta al padre che era stato molto vicino agli ambienti di Cosa Nostra ma a lei risulta che il padre di Piazzanti Mattarella fosse un uomo d'onore? no secondo le regole di Cosa Nostra il fatto di essere comunque figlio di un uomo figlio di un uomo d'onore comporta una qualche conseguenza? ma io è un'opinione che non so dare perché questa conseguenza può dare per il comportamento suo può avere una conseguenza guardi scusi le faccio la domanda per precisa l'essere figlio di un uomo d'onore comporta automaticamente che anche il figlio poi diventi uomo d'onore o è soltanto una maggiore facilità nel diventarlo è una maggiore facilità nel diventare un uomo d'onore ma non è una cosa che deve essere però non è obbligatorio lei mi sa riferire dei fatti specifici dai quali si possa dedurre questa vicinanza di Piazzanti Mattarella con Cosa Nostra che cosa avrebbe fatto Piazzanti Mattarella per consentire di dire che era vicino a Cosa Nostra? no non ne conosco non ne conosco mi spiega come si può uscire se si può uscire salvo il suo caso personale da Cosa Nostra perché qualcuno sostiene che se ne possa uscire sono morto ma io non sono uscito da Cosa Nostra io non l'ho detto questo come lei fa tuttora parte di Cosa Nostra no vuole sapere se si poteva uscire da Cosa Nostra non si poteva uscire io sono uscito perché collaborando con la giustizia non credo che fassi a parte e se mi mi trovano i mafiosi la fanno fuori la conseguenza sarà quella va bene lei ha già detto che Badalamenti faceva parte della commissione che ne è stato espulso ci ha anche detto quando è stato espulso lei conferma che comunque è regola di Cosa Nostra quella per la quale una volta che un soggetto è stato espulso non si potrebbero più avere dei rapporti con costumi lo ha detto ieri in maniera molto chiara lei però ha anche detto che questa regola non è stata rispettata quindi anche questa è un'altra di quelle regole che subiscono un po' delle interpretazioni da parte degli adepti giusto? quindi lei conferma che questa regola non è stata rispettata da parecchie persone da lei per primo da Inzerillo da Riccobono da Gigino Pizzuto da Bontate tutte queste persone di questa regola diciamo fecero non carta straccia perché non è scritta ma insomma non ne tennero alcun conto vero? ma se questo avviene anche con la carta scritta figuriamoci senza carta scritta senza scritta quindi come si concilia tutto ciò con la affermazione lasciamo stare il caso Bontate e le badalamenti in particolare poi ci ritorniamo ma questa affermazione che tante volte abbiamo letto nei verbali dei processi secondo cui le regole di Cosa Nostra sono ferree e vengono osservate da chiunque è una affermazione che va un pochino riveduta e corretta secondo qualche particolare situazione e circostanza giusto? difatti l'avvicinare badalamente si correva il rischio di morire perfetto un mafioso che sia stato espulso dalla commissione può impartire degli ordini ai soldati o ad altri mafiosi? assolutamente no e i soldati che eventualmente ricevessero un ordine da questo mafioso espulso che non intende osservare questa regola sono tenuti a disobbedire o sono tenuti ad osservare l'ordine? ma per l'amor di Dio no no nel senso che non sono non sono anzi sono tenuti a non osservare a non osservare e se per caso obbediscono ad un ordine che proviene da un espulso cosa succede? la conseguenza è quella la morte sai io non è che ho molta familiarità se lei non dice troppo morte io potrei pensare a una medaglia d'ordine ha ragione la ragione per la quale Badalamenti è stato espulso l'abbiamo appresa e abbiamo appreso anche che Badalamenti venne espulso perché a sua volta aveva violato una regola di cosa nostra mi pare secondo la commissione secondo la commissione Badalamenti avrebbe violato questa regola di cosa nostra vuole ritornare un istante su ciò che aveva già precisato ieri ma un po' più in dettaglio se è possibile circa le giustificazioni che Badalamenti tentò di dare quando venne inscenato diciamo così questo processo per la sua espulsione Badalamenti cercò di giustificarsi no? disse che non fece parte di quella decisione ecco in queste occasioni l'uomo d'onore che viene interrogato per decidere poi della sua espulsione della sua posatura eccetera anche in questo caso ha l'obbligo di dire la verità? certo certo quindi se fosse accaduto il fatto di cui Badalamenti è accusato e che in gergo giuridico potrebbe considerarsi ormai cosa giudicata Badalamenti avrebbe dovuto comunque dire la verità rispetto a quel fatto e se non lo ha fatto ha mentito lei 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 mi fa la domanda e fa la conclusione io la prego mi faccia la domanda ha mentito ha mentito no non ha mentito lui ha detto il vero lui ha detto il vero e la commissione non ci ha creduto o ha ritenuto opportuno non crederci allora ma devo commentare allora che la commissione l'ho fatto apposta a inventarsi questa accusa contro Badalamenti e io già l'ho detto e questo si e questo corrisponde alle regole di Cosa Nostra cioè è giusto e conforme alle regole che i mafiosi addirittura a livello di commissione si inventino qualche cosa per espellere un mafioso innocente ma non stiamo parlando delle regole mafiosi come dice i comandamenti stiamo parlando delle regole mafiosi che ci sono tutte quelle cose che la vita ci offre a ognuno di noi appena nasciamo di sapere di scendere il bene dal male io non ho mai detto che la cosa nostra fosse perfetta io non ho mai detto che i magistrati sono perfetti anche se i magistrati giurano di essere perfetti e loro hanno delle regole eppure i magistrati non sono perfetti alcuni per l'amor di Dio non abbia paura non le chiedo il nome dei magistrati che secondo lei non sono perfetti vabbè ma li leggiamo nei giornali io non sto dicendo che li so io personalmente vabbè comunque ha risposto in modo desauriente dica no a me io prendo atto che queste regole non sono stampate nella pietra come i dieci comandamenti e questo vale anche per la famosa regola dell'obbligo di dire la verità evidentemente o bontate comunque secondo la commissione aveva concorso nello stesso fatto che era stato accusato a badalamenti perché entrambi erano accusati di aver fatto quel viaggetto a Catania vero? sì quindi secondo le regole di Cosa Nostra anche bontate le avrebbe violate in definitiva sì ecco perché proprio solo badalamenti non venne volutamente creduto e venne espulso e invece si diede credito alle giustificazioni di bontate credo di averlo detto ieri ma lo spiego anche oggi perché badalamenti in quel momento era una forza molto superiore Totorriina in quel momento non voleva come avversario bontate quindi scusi forse lei ha detto badalamenti e voleva dire bontate lei ha detto badalamenti era molto forte voleva dire bontate ha parlato di un esercito di un esercito di bontate sì ho sbagliato ha ragione vede che anche io cerco qualche voto la ringrazio di starle vicino la ringrazio negli anni che vanno tra il 60 ed il 70 era consentito da Cosa Nostra che venissero eseguiti i sequestri di persone in Sicilia no le risulta che il suocero di Nino Salvo venne sequestrato invece certo ha saputo chi ha effettuato questo sequestro perché per quello che ha saputo sempre per quello che ho saputo per quello che ha saputo poi ci dirà se lo ha saputo per scienza diretta o del relato ma insomma comunque lei ha saputo ma ho saputo proprio dei salvi il dubbio che avevano i salvi chi sarebbero stati gli autori che sarebbero stati Dottor Reina e anche Scarpuzzedda anche Scarpuzzedda Giuseppe Greco questo sequestro venne eseguito con il consenso di Gaetano Badalamenti di Bontate e degli altri o fu un'iniziativa di questi due signori no di fatti non se ne parla proprio perché non si sa chi lo ha eseguito ufficialmente non si sa comunque qualcuno lo ha eseguito qualcuno lo ha eseguito è logico e secondo i salvo si trattava di Rino e di Scarpuzzedda i dubbi che avevano loro era questo se così fosse anche questa è un'altra regola di casa nostra che sarebbe stata violata certo certo lei ha conosciuto Turatello vero? lei? si Turatello si lo ha conosciuto e di che è morto Turatello e se è morto è morto Turatello credo si si è morto Turatello è morto in carcere mi sembra credito di morte naturale no no ha credito ha credito lo ha conosciuto durante un periodo di codetenzione si prima a Palermo e poi a Cuneo ecco io vorrei sapere se a lei risulta ma direttamente d'altra parte mi pare che stavate nella stessa cellula o comunque che c'era fra di voi molta amicizia si era grato quindi lei è proprio in grado di dirci se lei ha mai visto per le mani di Turatello carte relative al sequestro Moro assolutamente no assolutamente no se Turatello avesse avuto queste carte visto che stavate nella stessa cellula non solo lei le avrebbe viste ma forse Turatello l'avrebbe anche informata data questa confidenza si durante il sequestro Moro le risulta che Turatello sia stato avvicinato da appartenenti all'arma dei carabinieri guarda ho un ricordo vago di questa cosa ma credo che sì credo che sì ne conosce il motivo o non è in grado di rispondere alla mia domanda guardi non sono in condizione di approfondirlo questo argomento perché ho un ricordo vago ma lui lui sembra che si sia incontrato con dei carabinieri alla matricola ma è un ricordo vago e che poi disse a me che ecco che non poteva dare delle risposte se prima non ne avrebbe parlato con me è un ricordo vago sì no no guardi lei sta ricordando molto bene perché queste cose appunto le ha dette e adesso stava ricordando proprio con esattezza e cioè che Turatello disse ai carabinieri che comunque se prima non parlava con lei lui non avrebbe detto nulla che non avrebbe fatto nulla perlomeno così mi disse lui a me certo certo quindi Turatello aveva una fiducia piena in lei credo di sì e le passava anche del denaro mentre eravate in casa sì e la ragione di questa corrisponsione di denaro l'amicizia 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 nessuno obbligo no 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 era solo ormai abbiamo finito questo punto proprio per trovare una conferma quanto lei ha esattamente detto circa il fatto che per le mani di Turatello lei non ha mai visto né Turatello mai gli ha detto di carte moro lei ha conosciuto il maresciallo Incandela e se sì dove e quando l'ho conosciuto era il comandante del carcere di Cuneo lei ha mai detto ad Incandela che lei e i suoi compagni mafiosi a Roma potevate contare sul senatore Andreotti credo di no per la mia maniera di vivere non credo che abbia avuto questa espressione benissimo e adesso senza se la Corte me lo consente le anticipo anche il punto a cui voglio arrivare perché altrimenti lei ad una domanda del genere aprirebbe uno spaccato di storia siciliana se non patria lei ci può dire in due battute quali furono le cause originarie la prima causa o se vuole il motivo che ha scatenato perché le cause saranno state anche profonde diverse e più lontane ma l'occasione che ha scatenato la prima guerra di mafia ci fu se lei ricorda più in particolare l'uccisione di un membro della commissione che diede il via alle polveri agli fuochi d'artificio sì corrispondeva alle regole di Cosa Nostra che ci si ammazzasse anche nell'ambito della commissione o i membri della commissione meritavano qualche rispetto tra di loro almeno a maggior ragione rispetto agli esterni non c'era mai verificato quindi anche qui è un po' uno strappo delle regole sempre non scritte ma anche qui è un fatto un po' fuori dalle regole o sbaglio dalla prassi dalle abitudini è un fatto nuovo ma i tradimenti esistono da Gesù in poi da Caini a Pelle e le ragioni della seconda guerra di mafia anche qui se ce le può sinteticamente dire proprio per verificare se anche lì abbiamo qualche cosa un po' di anomalo la seconda guerra di mafia io non lo so però non so quanto ci sia di vero ma la partenza sembra che sia stata da parte di Stefano Pontati questo anche se lei non ve lo domanda lo dico io personalmente mi è stato detto da Pontati che l'unico suo scopo è uccidere Rini perché d'accordo ah d'accordo senta all'interno della commissione secondo le regole poi lasciamo stare se siano state osservate o meno non lo vedremo ma secondo le regole all'interno della commissione i vari membri della commissione potevano prendere per conto loro delle decisioni e farle eseguire senza prima essersi consultati con gli altri senza aver proceduto prima ad una votazione eccetera e via dicendo una discussione ognuno li faceva come voleva solo perché era membro della commissione in altre parole sì cioè ognuno è successo questo non ho detto sì questo è successo no che questo è successo io già glielo ho detto che avrebbe costituito oggetto di un'altra domanda io voglio sapere prima e a monte secondo le regole del buon vivere mafioso in sede di commissione bisognava discutere di quel che si doveva fare ma era per questo che si era costituita la commissione era per questo che si era costituita la commissione mentre invece abbiamo visto che poi accadeva è accaduto che qualche d'uno in modo particolare i corleonesi prendesse delle decisioni senza preoccuparsi di avvertire gli altri in modo particolare bontate di inzerillo spesso vennero tagliati i cuori dalle decisioni della commissione perfettamente vero perfettamente vero lei ci ha già detto che aveva fatto un cenno al dottor Falcone che vi erano dei rapporti tra mafia e politica d'accordo e che però non riteneva di poterne parlare perché riteneva che lo stato non era maturo che lei sarebbe finito in un manicomio criminale e il dottor Falcone finiva in un manicomio ma la risposta era alle domande che faceva il dottor Falcone sì sì no lo faccio perché così almeno no il cenno lei parla del cenno no no lei comunque parlò al dottor Falcone che c'era questo problema che lei non intendeva trattare per le ragioni che sappiamo d'accordo alle domande del dottor Falcone sì certo il dottor Falcone di fronte a questa sua dichiarata reticenza di parlare di quell'argomento che cosa fece come cosa fece cioè mi chiese le ragioni sì sì chiedeva le ragioni continuava a chiederlo continuamente ma sempre da parte mia riceveva la stessa risposta d'accordo e quindi in un certo momento lui abbandonò quindi ecco prima di abbandonare anche perché il dottor Falcone lo abbiamo parlato nell'84 lo abbandonò sì dico però insomma il dottor Falcone ci provò ad ottenere da lei tornò in America anche in quell'occasione cercò di farle dire qualche cosa intorno a questi rapporti e anche in quell'occasione lei non ne volle sapere sì ma lei in via riservata perché lei stesso ha detto poi a verbale magari si fanno sintesi qualche cosa non si mette qualche cosa sfugge in via riservata lei al dottor Falcone disse che la ragione per la quale non intendeva parlare di queste cose perché avrebbe dovuto parlare del senatore Andreotti che quindi quello era un argomento che vi avrebbe portato a sicura rovina al dottore Falcone è neanche in via riservata assolutamente eppure lei aveva una qualche confidenza ormai con il dottor Falcone lei si è deciso la sua collaborazione proprio per rispetto facciamo questo commento perché non mi sembra di maltrattare la memoria del dottor Falcone io avevo confidenza da imputato a giudizistruttore sì sì ma guardi che senza mai oltrapassare quelli ma infatti è un fatto abbastanza singolare perché di imputati che hanno una grande simpatia verso l'inquisitore non è che ce ne siano proprio ad ogni angolo di strada si era creato un rapporto di una certa fiducia di una certa apertura tra lei e il dottor Falcone questo è innegabile basta leggere i verbali per vedere per capire l'atmosfera di quei colloqui però nonostante ciò lei non ha ritenuto neppure di bisbigliare in un orecchio al dottor Falcone il nome del senatore Andreotti come quello del politico più importante che sarebbe stato compromesso con la mafia allora veniamo adesso visto che lei ne voleva parlare veniamo al 1985 ci può dire dove si trovava nell'85 in America in America lei era coperto da un contratto di protezione da parte degli Stati Uniti in quel periodo questo contratto le imponeva l'obbligo di dire la verità su qualunque cosa lei fosse stato interrogato sì il contratto di protezione italiano prevede lo stesso obbligo? io non l'ho letto questa clause il contratto americano è tutta un'altra cosa del contratto ebbè ma infatti siamo noi che pensiamo che gli americani debbano imparare da noi perché siamo vecchi duemila anni più di loro ma qualche volta dovremmo imparare noi da loro allora lei ricorda di aver avuto perché lo ha già detto un particolare colloquio con l'avvocato Martin sì lei ha già detto anche che l'avvocato Martin l'avvertì che avrebbero potuto essere fatte delle domande sui rapporti mafia politica e che lei avrebbe risposto che era un tema che la preoccupava non proprio così come sta dicendo lei è una sintesi ma se lo vuole è proprio per evitare di far dire che continua a fare le stesse domande allora le faccio a questa domanda ricorda di aver parlato con l'avvocato Martin e di aver detto che se le fossero state rivolte domande inerenti ai rapporti mafia politica in Italia avrebbe detto senz'altro la verità avrebbe detto no padova allora dica la domanda è di Dickie Martin che mi devo dire tutta la verità e io dico dico tutta la verità arrivato a un certo punto io le dico però ci sono dei problemi che non mi sento di non affrontare io non desidero non voglio interrompere volevo solo dire questo la domanda era un po' più precisa cioè io volevo sapere se lei ricorda di aver detto a Martin che se si fosse parlato di rapporti tra mafia e politica visto l'obbligo che lei aveva di dire la verità lei sarebbe stato costretto a dire la verità anche su questo tema sì questo è giusto così è no? è giusto che io ho detto che non desideravo parlare di mafia e politica no e di politica no 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 domanda un'altra cioè doveva dire la verità su tutto quindi anche se avesse parlato di mafia e politica avrebbe dovuto dire la verità ho detto io sono qua per dire la verità ma non intendo rispondere sui temi politici no il punto il punto è diverso io voglio sapere se lei che lei abbia detto a Martin che sperava di non dover essere intrattenuto su questi temi lo diamo per scontato io voglio sapere un'altra cosa se lei però a Martin ha detto io non ne voglio parlare però guardi che se lei mi porta su questo tema io devo dire la verità guardi io ricordo benissimo che lei ha esibito un interrogatorio a Padova con questa frase qui avendo letto tutto il verbale si ha una distinzione perché è vero che nel verbale sta scritto io in ogni caso dirò tutta la verità però bisogna vedere quale cose io antepongo in tutto il verbale la prego dottore avvocato rilega alla corte il mio verbale signor Boccetta aspetti ci arriviamo però siccome la procedura è questa io prima le devo fare le domande poi arriviamo alle contestazioni su questo punto d'accordo dobbiamo andare purtroppo piano piano passo passo anche perché lei vedo che è un attento lettore dei suoi verbali li avrà visti quindi anche dire no no ho voluto vederlo ho voluto vederlo la contraddizione che lei mi ha fatto a Padova lei dopo Padova ha potuto rivedere i verbali dei suoi interrogatori certo attraverso il mio avvocato posso vederlo perché no no ma per carità non dico non c'è nessun problema è perché se io ho la certezza che lei prima di venire qui se ha letto i verbali so che lei conosce certe cose le faccio meno domande era solo per sapere se lei di recente aveva avuto occasione di rileggere i verbali prima di venire qui tutto qui non l'abbiamo letto allora l'ha letto allora bene comunque ha riletto le sue disegnerazioni allora lei ricorderà anche che la ragione delle mie contestazioni a Padova derivava dal fatto che lei aveva detto due cose diverse cioè una prima volta aveva detto che lei non avrebbe detto la verità se fosse stato interrogato sulle cose di mafia e politica ma siccome in altra occasione invece aveva detto che avrebbe detto la verità io le ho fatto la contestazione per poter giungere finalmente alla conclusione voluta e adesso le rileggo appunto i verbali a cui facevo riferimento per esempio qui c'è un verbale ancora recente possiamo considerarlo del 17 del mese di gennaio del 1995 di fronte ai più importanti magistrati della procura della Repubblica di Palermo che si occupano di queste recente Caselli di Natoli eccetera lei dice questo l'avvocato Martin mi intervistò numerose volte per prepararmi come testimone e mi disse che dovevo sempre dire la verità ricordo che gli rappresentai allora un problema ho saltato tre o quattro righe perché sono sempre nello stesso senso ricordo che gli rappresentai allora un problema e cioè che fermo il mio intento di voler dire sempre la verità se mi fossero state rivolte domande inerenti ai rapporti mafia politica in Italia anche in tal caso avrei senz'altro detto tutta la verità ma questa verità avrebbe certamente creato gravi difficoltà attesa l'importanza e la natura delle cose che avrei dovuto dire al riguardo quindi è proprio quello che io le chiedevo quindi lei all'avvocato Martin diede assicurazione che se avesse dovuto rispondere sui temi mafia politica eccetera eccetera lei avrebbe detto la verità giusto? a lei non le piace sentirmi dire l'espressione che l'imputato dà la risposta al giudice per fare il verbale e non si trasmette interiormente quello che si sta dicendo però io le dico una cosa che la difficoltà che io affronto molte volte nelle contestazioni è proprio questa le mie espressioni sono mie espressioni di un uomo che ha pochissima cultura e che nel fare il contesto poi diventa più elegante e si dice avrei detto senz'altro la verità significa che mi avrebbe messo in difficoltà mentre io ribadisco ancora una volta malgrado quello che ha letto l'avvocato Coppi che io rispose io non intendo più collaborare se devo parlare di politica e questo non è il verbale ha ragione lui questa è la mia affermazione oggi a me non è che non fa piacere sentir dire che un magistrato un avvocato un pubblico ufficiale anche straniero non ha messo cose nel verbale a me mi indigna mi indigna se è vero mi indigna perché siamo di fronte a dei falsi ma soprattutto quello che lei in questo momento sta denunciando è un falso gravissimo perché qui non si tratta di essere più o meno eleganti e le assicuro che preferirei un magistrato che casomai assumesse le sue dichiarazioni in siciliano salvo poi la traduzione se questo fosse il prezzo da pagare alla fedeltà del verbale qui non si tratta di eleganza qui si tratta di cose completamente diverse perché lei oggi ci viene a dire che lei avrebbe detto a Martin che se chiamato a parlare di mafia politica avrebbe cessato la sua collaborazione e lei sa che cosa significa cessare la collaborazione in America mentre qui io devo aggiungere una cosa avvocato la devo interrompere io non avevo firmato ancora il contratto io ho firmato il contratto due o tre giorni prima della mia deposizione in tribunale il contratto in America io l'ho firmato due o tre giorni prima dell'iniziazione della mia collaborazione in tribunale ma se lei avesse detto io non intendo collaborare perché mi fate parlare di mafia politica l'avrebbero fatto firmare il contratto certo certo che no perché no se lei si fosse rifiutato di collaborare se io mi fosse rifiutato di rispondere alle domande di politica non avrei accettato esatto quindi risolto questo problema risolto questo problema qui ci troviamo di fronte ad una versione del suo incontro con Martin che è completamente diversa da quelli che lei dice e siccome io ho troppa stima per il dottor Caselli e per il dottor Natoli posso pensare che il loro secchio verso la lingua italiana abbia consentito loro o gli abbia autorizzati a correggere qualche congiuntivo qualche condizionale a mettere a posto i singolari e i plurali ma da arrivare addirittura a dire che lei a Martin aveva detto che avrebbe detto la verità se fosse stato interrogato sui rapporti mafia politica mentre qui oggi ci viene a dire che lei invece ha detto che se fosse stato interpellato su questo tema avrebbe cessato la sua collaborazione anzi non avrebbe proprio neppure intrapreso la collaborazione qui si tratta di due cose completamente diverse e allora a questo punto ci deve dire che cosa vi siete detti con Martin lei è libero di dire quel che vuole però ce la dica qui in questa serie e l'ho detto già e l'ha detto quindi cioè con distanzione ha risposto in questo senso quindi che lei si sarebbe rifiutato di collaborare quindi perché in quel momento non avevo neanche contratto d'accordo d'accordissimo d'accordissimo quindi io non posso farle tutta un'altra serie di domande che mi bruciavano la lingua cioè che lei sarebbe stato disposto già nel 1985 a fare il nome anche del senatore Andreotti se fosse stato necessario e se fosse stato interrogato sui rapporti mafia politica perché questa era una eventualità che ormai noi dobbiamo considerare esclusa io non avrei collaborato non avrebbe collaborato e quindi non avrebbe fatto il nome del senatore Andreotti però a differenza di quanto è avvenuto con il dottor Falcone lei avrebbe il nome del senatore Andreotti io lo dico a Dicchi Martini immaginate se io mi metto a parlare del senatore Andreotti appunto questo restavo non ci abbia fretta di tirar fuori sempre il nome del senatore Andreotti intanto non abbiamo paura di tirarlo fuori noi mi consenta di farle le domande quindi le stavo dicendo quel che lei non volle dire in via riservata a Falcone però a Martin lo disse in via riservata per spiegare perché non voleva parlare di mafia politica io lo disse io l'ha detto e perché non lo ha detto anche allora a Falcone in questa via riservata ritenevo l'America un altro mondo come? ritenevo l'America un altro mondo sì ma lei sapeva che l'avvocato Martin conosceva bene Falcone sì sapeva che i due avevano rapporti di collaborazione no però sapeva che si conoscevano beh li ho visti assieme a Roma li ha visti assieme a Roma e lei non ha pensato che a un certo momento fare a Martin il nome del senatore Andreotti poteva esporla al rischio che Martin passasse questa segnalazione al suo collega italiano Falcone no lei non ha pensato che comunque far quel nome in America poteva ugualmente significare innescare quella bomba che lei non voleva innescare in Italia visto che insomma i rapporti tra Stati Uniti ed Italia sono rapporti di una qualche particolare intensità visto che vi sono dei rapporti di una qualche alleanza tra questi due paesi cioè di fondo no non ha pensato a tutto questo perfetto torniamo torniamo ai salvo Stato Coppi scusi vogliamo interrompere dieci minuti io non sono stanco capisco anche la corte ha bisogno di cinque minuti di paura è una piccola vanità lo chiese Rademarsico quando aveva 90 anni e lui disse che non era stanco ma se la corte aveva bisogno di ricordare quindi in questa mia cerco come vede di ripetere le testi allora possiamo riprendere prego avvocato Coppi si sente volevo un momento concludere il punto Martin il Martin è sicuro che non le abbia invece detto con riferimento anche proprio al nome che lei gli aveva fatto riservatamente che se fosse stato necessario lei avrebbe dovuto dire la verità e avrebbe dovuto quindi anche intrattenersi su quel nome e lei ricorda di aver detto a Martin che era disponibile a questo io so già quello che lei ha risposto pochi secondi fa ma sono costretto a ritornare sul punto perché invece Martin interrogato a Palermo sulla circostanza ha detto di essere stato molto esplicito con lei sul fatto che lei avrebbe dovuto dire la verità su qualsiasi cosa compreso anche qualunque particolare argomento fosse stato trattato e che lei dopo essere stato interpellato se avesse ben capito il senso delle sue affermazioni avrebbe risposto in senso adesivo Martin e il regolamento dei pubblici misteri dei procuratori in America è proprio questo il procuratore non può assolutamente invitare il test ad essere reticente e quindi ha risposto bene dicendo a Palermo però Martin anzitutto non l'ho detto riservatamente e l'ho detto a lui in presenza di altri ma la conclusione sua è stata non ti preoccupare il nostro processo è di droga non abbiamo problemi di politica e nessuno ti farà queste domande ecco però prima di arrivare a questo Martin facendo riferimento alla discussione avuta con lei circa il contratto la collaborazione dice questo lui cioè lei Buscetta lui ha detto che era tutto preparato assolutamente di firmare questo contratto però aveva una sola preoccupazione cioè lui diceva che c'era un soggetto che forse sarebbe meglio non aprire e io ho risposto che non era possibile non rispondere ad un singolo soggetto se venisse fuori una domanda lui dovrebbe rispondere ho chiesto se lui ha capito e lui ha risposto di sì è una cosa ben diversa di quello che dico io è detto in parole molto belle da parte sua però la sostanza non cambia per me perché io se dovevo parlare di politica non avrei accettato il contratto degli americani va bene ci può dire quando lei ha sentito parlare per la prima volta io però vorrei che attraverso il mio legale se posso avere copia del contratto e proprio nel contratto sta scritto che non mi sarà fatta nessuna domanda che non sia inerente al processo di droga o a crimini connessi negli Stati Uniti guardi se vuole lo possiamo chiamare perché l'avvocato Ligotti è lì fuori quindi se vuole lo possiamo chiamare va bene ma non avrà la copia con lui glielo chiediamo e mi rimetto alla corte cioè lì l'ho visto se la corte ritiene sia opportuno acquisire il documento chiamiamo a viva voce l'avvocato è una cosa che potremmo anche vedere dopo successione era perché così che approfittavamo della presenza dell'avvocato Ligotti senta ci può dire quando lei ha parlato ha sentito parlare per la prima volta di Salvo da parte di chi e in quale occasione da parte di chi e in quale occasione non me lo ricordo è nel periodo che sono carcerato a Palermo e poi la frequentazione che avevo col dottore Barbaccia o Torino del Lucciardone che veniva tutti i lunedì le conversazioni vertevano sulla politica perché era una persona con cui ho parlato con Barbaccia anche se non è il primo comunque con Barbaccia lei ha parlato certamente dei Salvo dei Salvo ho parlato sì anche con Barbaccia ricorda ma anzi uno dei principali è Barbaccia poi qualche altro per esempio attraverso Barbaccia era Brandaleone senta ricorda in particolare se il Barbaccia le abbia parlato di rapporti fra il senatore Andreotti e i Salvo sì si ricorda che cosa esattamente le disse il dottor Barbaccia circa i rapporti tra il senatore Andreotti e i Salvo sì che i rapporti non lo so ma cioè di fatti non so ma dei rapporti me ne parlavo sempre che i Salvo erano in rapporto con il senatore Andreotti quindi le disse esplicitamente che vi erano questi rapporti diretti fra i Andreotti e i Salvo sì le disse anche che lui ne era personalmente a conoscenza questo nome lo ricordo guardi allora le leggo queste frasi che lei ha detto in occasione della sua rogatoria del 2 giugno delle 1993 negli Stati Uniti di America parliamo di Barbaccia che è l'uomo d'onore della famiglia di Gaetano Badalamenti eccetera egli mi parlò spesso in termini politici di questi rapporti egli si riferiva a rapporti di tipo elettorale tra i Salvo ed Andreotti i Salvo peraltro erano uomini d'onore e ho avuto modo di vedere anche direttamente che facevano capo alla commissione palermitana pur appartenendo ad altra provincia in sostanza in sostanza quindi questo Barbaccia le avrebbe detto Barbaccia Barbaccia o Barbaccio qui è Barbaccio Barbaccia Barbaccia mi diceva che i Salvo appoggiavano incondizionatamente Salvo Lima si sapeva poi che Andreotti si rivolgeva a Lima e per l'amministrazione della democrazia cristiana in Sicilia quindi ciò che Barbaccia le avrebbe detto era in realtà di rapporti tra i Salvo e Lima e quindi di un appoggio incondizionato dei Salvo a Lima fa parte quindi delle congetture il fatto che poi dietro a Lima ci fosse il senatore Andreotti Presidente credo che la contestazione dovrebbe essere fatta leggendo anche la parte precedente scusate comunque questo punto è in contestazione perché Presidente spiego in particolare in precedenza il buscetta nello stesso vero si riferiva rapporti tipo nel sociale questo significa condizionare la testimonianza io contesto una volta per tutti quello che voglio poi lei dopo dirà che io ho contestato sono notato e aggiungerà quel che vuole ma io ho il diritto di contestare anche una sola parola sia ben chiaro e non di leggere tutto quello che fa comodo agli altri se vi fa comodo lo leggerete a me interessa solo questo punto e stiamo cercando con la collaborazione del signor Buscetta di stabilire secondo quanto lui stesso correttamente ha detto ciò che fa parte delle sue personali conoscenze delle conoscenze del relato e delle congetture siccome qui ci si ferma ad un barbaccia incominciamo a dire che tutto ciò che è quello che Buscetta riferisce lo sa del relato da barbaccia da barbaccia sa di rapporti tra salvo tra i salvo e l'ima e poi è una congettura il fatto che dietro ci fosse anche Andreotti questo è il senso questo è il punto con se se no perdiamo il filo tutti a questa domanda deve rispondere lei cioè lei ha parlato in quel verbale di un rapporto stretto fra i salvo uomini d'onore e l'ima ha tratto lei le conseguenze oppure gliel'hanno riferita gliel'ha detto il dottor Barbaccia ne ha parlato con i salvo di questo ulteriore rapporto scusi dopo ci arriviamo a una parola io voglio solo sapere se la conversazione fu salvo e l'ima e poi se questo si sapeva poi che Andreotti è come mi sembra fin troppo evidente una deduzione una congettura che si trae dal rapporto politico corrente tra l'ima e il senatore Andreotti la congettura che dice l'avvocato Coppi io non ci credo perché stiamo parlando io non le sto chiedendo se a lei lo faccio rispondere sentiamo cosa dice lui non può dire io credo allora sentiamo cosa dice sentiamo cosa dice il test poi interverrà di nuovo lei dica Barbaccia o Torino del carcere di Luce Ardono è un ex deputato per due di legislazione democratico cristiano quindi non è il primo malinformato dalla strada che viene a parlare con me quello che posso dire che sono idee trasmesse da Barbaccia se siano veri o non siano veri io questo non posso controllarlo però sto parlando da una persona competente che è competente anche in politica è molto amico di Lima tra l'altro ma io voglio sapere se Barbaccia le disse che era noto il rapporto tra Andreotti e Lima o se le disse che Andreotti invece in realtà trattava direttamente poi salvo no no non so precisare questo perché non me ne ricordo più ma stiamo parlando che Lima e Barbaccia sa molto bene perché anche se non è stato mai più eletto nella democrazia cristiana perché non ci candidò più e sapeva che Lima era uno della corrente Andreottiana quindi lo stiamo parlando di uno sproqueduto questo lo sa anche il senatore Andreotti lo sappiamo anche noi ma siccome appunto lei non ricordava io le faccio presente che il discorso diretto di Barbaccia riguarda i rapporti tra il Salvo e Lima e che poi appunto si sostiene che Andreotti si rivolgeva a Lima per l'amministrazione della democrazia cristiana in Sicilia ma questo è un discorso ulteriore ma non è frutto di una affermazione che Barbaccia fa a lei direttamente ma certo che la fa a me direttamente quindi lo fa a lei direttamente che chi è che amministra la democrazia cristiana in Sicilia ma non le dice che vi fossero dei rapporti Presidente ancora una volta non riesce a completare la risposta se interrompiamo perdiamo il filo tutti quanti ma sta vicenda e ha detto i parlamenti del dottore Barbaccia sono della corrente andreottiana ma senza parlare male senza addurre a delitto parla politicamente e lui sa che Salvo Lima è la persona più vicina ad Andreotti specialmente per quanto riguarda i problemi siciliani d'accordo basta benissimo quindi conferma quello che ha dichiarato in queste sue affermazioni del 2 giugno del 1993 che io l'ho appena letta bene lei adesso lei Buscetta dopo tutto questo è a conoscenza di rapporti diretti tra i cugini Salvo e il senatore Andreotti e in questo caso può descrivere i fatti in cui si sarebbero sostanziati questi rapporti diretti descriverne l'occasione come li ha saputi come li ha conosciuti eccetera io non li ho saputi non li ho conosciuti e non so so che i Salvo possono andare da Andreotti no 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 qual è la risposta allora che desidera lei mi fermi io ho una risposta conforme a verità non voglio che lei vada fuori dalle lì le ho chiesto semplicemente se lei è a conoscenza di perché ha visto che si incontravano che si facevano questi sono i fatti i fatti di fatti ne conosco uno vada la mente che accompagna no no quello non è un fatto quella è una domanda per chi lei conosce fatti io personalmente sì ma questo conosco non conosco cioè non ha elementi per dire no no in altre parole li ha mai non ho presenziato a nessun incontro ha sentito telefonate non ho sentito telefonate le è stato raccontato un fatto specifico dai salvo relativo ai loro rapporti con il senatore Andreotti no no ecco questo voglio non è che voglio queste risposte so che queste sono le risposte conformi a verità e voglio che vengano fuori a parte bontate e badalamenti di cui parleremo in seguito mi puoi indicare altre persone le quali sarebbero in grado di riferire di rapporti diretti per avervi assistito per avervi partecipato tra il senatore Andreotti e salvo viventi non ne conosco uno non ne conosce uno veniamo all'omicidio Pecorelli e alle dichiarazioni che le ha reso bontate io vorrei ritornare intanto innanzitutto sulla occasione nell'ambito della quale bontate le avrebbe fatto le sue rivelazioni intorno all'omicidio Pecorelli se lei potesse essere un po' più preciso intorno al tempo al luogo e al contesto nell'ambito del quale le affermazioni sono state fatte perché mentre per badalamenti lei riesce a ricostruire un certo contesto con bontate sembrerebbe che la comunicazione sia stata più laconica è in grado di dirci qualche cosa di più no più di quello che ho detto no prima bontate e poi badalamenti o viceversa no prima bontate e poi badalamenti anche perché quando me lo dice badalamenti bontate è già morto ah è morto bontate come è morto assassinato assassinato uno si può anche scordare pensavo dunque e quindi tempo luogo contesto di questo fatto non luogo è Palermo luogo è Palermo tempo tempo è il tempo i sei mesi sette mesi che sono stato a Palermo rispetto all'omicidio Pecorelli chi è del marzo del 79 lei ci può dire più o meno quando sarebbe avvenuto questo colloquio Presidente è un'altra forma di 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 examination che questo si può fare io fino a che la corte non mi toglie la parola lo faccio vorrei sapere se è in grado voglio sapere se è in grado di di sul fatto sulla ripetizione della domanda mi sembra una domanda che viene ripetuta seppure in altra forma se lei mi seguisse si accorgerebbe che siamo sempre alla ricerca della verità sul punto tempo ma non è la stessa domanda perché io adesso sto offrendo al testimone un punto di riferimento cioè l'omicidio prima gli ho chiesto in assoluto se se lo ricordava adesso gli sto dando un'indicazione posto che l'omicidio Pecorelli è del marzo del 79 può dirci con riferimento a quell'epoca se parlavate di una cosa che era successa il giorno prima una cosa che era successa parecchio tempo prima questo è il senso risponda alla domanda stiamo cercando di raggiungere la verità risponda alla domanda non sapevo che era stato neanche ucciso un giornalista che si chiamasse Pecorelli perché a marzo del 79 se quella la data io ero in carcere è a Cuneo e quindi non mi ha contatto con il siciliano quindi questo colloquio intanto incominciamo a raggiungere il risultato questo colloquio avviene quando lei peraltro è libero quando sono libero quando è libero quindi dobbiamo fare riferimento certamente ad un'epoca successiva alla sua liberazione che avvenne e cioè quando mi rese la di tanti dalla semilibertà io per pudore ci male ho tenuto a parlare di libertà è un pudore ma purtroppo è la realtà la realtà quindi quando è che lei si è libero da giugno del 1980 da giugno del 1980 quindi circa un anno dopo l'omicidio lei in quella occasione capì immediatamente a chi Bontate faceva riferimento no no ebbe la curiosità di chiedergli chi fosse questo Pecorelli sì e che cosa le disse Bontate mi disse quello che già ho già detto ma comunque posso ribadire ancora una volta no attenzione e qui non si tratta di ripetere quello che Bontate le ha detto circa chi sarebbero stati i mandati vorrei proprio sapere se le ha descritto Pecorelli se le ha fatto capire chi era Pecorelli se si è intrattenuto sulla figura di questo giornalista in modo particolare in modo particolare non posso ricordare tutto questo non è facile ricordare tutto questo mi creda lui me ne parlò disse l'abbiamo fatto noi e disse l'abbiamo fatto perché ce l'hanno chiesto si sa benissimo però lei non ricorda una particolare descrizione del signor Pecorelli ma no lei attribuì una particolare importanza a queste confidenze che le faceva Bontate no io non metto in dubbio la sua sincerità mi permetto solo di farle una domanda si parlava non tanto di Pecorelli che lei poteva non sapere ma di un Pecorelli in qualche modo ricollegato al senatore Andreotti quindi era una notizia di un qualche peso lei nonostante ciò non gli ha attribuito alcuna importanza avevamo altri problemi da parlare e di da risolvere va bene senta mi può ridire con il permesso della Corte quale sarebbe stata secondo Bontate dell'ultima volta che lo chiedo la causale dell'omicidio la causale non abbiamo fatto un piacere ma abbiamo fatto un piacere perché perché si doveva fare questo piacere o si voleva fare questo piacere sempre che fossero usciti dei documenti delle cose contro il senatore Andreotti adesso lei è un po' più preciso con riferimento a Bontate perché in realtà all'origine lei parlava di un fastidio che Pecorelli dava cambiamo la parola va bene comunque sarebbero documenti allora il fastidio documenti il fastidio era e no anche ieri ha parlato dei documenti appunto dico qui ma siccome ma siccome aveva parlato altrove di fastidio diciamo che è un fastidio conseguente ai documenti benissimo senta Bontate le disse esplicitamente esplicitamente quindi non rimettendo a sue deduzioni o congetture alla conclusione le disse esplicitamente che l'omicidio di Pecorelli era stato richiesto direttamente dal senatore Andreotti ha capito? si si ho capito direttamente no e io so che è fatto nell'interesse del senatore Andreotti nella forma e come non lo so lei ha sempre paura di non soddisfarmi con le sue domande la mia domanda esigeva un sì o un no lei mi ha risposto no poi veniamo all'interessamento l'importante è che sia acquisito che Bontate non le ha mai detto che il senatore Andreotti direttamente aveva chiesto questo omicidio le confidenze invece che le vennero fatte da badalamenti sull'omicidio Pecorelli furono oggetto di un discorso esclusivo o avvennero nel quadro di un altro contesto secondo quanto lei mi pare abbia già accennato e mi vuole precisare definitivamente l'anno in cui questo discorso è avvenuto perché in realtà in altre sue dichiarazioni lei era un po' più dubbioso di quanto ieri non fosse circa l'anno in cui tutto ciò sarebbe avvenuto ma il dubbio io non ne ho e non ne ho mai avuto perché si è parlato di una trasmissione alla televisione dove si vedeva il generale della chiesa morto in seguito a queste discussioni perché il generale della chiesa era tornato a Palermo si erano sbarazzati e voleva diventare Presidente dei Ministri e cioè voleva fare un colpo di Stato eccetera eccetera senza dubbio sono nati anche queste discussioni che io non riesco a collocarli quando e come e in quella occasione però sulla base di quello che lei ci dice allora se ho ben capito quello che lei ha detto questa mattina la rivelazione che Badalamenti le avrebbe fatto sull'omicidio Pecorelli avviene ma può darsi io dico c'è un fatto certo adesso ha detto perché ieri mi sembrava che avesse detto cosa in parte diversa oggi dice che di Pecorelli si parla mentre eravate avanti alla televisione ma non prendo appunti e non faccio diari e quindi non posso collocarla bene e dire una data esatta quando è stata io posso dire semplicemente ho visto a Badalamenti nel 1982 non l'ho più rivisto prima delle feste natalizie è ritornato nuovamente in Brasile intorno a febbraio queste sono le conoscenze e quando io abbia potuto apprendere questa cosa non posso collocarla però nel mese quando prima dopo no perché non vivo dei diari d'accordo ma siccome adesso stava dicendo in termini di quasi certezza che sarebbe avvenuto in occasione della notizia da voi ricevuta attraverso televisione dell'uccisione dalla chiesa questo era un punto dico può darsi che abbia potuto essere anche in quell'occasione ah ecco però adesso diciamo può darsi anche perché vede poi invece nella rogatoria sì ma questo avrei detto può darsi anche che così avevo capito io almeno l'esorbio precedente era diverso è avvenuto quando poi è diventato un può darsi e comunque nella rogatoria del 2 giugno del 93 lei parla invece con maggiore elasticità dell'arco di tempo in cui questa notizia avrebbe potuto esserle comunicata perché parla del Brasile nel 1982 83 e fa riferimento 82 82 82 83 lo ripeto ecco no siccome da ieri sta parlando di 82 ritorniamo all'82 82 ho sempre detto 82 ritorno in Brasile verso il mese di febbraio 83 guardi Buscetta da ieri ad oggi fino a un minuto fa ha parlato di 82 ed ecco perché le faccio la contestazione qui invece si parla di 82 83 per di più si parla di un discorso che avrebbe per oggetto peraltro l'omicidio Pecorelli non c'è nessun riferimento nessun riferimento ad un collegamento tra la notizia dell'uccisione dalla Chiesa e il discorso su Pecorelli lo apprendiamo oggi per la prima volta ma non lo dico ma neanche oggi lo dico ma non lo dico neanche oggi io faccio riferimento alla notizia di Dalla Chiesa perché lo vediamo in televisione siamo assieme ma di Dalla Chiesa parleremo dopo ma siccome oggi sembrava che visto che si parlava di un po' di morti ci si è infilato dentro anche Pecorelli diciamo che è una delle tante ipotesi che lei sta facendo nella ricostruzione del tempo ma non abbiamo anche qui nessuna certezza vorrei sapere da Badalamenti le venne detto in termini espliciti da chi sarebbe stato commissionato questo delitto? no nemmeno nemmeno a Badalamenti stiamo parlando per conoscenza mia Badalamenti che cosa ne ha detto Badalamenti Badalamenti mi ha parlato per interessamento dell'onorevole Anderotti una richiesta purtroppo non ho purtroppo oggi il dono della chiarezza le disse da chi era stato commissionato cioè commissionato l'incarico forse sarebbe bene che spiegasse come stava facendo il professore in altri termini della domanda la prima volta che abbiamo d'accordo questa mattina era ora era ora era ora no temo che ci possa essere qualche fraintendimento sul termine commissionato non pensiate che questa sera andremo a cena insieme però ecco dunque allora ecco può ritornando su questo punto ricordare se Badalamenti le disse chi è che aveva richiesto questo omicidio ho già risposto no non lo so quindi Badalamenti non le ha potuto neppure dire esplicitamente che l'omicidio era stato espressamente richiesto dal senatore Andreotti ma questa è la risposta no no ebbene scusi io sto difendendo il senatore è una vita che aspetto questi no e abbia pazienza se me ne dice uno di più non guasta sì ma tantino allora mi vuole dire perché e soprattutto sulla base di quali fatti fatti lei afferma che l'omicidio è stato fatto come ha ripetuto ieri come stava ripetendo adesso nell'interesse del senatore Andreotti per le circostanze del senatore Andreotti essere intimo amico del senatore di quale e allora la deduzione no no scusi il senatore Andreotti è l'amico del senatore dei salvo dei salvo sì aspetta io non posso non voglio parlare male di morti ma perché di salvo avevano come unico amico il senatore Andreotti no no Presidente allora non posso ma perché non posso chiedere se a lui risulta se i salvo avevano un unico amico in tutto il mondo che era Andreotti o se ne avevano più di uno è un fatto questo che chiedono è un fatto risulta che i salvo avevano anche altri amici cioè non comprende il senso della contestazione laddove si dice non comprende il senso della contestazione fra un anno non c'è contestazione mi sembra le cose lo chiedo dunque allora ritornando a questo e sempre facendo quelle famose differenze conoscenze dirette relato e congetture e deduzioni questa è una sua deduzione sì oh ecco lei fece delle domande abbontate e abbadalamenti su quello che le avrebbero rivelato come? quando lei riceve questa notizia esplosiva di un omicidio non commissionato dal senatore Andreaotti non richiesto direttamente ma fatto nell'interesse lei abbontate e abbadalamenti ha chiesto qualche cosa a chiarimento di tutto questo o si è attenuto la vecchia regola mafiosa per cui si ascolta e non si no no non ha chiesto lei quando ha parlato con badalamenti ha detto abbadalamenti una volta chiarito lei ha già accennato nella risposta ma intanto vorrei sapere questo visto che lei già sapeva di questo omicidio pecorelli e il nome pecorelli le era nell'orecchio lei non è caduto ugualmente nell'equivoco pecorella pecorelli cioè ha pensato più a pecorella che non a pecorelli anche se già da due anni lei sapeva di questo omicidio pecorelli ma l'omicidio pecorella è molto più vicino di pecorelli è una cosa attuale è una cosa attuale di cosa nostra quindi lei aveva un po' cancellato dalla sua memoria questo omicidio pecorelli ha capito di che cosa si trattasse una volta chiarito l'equivoco pecorella pecorelli lei disse però a questo punto a badalamenti che erano cose che lei già sapeva non ricordo se io l'ho detto o no si ricorda però quali erano i rapporti fra Calò e Bontate nel 1979 perché ce l'ha già detto ieri dice che nel 1979 non erano rapporti buoni tant'è vero che lei ha cercato di metterli d'accordo in quel famoso incontro al casello vero? si ma le risulta che questi rapporti erano già pessimi nel 1974? fra Bontate e Calò sempre la famosa rogatoria del 2 giugno aspetti mi deve dare solo un istante perché lei nella rogatoria se i miei appunti non sono errati già nella rogatoria del 2 giugno del 1993 aveva detto che i rapporti erano già pessimi nel 1974 pagina 2 pagina 2 della rogatoria del 2 giugno del 64 si è esatto presidente c'è solo il rapporto il termine deteriorati piuttosto che pessimi ma la contestazione per il resto esatto grazie per quello che mi consta i rapporti tra Calò e Bontate si erano deteriorati già nel 74 75 non credo quindi che Bontate possa aver utilizzato il canale di Calò per l'omicidio pecorelli ah no forse questo non lo dovevo leggere sono uscito dal seminario comunque ricorda questa circostanza mi pare che abbia già detto ieri che il tentativo di rappacificare i due è un tentativo che non è riuscito vero? si ecco anche se mi pare anche se mi pare che abbiate parlato poco poi di questo omicidio pecorelli Bontate e Badalamenti le dissero di essersi serviti di Calò per l'omicidio pecorelli? no lei è in grado di escludere che possano essersi serviti di Calò dati quei rapporti? come deduzione si ebbene quindi la sua deduzione che è un po' difficile che Calò sia stato impiegato dai due per trovare la manovalanza che avrebbe poi eseguito il delitto l'avvocato Coppi è un maestro nel conservare delle deduzioni si comunque scusate l'avvocato Coppi è un allievo attentissimo che ha imparato dai magistrati che hanno condotto questo processo che questo processo è tutto fatto di congetture io ho interesse che le congetture rimangano nel processo e che si stabilisca che sono congetture e non vedo perché una volta tanto non posso sollecitare io una deduzione fortemente darà atto che non sono tutte congetture e che quando ci sono delle congetture come nel caso di Buscetta viene verbalizzato io non è un verbale fatto da me credo quindi non è cicero prodomo sua ma Buscetta dice io non credo che abbia congettura ha riferito fatti che altri gli hanno riferito ha fatto delle congetture ha fatto delle deduzioni quindi non è una cosa strana esatto che sa perché presidente perché era importante stabilire se si trattava di congettura o meno perché sempre per quelle deformazioni nella verbalizzazione di cui parla Buscetta qui addirittura lui dice a me non risulta che Calò sia stato incaricato di operare il mio trasferimento quindi ecco volevo sapere che se questo risultava era perché glielo avessero detto esplicitamente i due il trasferimento o l'omicidio come? sì certo sempre sempre con con riferimento alle affermazioni dell'interessamento di Calò di Calò quindi siccome più di una volta lui continua a dire escludo che Calò possa aver fatto questo escludo che possa aver fatto quest'altro con riferimento all'omicidio mentre sa stabilire se la sua affermazione era frutto di deduzioni o di meno tutto qui stiamo la stessa cosa che abbiamo detto per bontate vale per badalamenti quanto a deduzioni d'accordo? sì ma la deduzione di che cosa? la deduzione che lei ha fatto è una deduzione secondo me Calò non ha partecipato senta lei sa che badalamenti è stato perché ne hanno parlato tutti i giornali eccetera eccetera è stato anche contestato lei sa che però badalamenti in varie occasioni atti giudiziari interviste televisione ha contestato la verità di quel che lei ha detto ha fatto anche qualche volta dell'ironia magari in maniera siciliana più con ammiccamenti che non con parole circa quel che lei afferma essergli stato da lui riferito sì può dirci qualche cosa in proposito ci può spiegare le ragioni per le quali badalamenti dopo averle fatto queste affermazioni sostiene invece di non aver mai detto nulla di tutto ciò a lei ma io non so quanto credo dopo dare la giustizia a badalamenti se badalamenti comincia a dire che lo ha risposto così in una corte di nuova york che se io fosse e se io fosse tanto da beccarsi un anno e sei mesi di carcere che il presidente ci disse lei deve smetterle di dire se io fosse lei deve dire è o non è badalamente tende a difendersi ma qui in questa corte è accusato di omicidio non può badalamente applaudire la mia collaborazione con la giustizia deve dire che sono bugiati quindi rientra in una strategia difensiva di badalamenti però lei ha incontrato lo ha già detto ieri alcuni mesi fa il legale americano di badalamenti ci può dire dove lo ha incontrato in Italia a Roma lei è venuto apposta a Roma per questo incontro no io ero a Roma era a Roma per altre ragioni lei oggi è un libero cittadino italiano a parte i problemi della sua sicurezza lei può andare dove vuole potrebbe fare quello che vuole insomma siamo d'accordo su questo il fatto che lei si debba muovere con precauzione dipende dalla sua nota situazione allora questo incontro è stato organizzato in Italia perché soltanto in Italia si poteva svolgere o avrebbe potuto svolgersi anche in America il caso ha dato questo beh il caso questo Schoenbach pare che sia venuto apposta a parlare con lei in Italia non era più comodo ma prima di parlare con me ha parlato con il mio avvocato italiano ah e perché chi l'ha organizzato questo incontro come? chi ha organizzato questo incontro il mio avvocato contattato da Schoenbach contattato da Schoenbach quindi è l'avvocato di Badalamenti che si è messo in contatto con il suo credo di sì o viceversa no no si me dice credo molte volte le domande nascono da imprecisioni nelle risposte perché lei ha accettato questo incontro? mi sembrava interessante sapere perché è per noi è molto interessante sapere perché lei lo considerava interessante io non glielo so spiegare perché lo consideravo interessante cioè lei giudica interessante una cosa io se dico che è una cosa interessante lo so benissimo perché mi interessa lei però lo giudica interessante ma non sa perché era interessante il mio mistero il mio mistero attualmente è collaboratore di giustizia ah quindi era una curiosità che lei aveva ma non è una curiosità è desidero sapere cosa l'avvocato Steinbach desidera da me solo questo quindi solo questo solo questo senta lei però libero cittadino italiano che può fare quello che vuole ci ha detto che questo incontro sarebbe stato autorizzato da giudici così ho capito ieri ma perché non l'ho domandata al mio avvocato no non lo so come non lo so lei ieri ha detto che questo ma in seguito l'ho saputo ma non è una cosa chiesta autorizzazione da parte mia io non ho non ho fatto una richiesta l'ha chiesta il suo avvocato l'ha chiesto il mio avvocato forse il mio nome e che bisogno c'è di un'autorizzazione ad un incontro se è un incontro lecito fra un cittadino libero ed un legale americano io mi rivolgo al mio legale quindi quindi è stata un'iniziativa del suo legale di chiedere se c'è stata questa richiesta un'autorizzazione ai giudici di cui ha parlato lei ieri esatto quindi c'erano dei giudici i quali sapevano che lei si incontrava con questo Schembach si e ci sa dire chi erano questi giudici non lo so non ci sa dire se erano di questo ufficio di Palermo di Milano non lo so poi anche se l'ho saputo non mi ricordo non lo sai la confusione è tale d'accordo senta lei ha accennato anche al fatto che erano presenti dei funzionari di polizia a questo presenti a questo incontro si quindi questi nomi ce li può fare e non li ricordo si io li conosco in questo momento però non mi ricordo sono tutte e due commissari o vice questore ma il nome non lo ricordo non lo incontro tutti i giorni li ha visti per la prima volta in quell'occasione li conosceva già no no li conosco già li conosce ma non ricordo li conoscevo li conosco ancora non è che con un piccolo sforzo come ieri riusciamo poi ad arrivarci al nome di questo potresti che nel corso di questa giornata io posso ricordarmi si lei sa che come testimone nel corso della giornata non può avere contatti con nessuno lo so lo so ma io sono circondato da poliziotte per la parola ma io ringrazio quelli da sua scusate in testa non è che dice che non c'erano delle persone che le conosce c'erano le persone che le conosce dice solo che ora non si ricorda il nome o darsi che se non ricordi adesso nel fa 5 minuti può darsi può darsi che fra 5 minuti basta che sia un ricordo suo per esempio Gratteri ecco uno si chiama Gratteri non è non è non è rilevente di scienza è perché devo localizzare il nome ma vede che la pignoleria l'insistenza nelle domande nel giro di pochi minuti grazie alla sua pignoleria viene fuori il nome un nome l'altro non mi ricordo ancora beh ma io sono sicuro che fra qualche minuto viene fuori anche il secondo comunque ci riserviamo di chiedere l'esame anche di questore Gratteri il cui nome è stato fatto in questo momento senta lei quindi non sapeva quale sarebbe stato l'oggetto del colloquio e solo quando ha visto Schembach che ha saputo che cosa le veniva richiesto o le era stata fatta un'anticipazione circa i temi del colloquio che se ho ben capito era un po' sì lei sapeva chi ha parlato per prima è stato il mio avvocato io non lo presento sì questo lo so ma poi il suo avvocato dicendole verrà l'avvocato Schembach perché lui insistette di dire io ho delle cose da dire al suo cliente le ha fatto un cenno a quale sarebbe stato il tema del colloquio o no? no quindi voi lo avete appreso per la prima volta in occasione di questo colloquio siamo d'accordo? sì benissimo non le chiedo di che cosa avete parlato perché ce lo ha detto ieri lei sa o lei stesso è in possesso lei sa se il suo legale sia tuttora in possesso o lei è in possesso di una copia della registrazione a cui io non sono in possesso ma il mio legale senz'altro è in possesso nel quadro di questa sua collaborazione potrei chiedere se il suo legale sarebbe disponibile su sua richiesta a far pervenire direttamente alla corte questa registrazione se la corte già non ce l'ha perché noi ne chiederemo l'acquisizione in questo caso sì non prego ricordo che l'avvocato Rigotti mi pare che sia indicato in una delle liste testi proprio su questo argomento se non ricordo male mi sembra dalla difesa sì sì d'accordo ma noi vogliamo difesa di taloni ma noi cominciamo a mettere agli atti che questa registrazione c'è e siccome poi il signor Buscetta se ne andrà chissà dove la disponibilità del signor Buscetta è che la corte possa chiudere la registrazione siamo d'accordo scusate che contro il signor Buscetta è che non vi ricordare che sia nella nostra lista integrativa sì ma lo dico non c'è da io sì l'importante è che il signor Buscetta sa che c'è questa registrazione che per quello che le rubano sì sì è proprio è indicato come test diretto da la giusta di taloni su queste circostanze di Gotti Luigi sì a noi interessa sapere che oggi e anche anche da la dichiarazione di Gotti ma a noi interessa sapere che riferisca all'oggetto del colloquio 21 marzo 95 l'oggetto del colloquio però oggi apprendiamo che c'è una registrazione sì certo l'avvocato di Gotti e se ho ben capito il signor Buscetta non avrebbe niente in contrario che venisse acquisito perché ieri stesso più volte ecco questo era non ho niente in contrario volevo solo aggiungere una cosa a suo favore c'era anche un interprete che trasmetteva dall'inglese all'italiano dell'ufficio della polizia va bene allora lei ci ha detto di essere stato ospite nella villa del genero di Ignazio Salvo chi l'ha misa a disposizione questa villa non credo il genere no chi l'ha misa a disposizione Nino Salvo Nino Salvo chi l'ha invitata in questa villa chi? chi l'ha invitata a passare questo Natale in compagnia dei suoi familiari che l'hanno raggiunta dal Brasile se ho ben capito ma non è stato un invito è stata una richiesta ecco credo che l'abbia fatto Bontate e perché Bontate si prese questa preoccupazione? su mia richiesta volevo passare feste natalizie con la mia famiglia e lui mi disse che in questo favore potevamo domandarlo è Salvo perfetto quindi quando si manifestò questa necessità lei ancora non conosceva non conoscevo i Salvo li conosceva già? sì e allora perché non ha chiesto direttamente ai Salvo se lo potevano ospitare? certe regole si rispettano i Salvo erano conosciuti da Bontate molto meglio di me anche se con me c'era una conoscenza senta e vuole essere più preciso rispetto a quanto non sia stato ieri con riferimento a quel che ha già dichiarato peraltro a Padova circa il momento in cui i due Salvo furono da lei conosciuti? siamo nel periodo nel periodo sempre dal giugno a gennaio dell'85 a Padova però parla dell'85 dell'81 dell'80 facciamo va bene ma sono i primi giorni dell'81 va bene per forza perché appunto nell'81 lei se ne va qui stiamo parlando di conoscenza però a Padova lei ha parlato di un periodo un pochino più in là nell'anno ha parlato di agosto-luglio o quindi se vogliamo luglio o agosto a Padova non posso stabilirli in mezzo ma l'ho conosciuto l'ho conosciuto bene li vedevo molto spesso da Michele Greco li vedevo molto spesso da Bontadi quindi senza bisogno di stabilirli giorno li vedevo molto spesso d'accordo e quindi in quel periodo i salvo non andarono in vacanza evidentemente no che io sappia no beh no che lei sappia no no vedendole io li ho visti personalmente fino al mese di dicembre posso dire no non sono andati mai in vacanza d'accordo beh ricorda se quell'estate era un'estate particolarmente calda no non lo ricordo non lo ricordo però pochi mesi fa si ricordava che l'estate era un'estate caldissima io non so perché ho detto questo pochi mesi fa ah beh io non lo so qual è stata la domanda se si era stato calda pagina 65 del verbale delle dichiarazioni dalle rese a Padova ed era un'estate caldissima e lei si ricorda benissimo quell'estate perché in quell'estate lei ricorderà c'è stato anche un altro incontro importante non ricordo neanche l'incontro ieri ricordava un incontro con l'onorevole Lima all'hotel Flora nella caldissima estate del 1910 ma lei sta parlando di Palermo e poi se ne va a Roma si ricordo io sono uno spirito ma io per me è difficile a seguirlo lei sta parlando di Palermo mi parla di Caldo io mi riferisco a Palermo e poi andiamo a Roma non dica così perché lei è il moto perpetuo dal Mato Grosso con i Daini a Perugia Palermo eccetera pure lei non è che è molto tranquillo quindi fra tutte e due allora ritorniamo a questo punto era un'estate era un'estate è un'estate caldissima se lo ricorda adesso no neanche adesso me lo ricordo l'incontro avvenne all'etel Flora durante l'estate dell'ottanta era un'estate caldissima io ma io non so è va bene era un'estate caldissima era un'estate caldissima adesso che glielo ho contestato si ricorda però che avvenne questo incontro con l'onorevole Lima certo perfetto lei ha anche già detto che a questo incontro era presente Nino Salvo ma lei mi ha contestato di avermi incontrato con Lima o lei mi ha fatto la domanda no le dico lei ricorda se all'incontro con Lima si era presente anche Nino Salvo era presente nel nostro lei ricorda mi portò Nino Salvo da Lima noi lo stavamo mi ha preceduto quindi fu Nino Salvo addirittura ad organizzare l'incontro si come nacque l'idea di incontrarsi con Lima quando Nino Salvo le fece presente l'opportunità di questo incontro a Roma a Palermo non lo so se me lo fece a Roma o me lo fece a Palermo però ci siamo incontrati non ricordo al pranzo non ricordo un pranzo al pranzo sì me lo ricordo ma già al pranzo siamo per andare da Lima da Lima quindi Nino Salvo era già a Roma e poi siete andati insieme e poi siamo andati a questo incontro e non vorrei apparire un emulo dei Monsignori della Palisse se le dico che tutto ciò è evidentemente avvenuto dopo che lei si era conosciuto con Nino Salvo sì prima certo non poteva avvenire è avvenuto tutto ciò nei giorni immediatamente successivi alla conoscenza o è avvenuto in un'epoca sempre nell'arco dei cinque mesi quindi diciamo è avvenuto a una qualche distanza dal momento in cui vi eravate conosciuti e quindi dopo che era intervenuta una qualche confidenza non lo ricordo non lo ricordo però se lei ha conosciuto posso dire che era sola estate ecco però se lei ha conosciuto Nino Salvo soltanto a luglio o ad agosto dell'ottanta certamente questo incontro va collocato dopo il luglio o dopo l'agosto dell'ottanta a seconda che si tratti di luglio o di agosto siamo d'accordo su questo comunque c'è una concomitanza che Nino Salvo si trova a Roma perché deve difendersi in un processo deve essere interrogato da un giudice comunque ha qualche cosa di giudiziario da sbrigarsi lui qua a Roma non sa perché la nostra insistenza sul punto perché le accurate indagini che sono state fatte in sede di riscontro alle sue dichiarazioni non hanno consentito di appurare nessuna presenza di Nino Salvo a Roma nella seconda metà di quell'anno ecco perché cercavamo un po' di chiarire il punto sempre rimanendo in tema Salvo e ritornando però un po' ai Salvo Pecorelli lei ha già detto che quando le parlarono al senatore Andreotti il Salvo non fecero riferimento a nessun fatto specifico adesso vorrei sapere nei colloqui che lei ha avuto con i Salvo avete avuto occasione di parlare di Pecorelli no non avete parlato quindi dell'uccisione di questo signore no non avete parlato quindi dei possibili motivi della sua morte no no lei è stato incaricato di verificare la disponibilità delle Brigate Rosse a assumersi la paternità da soli o in condominio dell'omicidio dalla Chiesa in condominio insieme insieme ha usato l'espressione dell'avvocato che vorrà ogni tanto i vecchi studi dunque d'accordo vero? sì senta da chi è stato proprio personalmente incaricato di verificare questa disponibilità? se non ricordo male da un tale che si chiamava Mimmo Teresi sotto capo della famiglia di Bontate e Bontate non c'entra niente con questo? come non c'entra niente? no non fu anche Bontate a sollecitarla in questo senso perché mi sembra adesso la troviamo pagina 4 della rogatoria del 6 aprile del 93 lì sembra invece che sia Bontate proprio se non vado errato a avanzarle questa ricerca ma il sotto capo in Cosa Nostra eseguisce quello che gli dice il rappresentante quindi Teresi ma lei mi ha domandato chi me l'aveva detto e ho risposto il nome chi ha attivato e appunto io non ho visto Bontate in carcere io ho visto Teresi sì ma tanto per rifare la storia come la del bacillo di cocco Teresi parlava per conto di Bontate o a titolo personale? bacillo di cocco tanto per rifare la stessa storia del fatto che non era Manfra che le passava direttamente le cose ma le arrivavano per interposta persona anche qui Teresi può essere ricondotto a Bontate o parlava a titolo personale? no parlava per bocca di Bontate sì sì ma anche il sotto capo della famiglia di Bontate parlava per bocca di Bontate lei ci può ricordare proprio per risvegliare immediatamente i ricordi di tutti compresi quelli di chi le parla e dove si trovava quando ricevette questo invito? era detenuto questo lo sappiamo detenuto nel carcere credo a Palermo nel carcere nel carcere di Palermo lei ha preso contatto con qualcuno per verificare questa possibilità? sì e con chi? con un brigatista che si chiamava? si chiamava per caso se i miei contraddittori me lo consentono si trattava per caso di Azzolini? Azzolini sì eravate quindi con detenuti insieme? sì quale fu la risposta di Azzolini che loro non avrebbero mai rivendicato un omicidio se almeno uno di loro non avrebbe partecipato Azzolini era in carcere però anche all'epoca del processo Moro con lei no veramente a Padova mi pare che ha dichiarato di sì era suo con detenuto tant'è vero che poi lei ha detto che gli faceva pena che quindi cercava di di fatti continuo a dire la stessa cosa ma nel senso non c'era Azzolini quando fu sequestrato Moro perché se si sarebbe stato avrei parlato con Azzolini Azzolini era uno dei personaggi invece quando parlo dico che a Cunio non c'è nessuno dei terroristi di una certa importanza non che io la voglia la voglia prendere in contropiede ma proprio soltanto per risvegliare la sua memoria a Padova ci siamo intrattenuti diversi minuti su questo punto perché risultava invece che Azzolini era detenuto con lei anche all'epoca del sequestro Moro tanto è vero che io le chiesi e glielo richiedo adesso per la conoscenza di questa Corte come mai lei pensò di prendere contatti con Azzolini per proporre questa rivendicazione e solo una precisazione risultava da dove però risultava dalle dichiarazioni del testo risultava da riscontri obiettivi perché in realtà non è diverso risultava dal fatto che mi pare gliel'abbiamo chiesto lì stesso ah quindi da dichiarazioni sue e quindi tanto è vero che poi lei mi ha dato una risposta molto precisa quando io le ho chiesto ma allora perché all'epoca del sequestro Moro lei smagnava per andare ad Acuneo a Torino quando poi lì ci aveva o aveva avuto l'occasione di parlarne con Azzolini risposta quale fu la mia risposta la sua risposta vorrei che lei se la ricordasse adesso non me la ricordo dato che leggi periodo risposta ecco allora io gli dico come mai di Moro non gliene parla e invece di dalla chiesa gliene parla ma io non dovevo parlarne mi risponde lei a me di fatti non ne ho parlato io ho fatto delle avance io memore della sicilianità le ho detto ma queste avance le avrà fatte a voce o per segni allora lei mi risponde che questa volta siccome Azzolini non era siciliano gliela ha dovute fare a voce quindi ne ha parlato ma lei sta parlando di un'altra cosa mi scusi che la interrompo lei sta parlando di dalla chiesa ritorniamo su Azzolini invece Moro cosa io le ho chiesto se lei ad Azzolini ha parlato della possibilità che le Brigate Rosse usassero questo trattamento umanitario nei confronti di Moro liberando lei mi ha detto che con Azzolini non ne ha parlato quando io poi le ho chiesto perché lei mi ha detto che in fin dei conti Azzolini non ci ha pensato non l'ha ritenuto all'altezza della situazione tant'è vero che gli ho detto per dalla chiesa andava bene per Moro non andava bene comunque se non se lo ricorda pazienza no non me lo ricordo non solo non me lo ricordo ma non ho mai fatto una dichiarazione parlando di Azzolini nell'occasione del sequestro Moro qui sempre gli atti sono a disposizione gli atti sono a disposizione della corte non ho mai dichiarato tranne che a Padova essere stato per un lapis non so in quel momento che non è una cosa facile stare dietro all'avvocato Coppi perché abbia potuto confondere la data ma non ho mai fatto una dichiarazione a un giudice dove si parlasse che Azzolini era presente quando lo trovavamo Moro fu sequestrato va bene le chiedo scusa se corro troppo prego nonno ne l'ho detto anche l'altro giorno c'è una condanna nel cognome quindi è un po' difficile starmi presso me ne rendo conto allora leviamo di Coppi ne conosciamo due uno sulla bicicletta che è rimasto veramente spererei di spererei di rimanere anch'io anche se non vado anche se non vado in bicicletta no ma lei non c'entra con la bicicletta è il nome anche perché se lei mi consente qui con queste sicilianità in rimanere vorrei che fosse un rimanere anche con i piedi ben attaccati alla terra che calpesto senta la corte scuserà ma ogni tanto è talmente faticoso questo interrogatorio e poi signor bene che ci sia qualche attimo no al di là di qualche contrasto di vedute su qualche punto delicato del processo poi persona così amabile che fa anche piacere ogni tanto scherzare con lui senta allora leviamo Azzolini ma leviamo anche il fatto che lei ad Azzolini abbia qualche volta dato dei vestiti abbia dato qualche genere di conforto vedendolo particolarmente abbandonato data la sua condizione di terrorista sì lei dopo le dichiarazioni del 9 e 10 di gennaio se ne è andato via subito dall'Italia non voglio sapere dove ma insomma se ne è andato via subito dall'Italia sì quindi non ha potuto leggere il Corriere della Sera del 18 gennaio del 96 dove Azzolini diceva che erano tutte invenzioni sue il fatto che lei gli avesse dato vestiti genere di conforto perché se non vado errato non c'era più in Italia se non vado errato il 18 non ero più in Italia no no ma adesso ve lo dico io siccome Azzolini potrebbe insomma Azzolini in un'intervista rivolgendosi direttamente a Montanelli ha contestato che lei abbia usato questi favori nei suoi confronti e ha detto che proprio contatti con lei non ci pensava per niente ad averne e che significa questo lui può dire quello che vuole però io le potrei dare anche testimone che i miei compagni diceva che io invece mi sono comportato così però questo io non credo che abbia nessun valore forse un accrescitivo alle mie dichiarazioni senta Badalamenti le ha parlato di un interessamento del senatore Andreotti per un particolare processo lo ha già detto ieri processo Rimi d'accordo? Sì questo è il processo per il quale si sarebbe dovuto attivare il senatore Andreotti o si sarebbe attivato il senatore Andreotti si ricorda in quale anno sarebbe stato espresso dal senatore Andreotti questo interessamento per il processo Rimi? Io so che ringraziamento di Badalamente nel 1979 ecco signor Bucetta quindi finalmente approdando a Perugia abbiamo finalmente acquisito questo che non si tratta più di un intervento perché si interessasse o di un intervento perché si era interessato perché si era interessato perché fino a Padova si ricorda lei non era in grado di ricordare bene se era un intervento per interessarsi o di un intervento per un interessamento già a Padova vi ho detto invece che era per interessarsi per ringraziarlo per l'interessamento dopo una serie di contestazioni perché lei in realtà prima aveva detto che non era in grado di stabilire o l'una o l'altra cosa oggi finalmente siamo in grado di questa cosa no no è così comunque agli atti comunque oggi diciamo che è un intervento per ringraziarlo di un qualche cosa che era già avvenuto e lei colloca e lei colloca questo fatto nel 1979 l'interessamento le risulta in relazione a quale giudice non intendo dire persone poi verremo anche le persone ma intendo dire grado di processo avvenne in Cassazione così ho dichiarato quindi l'interessamento avvenne da parte del senatore Andreotti per favorire il processo a livello di Cassazione a livello di Cassazione l'interessamento del senatore Andreotti era in favore di entrambi i rimi o di uno soltanto di essi di uno soltanto perché l'altro era morto si lo so gli faccio la domanda perché anche a Padova abbiamo impiegato qualche minuto per stabilire se si trattava di tutte e due o di uno eccetera eccetera data la sua incertezza nel riferimento al grado del processo quindi finalmente ringraziamento per una cosa avvenuta e per la Cassazione l'anno sarebbe stato il 79 oh finalmente avvocato io il 6 aprile del 1993 io dico di ringraziamento nei confronti del senatore Andreotti il 6 aprile del 1993 quindi no qui a Perugia adesso seguo i pubblici ministeri fra pochi istanti le farò vedere che a Padova ancora stavamo discutendo se era per interessarsi o per ringraziarlo e questo badalamenti si incontrò proprio a questo scopo con il senatore Andreotti detto badalamenti solo per questo scopo e oggi non c'è più bisogno che io sollecipi la sua memoria invitandola a far riferimento a qualche fatto importante per collocare nel tempo questo incontro oggi finalmente possiamo dire 79 d'accordo? quindi non le chiedo se lei può ancorare i suoi ricordi a qualche fatto importante che ci permetta di collocare nel tempo lo scoppio di una guerra la nascita del figlio di qualche imperatore eccetera non si ricorda nulla no lei ieri ha ricordato una pittoresca espressione delle badalamenti circa le parole che il senatore Andreotti avrebbe pronunziato quando si incontrarono e cioè questo desiderio questa speranza del senatore Andreotti questo auspicio che tutte le piazze pensa che noia poi in ogni piazza d'Italia la faccia di badalamenti issata su di un piedestallo questo è grosso no la faccia o a uomini come lui come ti ve lo dica ecco a uomini come lui a uomini come lui quindi la faccia di badalamenti non è molto quindi anche anche lui prima di tutti lui evidentemente no? chi? badalamenti anche lui meritava una statua evidentemente secondo una statua? il comportamento di un uomo stiamo parlando di stato e io questo linguaggio non lo capisco stiamo parlando di un uomo no né di immagini quindi anche lui insomma ci stava bene il carattere dell'uomo perfetto allora mi sa dire se i badalamenti le disse quali erano i fatti specifici grazie ai quali il senatore Andreotti si augurava un popolo di italiani tutti copia conforme di badalamenti mi dispiace non lo so no a me mi fa piacere se i figuristi mi dispiace non lo so d'accordo lei ha già escluso vero che Lima le fosse stato presentato come l'uomo d'onore si nel Lima le fece mai questa confidenza di essere uomo d'onore ma l'ho visto solo una volta e io insisto Lima? come l'ha visto? si si come l'ha visto una volta? fino al 60? no no ah nel 60 non era uomo d'onore garantisco al 100% che non era uomo quando lo quando lo rivedo nell'80 nell'80 se sarebbe stato uomo d'onore io credo che Salvo me l'avrebbe presentato ma Salvo non l'ha fatto va bene lei è in grado di indicarci degli interventi precisi puntuali specifici quindi fatti di Lima a Roma su autorità politica amministrative giudiziarie compreso il senatore Andreotti per ottenere dei favori che gli erano stati richiesti da Cosa Nostra? nessuno nessuno Lima sia pure in quel brevissimo perché mi pare che prima del 60 non ne avete parlato in quell'incontro in cui si è lamentato di Ciancimino e quindi tutto sommato ha parlato di politica quindi nell'incontro dell'estate caldissima dell'hotel Flora le ha mai detto di essersi servito del senatore Andreotti a Roma per ottenere favori in favore di Cosa Nostra? ma io vorrei cessare con questo domande perché fra me e l'onorevole Lima non è stato nominato il senatore Andreotti ah quindi chiudiamo il discorso? non è stato nominato benissimo 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 nè in senso buono nè in senso tattivo nè in senso spregiativo benissimo e bontate di inserirlo per quello che lei sa erano favorevoli vedrà che sono costretto introdurre il discorso con la solida domanda perché vorrei arrivare a qualche ulteriore approfondimento lei ha in qualche modo risposto già ieri a questa domanda che lei ripropongo e cioè se bontate di inserirli fossero o meno contrari all'omicidio Mattarella o favorevoli all'omicidio Mattarella sì qual è la domanda? la domanda se le risulta che bontate di inserirli fossero o favorevoli o contrari all'omicidio Mattarella hanno votato insieme alla commissione i sperissi per uccidere Mattarella senta su questo argomento posizione dei due rispetto all'omicidio Mattarella lei è stato interrogato un'infinità di volte ha dato sempre ma bontate di inserirlo non votate badalamente ho detto badalamente? gli sembra di aver sentito badalamente no no va bene bontate di inserirlo ecco erano favorevoli o contrari lei ha detto hanno votato anche loro in commissione per la morte di questo ecco io voglio sapere lei è stato sentito più volte su questo tema ovviamente ha dato sempre la stessa versione? ci spiega come mai di volta in volta quindi ha cambiato versione su questo fatto? perché dovevo parlare di bontà e inserirlo in cose politiche e allora e allora non volevo fare il nome dicevo che erano contrari all'uccisione del Mattarella di Mattarella beh comunque o erano contrari o erano favorevoli comunque qualche cosa ha detto io non le sto dicendo lei non ha detto nulla è che una volta ha detto che erano contrari una volta che erano favorevoli quindi e quindi ne ha parlato di questi due signori con riferimento ad un omicidio politico io volevo avere una spiegazione un po' più persuasiva circa il fatto che lei una volta ha detto una cosa e un'altra volta ne ha detto un'altra Mattarella di Mattarella beh comunque o erano contrari o erano favorevoli comunque qualche cosa ha detto io non le sto dicendo lei non ha detto nulla è che una volta ha detto che erano contrari una volta che erano favorevoli quindi e quindi ne ha parlato di questi due signori con riferimento ad un omicidio politico io volevo avere una spiegazione un po' più persuasiva circa il fatto che lei una volta ha detto una cosa un'altra volta ne ha detto un'altra la seconda volta l'ho detto ben spiegata credo dando anche tutti i dettagli e non mi ricordo come ho dato la spiegazione la seconda volta lo posso dire sì per sommi capi eh va bene almeno per sommi capi ecco perché c'era una situazione di pulizia per 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 gli appalti e l'onorevole Mattarella no onorevole va bene l'onorevole Mattarella si era opposto a questo stato di cose e i corleonesi avevano tutto l'interesse a farlo in quell'epoca le bontate e l'inserirlo non ci sono opposti perché avevano intrapreso una guerra per vedere per l'eliminazione e per tutto quello che scaturì poi per la seconda guerra di me quindi diciamo che i due hanno votato a favore o comunque non si sono opposti perché non volevano introdurre una rottura con i corleonesi giusto frontale con i corleonesi una rottura frontale quindi bontate e inserirlo non avevano motivi personali ragioni particolari per volere la morte di Mattarella no no per quello che mi hanno detto sì 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 allora adesso vorrei sapere se comunque di Lima ha detto che non avete proprio mai parlato le rifaccio la domanda con riferimento ai cugini Salvo le risulta Salvo non le hanno mai detto di aver chiesto piaceri ad Andreotti ma lei per altre fonti per altre via le risulta che il senatore Andreotti abbia fatto piaceri per cosa nostra su richiesta dei Salvo no quindi non è neppure in grado lei adesso al di là delle fonti di indicare fatti specifici compiuti dal senatore Andreotti tranne quello di averla accompagnato ma lei questo non ci interessa no non ne ho tranne quello di aver accompagnato Gaetano Badalamente dal senatore Andreotti no non mi risulta ma la domanda era questa se le risultavano fatti posti in essere dal senatore Andreotti per sua conoscenza diretta in favore di cosa no d'accordo bontate le ha mai parlato di suoi incontri con il senatore Andreotti no bontate le ha mai parlato di un incontro che sarebbe avvenuto in una tenuta di caccia tra lui ed il senatore Andreotti presenti i cugini Salvo no i cugini Salvo le hanno mai parlato di aver accompagnato il senatore Andreotti in una tenuta di caccia perché si incontrasse con bontate no bontate le ha mai parlato ma io non ho dichiarato queste cose qua ma io non le sto ah va bene va bene no pensavo che vede che non le faccio me sta facendo domande se non le faccio contestazioni vuol dire va bene chiedo scusa no no senta e bontate le ha mai parlato di un incontro con il senatore Andreotti nel quale vennero espresse da parte sua di bontate sua di bontate delle lamentele nei confronti del Mattarella no le ha mai detto che lui era seccato per il fatto che Mattarella un tempo vicino alla mafia avrebbe cambiato atteggiamento e che per questo si sarebbe incontrato con il senatore Andreotti no bontate le ha mai parlato di un incontro che sarebbe avvenuto a casa nella villetta di tali Inzerillo o di qualche parente di Inzerillo con il senatore Andreotti dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella no le ha mai detto che il senatore Andreotti voleva conoscere le ragioni per le quali Piersanti Mattarella era stato ucciso e che per questo i salvo avrebbero organizzato questo incontro no no Bontate aveva confidenza con lei sì era solito raccontarle i fatti importanti di cui era protagonista logicamente non tutti sì non tutti eravamo in buonissimi rapporti come possono essere due amici veramente amici quindi o rettifichiamo o ci chiarisce il senso delle dichiarazioni che lei ha reso al dottor Falcone il 29 agosto del 1984 quando disse che Bontate in realtà non le diceva nulla di ciò che egli faceva in realtà Bontate aveva confidenza e le raccontava parecchio di ciò che faceva ci può risolvere questa contraddizione? no perché ritorniamo nuovamente sull'argomento avvocato non è che l'avvocato lui non mi diceva perché si asteneva non c'erano gli argomenti per parlare delle cose e se non c'era l'argomento non si parlava qui è più generale e comprensiva la sua affermazione il Bontate non mi diceva nulla sulle attività di cui si occupava ma di che cosa parlavamo? qui è una vecchia lega il verbale per favore aspetti aspetti qui c'è stato un problema proprio di interpretazione autentica del suo pensiero a Padova lei è troppo intelligente per non capire che siamo ritornati io la ringrazio dell'intelligenza ma sono quello che sono siamo ritornati siamo ritornati a Padova si ricorda lei rispose a delle domande circa il fatto se Bontate l'avesse messa al corrente di suoi traffici di sostanze stupefacenti e lei disse di no ma a me sembrava che l'affermazione che le ho appena letto ovviamente però il Bontate non mi diceva nulla sulle attività di cui si occupava e quello che so ho riferito sul suo conto l'ho appreso da altri ecco perché nulla mi risulta sui grado né su altri membri della famiglia ecco quindi questo ma mica mi poteva fare il diario della sua vita Bontate a me quindi chiariamo e può darsi che non me l'abbia detto quindi chiariamo che Bontate aveva in lei molta confidenza le raccontava tutto quasi tutto non le ha raccontato però nulla circa l'omicidio Pecorelli non le ha raccontato nulla circa i suoi incontri con Andreotti giusto? Molte volte voi fate corretto allora posso concludere così e una volta tanto fatemi concludere Bontate non le ha raccontato nulla circa l'omicidio Pecorelli questa conclusione chiaramente ho riferimento ad Andreotti con riferimento stiamo riassumendo e concludendo il discorso che abbiamo fatto in precedenza voglio sapere se oltre quello che gli ha detto non ha fatto nessun riferimento peraltro a questi incontri non ha fatto riferimento all'omicidio Mattarella se su Pecorelli gli ha detto soltanto quello che sappiamo ovviamente questo è chiaro quindi è giusto concludere in questo modo? Sì Bontate le ha mai detto espressamente chiaramente di aver fatto lui dei piaceri al senatore Andreotti o possiamo dire che anche con Bontate a parte i riferimenti a Pecorelli poi non avete più parlato di Andreotti come è avvenuto con Lima no non mi ha detto nessun favore particolare fatta al senatore Andreotti da lui al senatore Andreotti senta le ha parlato a questo proposito del boss calabrese Girolamo Piromalli e non le ha detto per caso che da parte di Andreotti sarebbe a lui giunta una richiesta di intervenire presso Girolamo Piromalli affinché cessassero le estorsioni poste in essere in danno di un certo petroliere Bruno Nardini mai sentito parlare di questa storia? non ne ha mai sentito un momento di Piromalli sì eh grazie di Piromalli ma io volevo sapere solo il fatto specifico un intervento di Bontate su Piromalli non ne ha saputo mai parlare eccetera lei ricorda quando ha parlato adesso l'aiuto anche quando ha parlato per la prima volta dei salvo al dottor Falcone intendo riferirmi al periodo in cui è iniziata la sua collaborazione lei ha iniziato subito a parlare eh dei salvo o dei salvo avete parlato un po' più in là rispetto all'inizio della collaborazione più in là più in là adesso io sono costretto ma ce la staviamo in pochi minuti perché certamente lei non ha ragione di dire cose diverse da ciò che ha detto già eh sono costretto a rifarle alcune domande che già le ho fatto a Padova eh circa eh i salvo lei ha descritto la personalità dei salvo rispondendo alle mie domande e di lo ruolo che essi avrebbero avuto in Cosa Nostra rispetto a Cosa Nostra perché io le chiedevo se lei si ricordava quello che aveva detto al dottor Falcone in quel memorabile interrogatorio in cui lei finalmente fece il nome di due persone eccellenti come affiliati a Cosa Nostra ritornando ritornando a quel verbale lei ricorda di aver escluso davanti al dottor Falcone parlando dei salvo che costoro fossero uomini violenti sì sì lei ricorda di aver escluso che i salvo fossero dei sanguinari sì lei ricorda di aver escluso che i salvo si fossero arricchiti con il traffico degli stupefacenti o con altri illeciti penali di questo tipo sì ricorda di aver detto che a Palermo e in genere nelle cose di Cosa Nostra i salvo non avevano un grandissimo ruolo una grandissima importanza sì ricorda di aver detto che i salvo e Nino Salvo in particolare avevano ricevuto soprusi da parte di Cosa Nostra addirittura sì e può ricordare quale sopruso i salvo e Nino Salvo in particolare ricevettero da Cosa Nostra uno dei soprusi è il sequestro del suocero del suocero di? Nino Salvo da chi ha saputo di questo sopruso oltre che da Salvo di cui ha già detto ai salvo dai salvo stessa bontate e badalamenti le dissero nulla in proposito non mi ricordo ma può darsi che mi abbiano detto qualche cosa anche loro le risulta che Nino Salvo si sia rivolto a bontate e a badalamenti per ottenere la liberazione del suocero o perlomeno per ottenere la restituzione del cadavere le risulta in quali circostanze Nino Salvo ha conosciuto badalamenti? no non le risulta che Nino Salvo sia andato da badalamenti che ancora non conosceva che si trovava al soggiorno obbligato di Sassuolo proprio per interessarlo alla sorte del suocero? no secondo lei per quel che sa naturalmente è chiaro all'epoca del sequestro con lei o badalamenti e Nino Salvo già si conoscevano quindi? secondo me sì mi scusi avvocato Coppi in che epoca sarebbe questo sequestro? ci abbiamo il 75 75 ho risposto sì avvocato perché vede da atti giudiziari i badalamenti invece colloca la sua conoscenza con Nino Salvo proprio in questa occasione tant'è vero che quando se lo vede arrivare a Sassuolo lo scambia per un carabiniere io non so se posso permettermi un commento ma le dico questo che se un giorno ci sarà la possibilità di incontrarmi col signor badalamente e dobbiamo chiederlo a Schembach no dobbiamo chiederlo alla corte e la corte morirebbe dalla voglia di sentirlo comunque mi metterei a ridere in faccia badalamente perché la storia che l'avvocato sta dicendo che l'hanno incontrato e l'è andato per raccomandazione di un colonnello dei carabinieri mi fa soltanto ridere d'accordo gente che ha avuto il padre uno d'onore i salvo hanno avuto i padri quindi si immagina se per presentarsi a badalamente hanno bisogno di un colonnello dei carabinieri per incontrarlo comunque questo è un commento mio che non entra a che vedere con il processo va bene vi salvo le hanno mai detto che l'omicidio pecorelli era stato fatto per compiere un piacere ad andreotti ma me l'ha fatto questa domanda voca no ho già chiesto se hanno mai parlato dell'omicidio pecorelli mi dispiace però c'è anche da rendersi conto che procedendo in questa maniera l'interrogatore è una durata indefinita e si ritorna continuamente sulle stesse cose io gli ho chiesto se hanno parlato in genere dell'omicidio pecorelli poi gli ho chiesto se a loro risultava comunque mi pare che stiamo perdendo più tempo su una risposta già data che non per farne altre diciamo vediamo queste ultime domande mi pare che lei abbia escluso che Badalamenti gli abbia detto che andreotti aveva esplicitamente richiesto ai salvo di eliminare pecorelli d'accordo? sì quindi anche qui quando lei parla dell'interesse di salvo con riassumendo le dichiarazioni di Badalamenti siamo nel campo delle congetture nel campo delle deduzioni Badalamenti le ha mai detto quali erano le cose sul sequestro Moro conosciute da pecorelli e dalla chiesa che infastidivano Andreotti? ho già risposto a questa domanda comunque risponderò nuovamente c'è una mosca la risposta la risposta il commento di Badalamenti era che non si sa come questo questo lo so ma io vorrei sapere proprio se tenendo conto che oggi abbiamo parlato di un fastidio determinato da documenti vorrei sapere se lei è al corrente del contenuto che questi documenti ah no no questo quindi non ne sa niente di questo no vi sono altre fonti altre fonti quindi oltre salvo montate badalamenti eccetera dai quali lei abbia appreso che Andreotti espresse badi no ai salvo aspetti a salvo ai salvo a badalamenti o a bontate non la richiesta di uccidere il pecorelli ma abbia espresso a queste persone la sua insofferenza e il suo fastidio nei confronti di pecorelli no a lei risulta da qualche fonte che il generale dalla chiesa abbia consegnato a pecorelli documenti inerenti il sequestro moro non quel che si dice a lei personalmente no le risulta no quindi non può indicare neppure nessuna fonte dalla quale si possa desumere direttamente conoscenza su questo punto no a un certo momento nel corso di un interrogatorio fatto con il dottor Falcone lei venne contestato che Calderone attraverso i salvo aveva cercato di far spostare un funzionario di polizia che era che gli era scomodo e che l'uomo politico interessato in questo senso era e doveva essere Lima ricorda che le venne riferito questo io si di aver riferito questo no non sono stato chiaro forse nel corso di un interrogatorio il dottor Falcone le disse guardi che Calderone ha detto di aver interessato i salvo perché i salvo si rivolgessero a Lima affinché Lima levasse di torno un commissario di polizia un questore che dava fastidio può darsi sì questo fa parte dell'interrogatorio negli Stati Uniti del primo febbraio dell'88 e faccio questa domanda perché in definitiva nell'88 il collegamento mafia salvo e Lima era stato già fatto ed il nome di Lima era già uscito lei in quell'occasione non ritenne che a questo punto poteva affrontare il discorso o riteneva nonostante fosse stato già in qualche modo evidenziato questo rapporto che da parte sua non si dovesse portare alcun contributo valgono sempre le considerazioni che ho fatto prima nonostante nonostante ma sono anche scritte le considerazioni sì 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 certo quindi nonostante il nome di Lima fosse stato fatto esplicitamente dal dottor Falcone lei non ritenne di doversi muore d'accordo lei ci può confermare nei suoi ricordi che Badalamenti parlando delle preoccupazioni che il senatore Andreotti avrebbe avuto in merito a ciò che Pecorelli stava per fare abbia usato delle particolari espressioni per definire queste preoccupazioni del senatore Andreotti io parlando con Falcone no no qui siamo a una domanda che io le sto ponendo in questo momento cioè lei ha parlato con Badalamenti Badalamenti le ha indicato la causale dell'omicidio Pecorelli in particolare le ha riferito qualche cosa circa ciò che preoccupava il senatore Andreotti usando un'espressione molto colorita la ricorda sarebbe in grado di ripeterla se no gliela ricordo io no me la ricorderai allora lei in questa occasione disse che Badalamenti aveva rappresentato le preoccupazioni del senatore Andreotti perché stavano per venire fuori da parte delle Pecorelli delle porcherie inerenti al sequestro Moro lo ricordi adesso? lo ricordo ma non so quale non sa quali sarebbero state quindi lei non è in grado di dirci quale sarebbero state queste famose porcherie comunque si trattava di porcherie inerenti il sequestro Moro d'accordo? sì veniamo e siamo veramente alla fine sono pochissime domande ancora anche noi abbiamo qualche curiosità circa le espressioni usate da Badalamenti in ordine all'omicidio Pecorelli precisamente che cosa intendeva dire noi vorremmo sapere con esattezza che cosa intendeva dire Badalamenti oltre quello che lei ha già precisato con l'espressione l'abbiamo fatto noi glielo dico subito perché vorrei sapere se lei così abbreviamo i termini ormai siamo alla fine il dottor Cardella mi ha già dato il consenso a questa contestazione quindi Timeo Danaos con Tona Ferentes chissà che cosa vorrà fare poi ma avete capito tutto ma non l'ho capito io adesso gli spiegheremo anche a lei l'avete capito tutti ma meno di me adesso le spiego allora con riferimento alla famosa frase l'abbiamo fatto noi c'è qui una domanda che le viene fatta dal dottor Cardella che ormai lei ricorda chi sia il 2 giugno del 93 le chiedono alla procura di Roma lei ha dichiarato lei Buscetta ha dichiarato anche Badalamenti mi disse che l'omicidio era stato fatto da lui e da Bontate o meglio mi disse lo abbiamo fatto noi ed io interpretai ciò nel senso che ho detto allora lei si domanda com'è possibile che Badalamenti avesse fatto l'omicidio se non aveva più alcun potere decisionale in cosa nostra essendone stato espulso col consenso della Corte le leggerei subito la risposta così lei poi ci dice se c'era conferma Badalamenti usò l'espressione che ho ricordato ma questa mi pare chiaro non può essere intesa in senso letterale Badalamenti continuava e forse continua a sentirsi parte di cosa nostra e quindi l'espressione noi come di uso corrente indica il gruppo al quale ci si sente di appartenere a prescindere da una materiale concreta partecipazione al singolo evento quel che è certo è che a quell'epoca il Badalamenti non poteva più decidere nulla in cosa nostra mentre Stefano Bontate si ricorda queste sue dichiarazioni quindi possiamo farle questa domanda secondo quel che a lei risulta Badalamenti concepì lui l'omicidio Pecorelli posto che lei ha già escluso che egli lo abbia eseguito lo ha organizzato lui per quel che lei sa la domanda è questa no no va bene basta quindi tutto ciò che Badalamenti le ha riferito circa l'organizzazione di questo delitto la ragione eccetera sono cose che Badalamenti a sua volta ha preso da qualcuno no no adesso torniamo un po' indietro avvocato stiamo andando oltre alla mia spiegazione l'omicidio Pecorelli dettomi da Badalamente contestuale parole abbiamo fatto noi ho fatto questione nei miei verbali di questa parola ufficio e uno per significare che è una cosa proprio personale di Badalamente e bontà questo l'ho capito ma io l'avevo chiesto no no dica lì dentro lo faccia dire quindi quando lei mi fa la domanda a me se Badalamente lo può organizzare io devo rispondere no però le devo dire che Badalamente si sente parte responsabile del fatto in quanto il tutto verrà organizzato senza parafrasare senza dire un'altra cosa dal bontate il quale è in perfetta regola agli uomini che lo obbediscono e quindi Badalamente lo dice l'abbiamo fatto noi come senso di responsabilità però non l'aveva organizzato lui ma non l'aveva organizzato lui siamo d'accordo siamo d'accordo grazie è l'una e le 25 ci rivediamo alle 3 e mezza come posso parlare un momento ma scusate un attimo l'avvocato presidente io desidero sottoporre questa questione alla corte adesso perché non ho voluto minimamente ostacolare in qualche modo mi scusi avvocato prima che vada possiamo farlo allontanare si può allontanare si può allontanare si può allontanare devo aspettare che mi viena potete far allontanare il test grazie perché no no potete può andare a meno che non ah ho capito scusate dicevo presidente non ho voluto sottoporre questa questione prima perché desideravo che il collega Coppi vista l'importanza che per la sua difesa ha il test e buscetta non avesse come dire o meno da parte mia alcun ostacolo nel suo interrogatorio desidero però a questo punto insieme con il collega Ferraz sottoporre il fatto che non è è la prima volta con buscetta ma sta accadendo particolarmente a testi in questo processo viene sottoposta una duplice triplice quadruplice serie di medesime domande io ho ricevuto dal collega Coppi una serie di osservazioni delle quali ho tenuto conto inizialmente su questo e abbiamo provato col collega Ferrazza nei limiti del possibile di ridurre la ripetizione delle domande al minimo essenziale cosa che tra esame controesame esame e controesame si è poi strada facendo persa io non credo che questo giovi al diritto di difesa o comunque non credo che faccia parte della garanzia della difesa questa ripetizione ma che piuttosto appesantisca il processo l'andamento del processo a lunghi tempi praticamente all'infinito cosa che non credo interessi agli imputati specialmente agli imputati detenuti e quindi chiedo innanzitutto a lei presidente che conduce il dibattimento ma poi anche ai colleghi difensori delle altre parti se è possibile ricondurre l'interrogatorio l'audizione dei testi che si presenteranno qui a cominciare da oggi pomeriggio con la prosecuzione di Buscetta dentro quello che è in qualche modo poi l'esame e il controesame il fatto cioè che le domande non debbono essere ripetute anche perché è del tutto evidente che poi si aggiunge un aggettivo se ne toglie un altro una precisazione più un altro in meno non credo che diventi o si faccia genuina la prova testimoniale assunta ma esattamente il contrario quindi vorrei pregarla di questo adesso do anche la parola al collega Ferrazza perché voglio no ecco perché noi insistiamo vivamente su questo presidente e ci raccomandiamo intanto al suo potere di governo del dibattimento e poi anche ai colleghi perché ho l'impressione che ripeto ho voluto dirlo adesso dopo che il collega Coppi ha finito il suo esame o controesame adesso non ricordo per non dare la sensazione che per un test importante per la difesa del senatore Andreotti si potesse dare la sensazione però noi avvertiamo vivamente questa preoccupazione e desideriamo confidarla all'attenzione della Corte e delle altre parti va bene la Corte ne prende atto comunque è un problema che noi come Corte abbiamo sollevato sin dall'inizio ma mi sembra che sia vero che da parte tra difeso anche da parte della difesa della parte civile del pubblico di stella sono state fatte delle domande molto spesso sono domande a chiarimento l'avvocato Coppi credo che abbia interrogato per circa quattro ore il test e ha tirato fuori delle cose che non erano venute in parte fuori ieri quindi nell'ambito del diritto di difesa è necessario sicuramente almeno per certi test scavare fino in fondo però io fin dall'inizio ho richiamato tutti a questo principio in questo processo ci sono sei parti ci sono 12 avvocati è chiaro che se ciascuno di voi farà domande ripetitive anche la corte dovete rendere conto che anche la corte specialmente in modo particolare i giudici popolari rimangono forse più sconcertati che convinti di certe cose quindi l'invito siamo d'accordo non posso fare infatti ha visto che io gli ho dato a volte via libera a volte non perché è l'unico mezzo per introdurre la contestazione va bene alle 15.30 vediamo Calò l'avvocato Liviero l'avvocato Conti i Scotti Andreotti l'avvocato Coppi l'avvocato Zaganelli e l'avvocato Bacchi il talone con l'avvocato Tormina Biffani Prioreschi e Bonsignore l'avvocato Naso Carminati è presente ha la mente l'avvocato Gili e poi l'avvocato Barone Paccoi per la Barbera per le parti civili vedo solamente l'avvocato ah beh sì c'è anche l'avvocato Terrazza anche in Costituzione bene allora possiamo richiamare il test e adesso lo interroga lei avvocato sempre per la difesa di Andreotti allora vale la raccomandazione fatta stamattina che poi facciamo tutte le volte cercate nel limite possibile di non fare le stesse domande ma solamente chiarimenti su circostanze ormai tra il pubblico ministero ieri e la difesa a Andreotti stamattina credo che gli argomenti li abbiamo toccati più o meno tutti però è chiaro che è sempre libero il vostro diritto di difesa grazie a tutti 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 avvocato in un modo impelagato in quella storia no personalmente no e l'oggetto della sua testimonianza era la conoscenza di cosa nostra era limitata alla conoscenza di cosa nostra senta volevo dirle lei negli Stati Uniti ha testimoniato solo in questo processo o in altri processi solo in quel processo solo in questo processo mi scusi volevo chiederle in questo processo l'esito qual è stato? in questo processo? no in quel processo scusi in quello dell'America? sì 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 qual è stato l'esito del processo? come è finito quel processo con la condanna di tante persone con la condanna di tante persone e quindi lei i suoi limiti di conoscenza era una cosa nostra e non il traffico di stupefacenti esatto sì ma c'è molto bruxia non sento anche io questa domanda non l'ho sentita mi scusi avvocato per cortesia dovete fare silenzio ma lei sia gentile di se vuole avvocato se vuole può stare anche in piedi qui è seduto è il problema di consigliare le carte col micro quindi io tra l'altro il rapporto di conflittualità con i micro e allora dicevo questo quindi lei di fatti di traffici di stupefacenti non sapeva nulla soltanto ha riferito sull'organizzazione cosa nostra ecco sì scusi in quel processo si parlò da parte della difesa fu contestato che lei era responsabile di omicidi che lei ricordi non mi ricordo non si ricorda di questo fatto e ci fu qualche nacque qualche polemica sulla sua attendibilità che lei ricordi davanti a meno davanti a lei non nacque il problema dell'attendibilità senta passiamo ad altri argomenti lei negli Stati Uniti in Brasile si incontra con badalamenti esatto sì benissimo badalamenti che attività svolgeva in Brasile nessuna nessuna quindi non lavorava e come come viveva badalamenti ma io non so come viveva ma viveva bene ma non so come viveva non sa come viveva e questi incontri con badalamenti furono frequenti se mi pare che lei abbia detto è vero sì sì e mi scusi lei fu arrestato quando in Brasile quando fu arrestato credo a ottobre non sono sicuro nell'83 ottobre dell'83 e lei era detenuto con tale Sansone in Brasile sì quali erano i suoi rapporti con Sansone un amico italiano sì lei ha mai detto a Sansone che era apparteneva alla mafia no non ha detto a Sansone che apparteneva alla mafia Sansone ha detto il contrario lei lo sa io non lo so questo non lo sa e ha detto altre cose a Sansone lei no non ha detto nulla ma mi dica che cosa abbia detto le dico sì o no altre cose siamo stati anche carcerati ha parlato di Badalamente con Sansone ma non mi ricordo se ho parlato di Badalamente ma l'amico era Badalamente non io di Sansone sì Badalamente nel in Brasile ha fatto traffico di stupefacenti no no ma Badalamente non fu arrestato in Spagna per traffico di stupefacenti ma che ne so non lo sa lei non lo so non non ebbe modo di parlare con Sansone di questa testa di Badalamente ma eravamo detenuti assieme quando Badalamente fu arrestato in Spagna lei non ebbe lamentarsi con Sansone che Badalamente gli aveva nascosto tutto questo dei traffici stupefacenti può darsi ma io non lo so sì ma Badalamente in sostanza che atteggiamento aveva nei suoi confronti le raccontava le sue cose tutto quello che sapeva oppure aveva le riserve nei suoi confronti non posso rispondere a queste domande perché perché non la so non la so la risposta ecco quindi non sa se le diceva bugie se le diceva verità se le diceva tutto se non le diceva tutto esatto esatto perfetto mi scusi torniamo al problema della sua collaborazione lei ha detto ieri se non vado errato che lei col dottore Falcone non ha parlato solo di politica esatto non ho parlato soltanto di connessioni o connubi mafia politica poi per tutto il resto ha detto il vero è esatto che lei in un primo tempo ha chiesto di salvo ha negato che fossero mafiosi sì e perché perché doveva andare alla politica parlando di salvo e perché in un secondo momento ha ammesso che i salvo erano mafiosi entrava così in politica perché c'erano delle conversazioni telefoniche che parlassero dei salvo si parlavano dei salvo e quindi lei ha dovuto prendere atto di questo e dire quindi lei si ricorda si ha parlato di Ciancimino sì che Ciancimino non era un nuovo politico ma Ciancimino il discorso è un altro non è di mia conoscenza e poi io avrei dovuto dirlo senz'altro per il rapporto che mi aveva fatto Calò di Ciancimino dicendomi Ciancimino nelle mani dei corleonesi ma dico Ciancimino era un uomo politico un ex uomo politico direi cioè che intende comunque non è una valutazione che io posso fare ecco no io chiedo di spiegarmi una contraddizione se lei è in condizione di farlo qual è la sua determinazione perché parla di alcuni fatti che hanno riverbero sulla politica e di altri fatti questo è quello che volevo sapere io devo spiegare a lei ma la spiegazione lei ce l'ha nel processo io non so che cosa intende dire lei non so se ha capito la domanda dell'avvocato cioè dice lei non ha parlato per un certo periodo di personaggi politici però ha parlato di Ciancimino e dice l'avvocato era un personaggio politico ma Ciancimino mi interessava di parlare di Ciancimino perché era molto vicino ai Corleonesi e non aveva fatto nessuno quindi chi non lo riteneva vicino ai Corleonesi lei lo taceva mentendo al dottore Falcone esatto esatto non mentendo mi spieghi la dottore io vorrei sapere e avere conferma dall'avvocato sbacchi se questo è un esame o è un controesame perché bisognerebbe se è un esame attenersi anche se è un test che loro giudicano certamente ostile o comunque non un test che si attengano anche se che si attengano alle regole per l'esame quindi domande non domande suggestive contestazioni dopo fatte le domande lettura dei verbali sui quali c'è stato questo è un principio del genere io ringrazio il dottore Cardella mi ricordo il codice di prefetto no avvocato io per carità non è che ricordo a lei è l'occasione per ricordare che c'è questa situazione sapere anche noi se si tratta di un esame di un controesame in modo che possiamo modulare senza irritarla e senza le nostre opposizioni e anche perché credo che la corte in questa girandola di esami controesami contemporaneamente possa anche perdere di vista quali sono le regole applicabili e può succedere a tutti in qualsiasi momento quindi è una questione generale anche per limitare le nostre opposizioni e consentirle di fare il suo lavoro nel migliore e più tranquillo dei uomini ma quello scusate è un problema generale per esempio quando si dice lei alcune volte ha parlato di politici altre volte non ha parlato di politici io penso se non sbaglio che sarebbe il caso di dire lei quando ha parlato di questo cosa ha detto di questo in questa occasione ha detto quest'altro e fare le contestazioni mi sembrerebbe questo il sistema no? mi scusi io io volevo fare un'altra precisazione scusi l'esame e il controesame abbiamo abbiamo stabilito sin da ieri che coloro che avevano il test anche come test diretto è chiaro che le domande andavano a confondersi cioè sia l'esame diretto perché il test è indicato anche la difesa sia il controesame sulle domande se siamo in fase di esame non è corretto corretto proceduralmente per formulare la domanda nel senso il Buscetta lei ha detto questo è esatto o no? è un modo suggestivo di fare la domanda per poi chiedere se va bene o no e poi trarne delle conclusioni sulle quali articolare altre domande voglio dire c'è sempre stato detto che oggetto di questo processo l'interesse di tutti è l'accertamento della verità è l'accertamento delle cose come realmente sono andate non credo che si possa accertare involontariamente provocando l'occasione di un errore del test non è questo quello che è ma io non ho provocazione mi perdono involontariamente provocando l'occasione nella quale il test può accadere in errore non è questo io ho chiesto prima di tutti se aveva parlato di Tizio o di Cazzo o di Centrone e quali erano le motivazioni di queste scelte visto che pensavo alla motivazione non è con riferimento a questa domanda sulla quale può rispondere è preventiva se vogliamo preliminare ripeto per consentire all'avvocato di svolgere il suo compito senza eccessive interruzioni da parte nostra prego avvocato allora scusi io vorrei chiederle siccome lei poi ha corretto la risposta quando lei dice io sui salvo prima ho negato che fossero mafiosi e poi sono stato costretto ad ammettere perché questo è il senso della sua risposta come definisce questa originaria negazione era una menzogna o non era una menzogna non era una menzogna non era una menzogna non era una menzogna senta continuiamo con questo lei dice che fa parte di l'organizzazione Cosa Nostra ha riferito fin dagli anni fine degli anni 40 50 50 grossomodo è così cioè fine degli anni 40 quindi siamo attorno al 1950 quindi lei ha vissuto la prima guerra di mafia e la seconda guerra di mafia è così o no? sì nell'ambito della prima guerra di mafia lei subì denunzia? sì sì benissimo senta lei fu accusato tra l'altro di due omicidi di tali Carolla e Pisciotti sì sì fu un'accusa dalla polizia oppure c'era qualche qualche testo o qualche imputato che lo accusava di questo delitto credo che ci fosse un testo sì un testo sì il quale testo che cosa aveva detto? se lo ricordo? no non ricordo che cosa aveva detto il testo comunque l'aveva accusato questo testo poi ritrattò che lei sa no non ritrattò e se io le citassi un suo interrogatorio dove lei dice che questo test poi aveva ritrattato e aveva detto che era stato in qualche modo malmenato dalla polizia beh Presidente questo discorso non dovrebbe essere fatto in via ipotetica se doveva citare lo citi indicando gli estremi del verbale indicando gli estremi del verbale e facendo la contestazione non informi ma si scudiranno è una questione di fatto ma intanto così si attende la risposta io prima volevo allora se il pubblico ministero ci tiene io leggo il verbale dobbiamo saperlo tutti sì per carità siccome mi si richiama all'ortodossia processuale allora obbedisco immediatamente dunque lei il 6-9 del 1984 alle ore 9.30 avanti al vice dottor Falcone ha dichiarato esattamente questo la corte d'assise di Catanzaro in assolto con formula piena all'unica imputazione di omicidio residuato quella in persona di Carollo Natale 18 giugno che io non ho mai conosciuto l'imputazione si fondava sulle dichiarazioni di un certo Ricciardi del quale il mio difensore avvocato Veneto e Cottone dimostrava assoluta inattendibilità anzi devo riferire che come ho preso i miei difensori il Ricciardi aveva confidato ad essi che aveva reso quelle dichiarazioni perché si è iniziato dalla polizia e che di ciò aveva informato un altro avvocato non ha appena rilasciato dalla polizia è così o no? certo ma lei ha detto ritrattare io non ho detto ritrattare io ho detto che l'avvocato mi informarono che lui voleva ritrattare e che non ci fu necessità che lui ritrattasse non ci fu necessità che ritrattasse no 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 non ci fu necessità non ci fu necessità che lui ritrattasse assolutamente poi lei parla di omicidio e invece l'imputazione è sparizione cioè la sparizione che intende lei? se lo chiarisce alla corte che sono spariti cioè sono scomparse quello che si chiama luparabianca certo e luparabianca che significa? ma io se sono vivo ancora non lo sappiamo ah cioè potrebbero essere vivi potrebbero essere vivi sono due soggetti scomparsi che potrebbero essere vivi senta tornando a questo in questa vicenda lei allora di quale famiglia faceva parte? Porta Nuova Porta Nuova e la Barbera perché mi pare che la guerra di mafia fosse una conflitto la Barbera greco è così o no? sì e la Barbera? cosa ha detto? conflitto? un conflitto greco la Barbera cioè due gruppi schierati no 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 allora la regala lei per favore la commissione ritiene che i la Barbera siano colpevoli di l'omicidio di un componente della commissione stessa ho capito la commissione no greco la Barbera sì ho capito quindi la commissione che ritiene questo lei era amico di la Barbera non era che fossero Angelo e Salvatore sì ma più di Salvatore che di Angelo Salvatore è scomparso pure mi pare sì esatto lei nell'ambito di quel processo fu accusato di avere tradito la Barbera sì va bene la polizia non sapeva niente di cosa succedeva una volta mi messero con la Barbera un'altra volta con Torretta senza poter stabilire la mia posizione e lei in questo processo che si celebrò a Catanzaro fu condannato per che cosa? per l'associazione per l'associazione per delico e quando fu condannato che pena riportò? a cinque anni di rivoluzione ha già risposto stamattina a queste domande mi scusi a proposito di condanne e tornando a stamattina come sul suggerimento del Presidente non è una ripetizione lei ha detto stamattina che è stato condannato il max processo per l'associazione per delico vuole specificare se trattava di l'associazione per delico semplice intendo dire 416 codice penale o 416 bis questo non lo so questa differenza non la conosco perché ci sarà la sentenza che potremmo produrre esatto e lei ha detto di aver scontato la pena ha fruito di condoni per questa per questa condanna non lo so non lo so e allora mi è stata comunicata la liberazione ecco intorno a mille all'ottantanove ecco mi scusi lei quanto è stato detenuto da quando fu arrestato in brasilio lo sappiamo poi la sua detenzione fino all'ottantanove fino all'ottantanove sì potremmo produrre contare in precedenza sì avevo un residuo di pena che mi era stato come si dice quando si va insieme a libertà si era stato fatto un conteggio che rimaneva un residuo di pena sì sì senta a proposito di questo lei come l'ha scontato questa pena in che regina carcerario carcerato cioè in prigione in carcere è logico ma non in un carcere pubblico ma no non mi interessa era una struttura privata sì era una struttura privata quindi lei diciamo aveva continuato a mantenere rapporti con la famiglia con tutto giusto aveva modo di vedere la signora viveva con lei ma io non capisco queste domande di intimità familiare a che scopo se viveva con lei non lo scopo no no io non ci rispondo a questa domanda se viveva con lei io prego che per voi mi interessa la gente in regime ma parliamo di cose più serie sì sì il marito viveva per cortesia a testa deve limitarsi e intanto non faccia commenti sulla domanda ecco è chiaro questo nei commenti è bene che non li faccia nessuno né il testimone per primo né anche diventano materia per voi di discussione ecco rispondo alla domanda prego cioè quando scontava lei ha detto che questa pena la scontava in una struttura privata e quindi ho possibilità di vedere a mia moglie tutti i giorni però non mi piace signor Presidente le giuro prego prego questo mi fa uscire fuori da 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 perché non vedo perché parlare di mia moglie nel processo non ho parlato di sua moglie e non lo farei mai perché c'è un un abisso per fare appunto ho chiesto soltanto quale fosse il regime se fosse un regime comodo lo sappiamo l'abbiamo appreso gli altri carcerati non credo di abbiano di questo un'altra domanda lei nella guerra di mafia ha detto io sarei stato vincente per l'appartenenza alla famiglia e invece sono perdente allora le uccisioni lei è stata vittima di alcune soppressioni da parte di suoi familiari di persone care che cosa è successo perché ritiene che siano avvenuti questi delitti perché sono avvenuti questi delitti a suo danno devo fare deduzione no e allora non ho risposta non lo so i fatti non so potrebbe solamente fare ipotesi ipotesi no no non ho detto il che ritiene ho detto la prima l'ho corretta la domanda quindi non è successo nulla che potesse determinare una reazione dei suoi compiti no non è successo nulla presidente qui vedo un uso di questo quindi in continuazione dov'è il legame logico tra la prima risposta e l'altra ha detto che poteva fare deduzioni perché quindi non è successo nulla che è successo qualcosa che poteva che ha determinato questo sterminio dei suoi familiari è successa la guerra di mafia che lei sa l'abbiamo letto e la conosciamo perché viviamo dove viviamo senta allora diciamo lei i suoi rapporti con il suo figlio Antonio è giusto suo figlio Antonio è stato implicato in un problema di sequestro di persone sì o di riciclaggio di denaro provenienti da soccorso di persone sì Presidente c'è una questione sulla rilevanza di queste domande vedo una posizione del figlio del test non vedo come possano incidere sull'attendibilità del test ne riesco a concepire qualche altra forma di rilevanza di tutto questo se l'avvocato poi ci vuole spiegare a che cosa tende perché se c'è un fine preciso non è la domanda di per sé credo che voglia sapere no no Presidente la domanda che volevo sapere posso pure spiegare cioè nel quadro il signor Buscetta se ne va in Brasile e restano i suoi familiari qua in Sicilia succedono alcune cose che noi sappiamo ora il signor Buscetta dice io non so perché sono maturati determinati delitti io volevo sapere se il figlio aveva avuto subito carcerazioni che cosa era successo questo quindi nel quadro della domanda è questa io ho già risposto sì sì è stato arrestato e senta ora tornando indietro lei nel 1980 era a Palermo e quindi ci può dire dove è abitato durante il dopo la fuga diciamo dal regime dopo che si è sottratto al regime di semilibertà prima a Palermo e poi in Brasile e poi in Brasile no a Palermo presso chi è stato presso il mio figlio presso suo figlio a volte è Bontati e in Serillo Bontate e in Serillo e l'ultimo periodo diciamo a Zagarella a Zagarella sì questo ora lei con Bontate si incontrava spesso se ho capito bene con Bontate Stefano sì senta lei ha detto che Bontate non le ha mai riferito di aver fatto traffico di stupefacenti lui ha avuto discorsi con Bontate sul traffico di stupefacenti non ricordo se ne ho avuti ma come si fa a ricordare no siccome no comunque su questo anche su questo è stato già sentito no no quale processazione vuole avere lei sì io voglio sapere siccome in un interrogatorio lei ha riferito che Bontate lei ha parlato del traffico di stupefacenti è indicato tra le persone più attive ricorda lei questo non vorrei farle la contestazione no allora allora sono costretto a tornare alle contestazioni l'interrogatorio le do letture all'interrogatorio 29884 930 in Roma davanti al dottor Falcone alla presenza del pubblico ministerio so con certezza perché riferito nella bontate Stefano dallo stesso inserirlo quale verbale è avvocato per qualsiasi scusi presidente 29 agosto 84 ore 930 in Roma davanti al dottor Falcone so con certezza perché riferito nella bontate Stefano lo stesso inserirlo che è più attivo nel traffico di eroina sono bontate Giovanni l'avvocato Greco Michele Greco Pino Scarpazzetta Spadaro Tommaso Ivernengo Calò Giuseppe Salamone Antonino Brusca Bernaglio Rina Salvatore Riccobono Rosario Inserirlo Salvatore Pipitone Nino Punterea Pasquale Lovia Panopieto I Pullarà Staglione Salvatore Nioffignazzo Copuzza Salvatore I Madonì I Danna ma ripeto tutte le famiglie sono coinvolte in nome che ho detto sono quelli che maggiormente ricorrevano il discorso di bontate inserirlo eccetera eccetera a ricordo di questo sì benissimo allora in che contesto naccono questi discorsi con bontate non lo ricordo non lo ricordo perché sono momenti di quindi io vorrei spiegato come bontate che le intratteneva sul traffico di sostanze stupefacenti e accusava tra l'altro il fratello di farne pratica come che non disse mai che questo era il lavoro che anche lui svolgeva chiamiamolo lavoro tra virgolette ma lei me lo domanda a me che non so spiegarlo se lui non me lo disse io non potevo tirarlo dalla bocca di lui quindi diciamo che bontate nascondeva qualcosa o mentiva o perlomeno taceva ma non mentiva non me lo diceva io non ci ho domandato tu lo fai e lui mi disse io non lo faccio si e mi dica se lei può ricordare sarebbe cosa grata che cosa esattamente vi siete detti con bontate sul traffico esattamente no non lo so dire no esattamente il discorso quali erano quanto meno stiamo parlando di cose di sedici anni fa si e non è facile e non è facile e non è facile esattamente dire che cosa ma bontate sul traffico di stupefacenti qual era la che opinione le manifesto era favorevole o altra non ricordo che opinione ne avevo non me lo ricordo senta a proposito del traffico di stupefacenti lei ha detto che è stato condannato per il traffico di stupefacenti e questa condanna lei qual era la vicenda se ce la può ricordare ma devo raccontare tutta la vicenda un po' in sintesi molto in sintesi ma traendo spunto come mi dica mi indica lei è stato condannato 8 anni ha detto comunque io ho avuto una richiesta di tradizione dagli Stati Uniti all'Italia per un processo di droga che si era fatto fra il Messico e gli Stati Uniti è così vado bene avvocato no non va bene me lo sa scusate la corte non sa scusi voglio sapere l'avvocato io vivo il fatto la corte non sa questa condanna dove è stata riportata in Italia in Italia stavo spiegando questo una richiesta di tradizione degli Stati Uniti in Italia l'Italia rispose no e disse mandateci gli atti e noi lo giudichiamo gli Stati Uniti mandarono gli atti solo per me mentre tutti i miei coimputati cioè quelli che ho usato per trasportare la droga che ho venduto la droga sono stati assolti negli Stati Uniti io invece in Italia sono stato condannato a otto anni di reclusione solo io per tutti esatto e lei era estraneo a questo traffico ero estraneo estraneo perfetto senta lei ha conosciuto Calderone si Calderone Giuseppe Calderone è l'attuale collaboratore di giustizia si ma l'avrò visto due volte tre volte in tutta la mia vita in che occasione una volta quando andrai a Catania nel 1970 e credo che uno o due volte in carcere per comunicare che suo fratello aveva un cancro alla gola questa è la volta dopodiché nel 1980 lei l'ha visto Calderone quando è uscito dal carcere lei non l'ha visto non l'ho visto senta lei sa che Calderone l'ha accusato di aver fatto l'omaggio di un brillante per avere un permesso si l'ha portato e Calderone lei aveva fatto una dove era detenuto quando si chiedo scusa avvocato mi scusi se ne interrompo vorrei chiedere qual è il senso della produzione del verbale dell'interrogatorio di Buscetta reso a Padova che abbiamo fatto se non vado errato noi dell'accusa con il consenso della difesa qual è il senso di questa produzione ecco scusi avvocato abbia pazienza risulta che Calderone abbia a domanda dell'avvocato Sbacchi l'abbia accusato di essere stato vice rappresentante della famiglia di Portamovano non le risulta è mai stato interrogato su questo no io ho una nota diversa a proposito di questo ma io sto approfondendo un tema non ho chiesto quello che già c'era sto dicendo un'altra cosa se ha visto Calderone sono partito da questo e dico Calderone ha riferito un fatto e io vorrei sapere se dove si è verificato questo fatto lei dove è stato detenuto a Cunio a Cunio lei a Cunio ha chiesto il permesso per vedere suo figlio per assistere suo figlio no poi parleremo del brillante figlia per assistere suo figlio gli ha chiesto un permesso abbiamo prodotto che la Porte ha abbia pazienza devo avere ecco Presidente sto facendo un'altra indaglia perché voglio stabilire come Calderone potesse sapere questo volevo sapere questo scusate è uno dei pochi atti processuali che anche la Corte ha letto ma su questo sono state fatte parecchie domande da ieri a oggi anche su quei fatti per i quali il test è già risposto ma non è che è una cosa appunto Presidente ma allora dobbiamo non fare nessuna domanda su quel tipo di domande che sono state fatte se ne diamo per scontate tutti siamo d'accordo però voglio dire ci sarà un limite l'interrogatorio da parte del professor Coppi esame contro esame non abbiamo detto niente ma quando continua è tutta roba che la Corte ha già in atto voglio dire il senso della produzione dei verbali consentiva è proprio quello di evitare che i test vengano reiteratamente senza altro su questo sono d'accordo ma io siccome parto dal concetto che questo si dà per acquisito credo e ritengo sempre che l'avvocato che faccia una domanda voglia approfondire un punto che non è stato approfondito non avere le risposte che già sa questo è chiaro no ovviamente non ho chiesto dovremmo andare a questo non ho chiesto di tutto questo ho chiesto se è vero che quel di Cune chiedere un permesso per assistere un familiare e la risposta è sì la risposta ecco dove si inseriva in un discorso che Calderone ha riferito che aveva omaggiato un brillante questo fa parte di quello per avere per godere di un permesso ma non è vero ma non è vero perché chi concede il permesso non è la persona che ha indicato Calderone che mi ha rilasciato il permesso il permesso l'ha rilasciato il giudice di sorveglianza Calderone dice che io ho omaggiato un brillante che poi non lo so che cosa ho omaggiato a un giudice che non è il giudice di sorveglianza che mi ha rilasciato il permesso quindi lo ritengo un errore questo senza continuiamo con le domande Calderone io avevo necessità di questo di questo chiarimento ne risulta che Calderone conoscesse Gerlando Alberti non lo so se lo conosceva ma era molto probabile che lo conosceva certo può darsi che lo conosceva e Gerlando Alberti se non sbaglio faceva parte della sua famiglia è così o no? sì o senta a proposito sempre di sostanze stupefacenti nel vicenda processuale che ci occupa lei quando fu messa insieme in libertà lei era a Torino esatto? sì a Torino lei ha conosciuto un tale Vessichelli? no Vessichelli uno lei è stato accusato con Vessichelli di avere commerciato in sostanza stupefacente durante la sua no nel marchio del marchio del processo può darsi che mi abbia parlato il giudice Falcone ho dato le risposte dicendo che non lo conoscevo no dicono lei è stato accusato di avere commerciato con Vessichelli in sostanza stupefacente accusato con un mandato di rattura no nell'ambito del marchio del marchio del marchio del marchio le imputazioni insomma le possiamo verificare senta una domanda specifica in che contesto si colloca il discorso su Pecorelli fatto da Bontà in quale ambito si colloca non lo ricordo ma già mi è stata fatta stamattina no 10 in contesto 90 sì sì anche il contesto scusi Presidente allora non se lo ricordo un dito pensa tutto sul contesto sull'epoca sul tempo sulle ragioni mi sembra che abbiamo senta Bontà le ha raccontato attività delittuose da lui svolte come? Bontà le ha parlato di delitti allo consumati di delitti di omicidio o fatti di questo genere quando parlavate come? quando parlava con Bontà le ha confessato omicidi che lui aveva fatto le ha parlato di qualcosa di questo genere non in generale Bontà faceva parte della commissione quindi figuriamoci se non hanno ordinato degli omicidi che intende dire? no abbiamo fatto questo io ho fatto questo ho fatto quest'altro ma non si parla così non si parlava così nel mio disgraziato ambiente no ho fatto questo ho fatto quello non esiste frequentando Bontà lei che ha avuto modo di incontrare di manovalanza diciamo della famiglia di Bontà di altre persone credo di sì altre persone dico ricorda qualche nome? no in questo momento no ma ne ho visto tante persone là lei Marino Mannoio l'ho conosciuto sì l'ho conosciuto lì l'ha conosciuto lì che rapporti ha avuto con Marino Mannoio? che neanche ne ricordo la visione quindi lei l'ha visto soltanto là e non l'ha più vista io non l'ho più vista fino a oggi fino a oggi è un po' senta e questo Marino Mannoio che ruolo aveva nella famiglia di Bontà di quell'è saputo? aveva un ruolo di di killer aveva un ruolo di killer quindi lei l'ha conosciuto come tale lo suppone come nome non perché io l'abbia saputo né che cosa ha fatto ma era la sua nomea era che era un killer e ti lo disse? Bontà Bontà le ha detto che questo era un killer e Bontà che rapporti aveva con Marino Mannoio? con chi? con Marino Mannoio cioè oltre questo diciamo di legame familiare legame familiare? sì familiare cos'è? appartenenza alla stessa famiglia lui era il rappresentante di di Marino Mannoio era il rappresentante di Marino Mannoio ma Dico lo teneva in considerazione? sì lo teneva in considerazione? perché Bontà aveva che si era costruito per sé e solo per sé una diecina Marino Mannoio faceva parte di questa diecina però il suo ruolo era quello di Chilade esatto? la diecina diciamo tutti la diecina quindi era questo il rapporto che intercorreva tra loro senza a proposito sempre di rapporti intercorrenti con le con le parti dunque Badalamenti lei ha detto aveva a un certo punto le aveva le aveva riferito che lei era stata estromessa era stato espulso se non va derrato è giusto? non me l'aveva detto Badalamenti però non che l'aveva detto Badalamenti come facevo a saperlo se non l'ho mai incontrato Badalamenti e l'ho incontrato solo nel 1982 quindi la notizia che lei era stato messo fuori da Cosa Nostra e poi Caloghi la negò da dove le viene? dall'ambiente di Cosa Nostra non lo ricordo personalmente chi me l'ha detto però lo sapevo ah lei non ricorda chi gliel'ha detto quindi diciamo che lei corregge quello che ha detto ieri in questo senso come? lei corregge quello che ha detto ieri lei ha detto di averlo saputo dal Badalamenti che lei era stato messo fuori la Cosa Nostra ma lei sta parlando di me o di Badalamenti che mi ha messo fuori da me? no 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 allora allora un momento torniamo indietro la domanda io credevo che lei mi parlasse anche su questo punto ha risposto ampiamente cioè lui mi sembra che abbia detto che non ha mai avuto una comunicazione diciamo così ufficiale della sua esclusione della sua esclusione ma Badalamenti che l'aveva detto invece sì e l'ho detto stamattina l'ha già detto sì no Presidente sembrava che avessi detto no no ma lui non aveva capito che si parlava di lui Badalamenti da chi mi era stato comunicato che Badalamenti era stato espulso avevo capito questo allora in questa situazione poi lei ha detto che quando si è congedato dal suo per andare in Brasile materialmente lei ha lasciato si è lasciato in fuori rapporti con tutti tant'è vero che avevano fatto un pranzo per lei è vero sì lei ha detto questo allora naturalmente io dico lei dopo aver saputo questo da Badalamenti lei si fidava di Badalamenti ed aver avuto notizie del contrario sì continuava a fidarsi di Badalamenti sì di quello che le diceva sì malgrado la menzogna che aveva detto prima quale menzogna aveva detto Badalamenti quella che lei era stato espulso lei Buscetti sì va bene ma quella è un antagonismo che esiste in cosa nostra nel farsi vedere uno meglio dell'altro e quindi la consideravo ecco ho detto anche questo nel mio interrogatore precedente che io ho avuto uno scadimento di interesse nei confronti del Badalamenti proprio per questa ragione ma quando Badalamenti fu espulso sì questo lei l'ha detto ecco e che devo dire no ma dico ma lei si fidava la domanda è un'altra sì dico malgrado questo sì senta a proposito di altre piccole cose perché non ho molte altre cose da chiederle lei nel suo rapporto diciamo con cosa nostra negli anni come si è voluto perché lei è stato molto lontano da Palermo perché mi pare che lei nel 60 andò negli Stati Uniti poi tornò nel 72 perché arrestato e stradato in Italia esatto sì poi nell'80 lei esce fuori e nell'81 se ne va allora io volevo sapere come mantenere i contatti prima di ogni cosa non ha marcato una data il 1970 che ero tornato in Italia sì e i rapporti erano continui frequenti di persone che venivano negli Stati Uniti persone che che ci incontravamo anche in altri posti i contatti sono rimasti sempre sempre e poi io non è che avevo una posizione di essere rappresentante quindi le mie conoscenze si limitavano a sapere quello che succedeva nella mia terra in seno a Cosa Nostra quello che accadeva dove assumeva notizie lei durante queste da altre persone che venivano in America ho capito quindi quello che lei sa è stato riferito no quello che io so lo so anche per altri il fatto specifico avvocato sì perché se ci sono cose specifiche io rispondo se l'ho sentito da altre o se l'ho controllato io nel 1970 mi trovavo in Italia incontrandomi anche con il signor Calò quindi mi dica le cose specifiche e mi dici allora nel 1970 lei perché è venuto in Italia come? perché è venuto in Italia nel 70 per il colpo borghese ah è venuto in Italia per il colpo borghese e lei questo al dottore Falcone l'ha detto sì quando? l'ha detto subito? quando è venuto il momento di dirlo quando è venuto il momento senta lei a proposito di questa sua collaborazione recente ha seguito un determinato lei nei suoi rapporti con il dottore Falcone giusto? a un certo punto al dottore Falcone non mi ha detto niente su mafia politica è così ma la sua collaborazione è recente le ha detto no 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 scusi c'è un aggettivo in più dico nel suo rapporto con il dottore Falcone di mafia politica non parliamo ma questo è un argomento più volte affrontato sì la precisazione? la precisazione è questa io volevo chiedere lei quindi dopo la morte del dottore Falcone comincia a parlare di mafia politica esatto che lei parla dell'omicidio Lima delle causate dell'omicidio Lima l'11 settembre dell'892 sì non mi ricordo se l'ha data esatta ma io mi fido della sua lettura l'11 settembre del 99 postarete un quinto lei parla dell'omicidio Lima esatto perché non parla del senatore Andreotti in quello H6 del senatore Andreotti ma perché il programma non c'è svolto interamente mi vengono a chiedere dell'omicidio Lima dell'omicidio lei il 26-11-1992 dice che non sono ancora maturi i tempi per parlare del connubio mafia e politica sì come concilia questa risposta con quella precedente che non desidero parlare non desidero il 11 settembre era pronto il 26 novembre no esatto perché già ancora io non vedevo la maturità di poter parlare perché il senatore Andreotti a quell'epoca è ancora un uomo molto importante anche se lo è tuttora era un uomo importante nella politica italiana ho capito senta quindi il 26 novembre però l'11 settembre lei parla dell'omicidio Lima esatto sì poi lei dal novembre 92 ha avuto modo di incontrare magistrati persone eccetera eccetera dal novembre 92 sì all'aprile del 93 a decine a decine e lei non parla mai del presidente Andreotti lei ne parla solo il 6 aprile 93 esatto ma se lei legge il verbale del 6 aprile 96 io sento che già per il senatore Andreotti c'è un non lo so come si dice una richiesta alla camera per poter è da quel momento che comincio a parlare perché si sono aperti perché lei ho capito aspettava quindi le iniziative della procura della Repubblica di Palermo immagino ma non ho risposto se mi da questa risposta devo ritanere ma non ho risposto quindi solo per questo e non ha ritenuto di farlo prima senta lei è stato intervistato dal giornalista Biagge esatto l'ultima domanda tante due volte credo lei parlò mai prima del 93 dei rapporti mafie politiche no in che quadro ma io la domanda non la capisco cioè dico perché non ne parlò con chi nemmeno allora ma col giornalista non ne parlo con i giudici ne parlo con il giornalista non la capisco la domanda lei non si preoccupa con le dita dico lei non ne ha mai parlato fino all'aprile del 93 dico esatto credo di sì fino all'aprile del 1993 senta lei nell'ambito nel quadro politico lei che posizione occupava cioè lei ha avuto mai un ruolo politico nella diciamo in qualche modo nell'ambito dell'associazione no di cosa no 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 dico nella sua vita privata ha fatto mai politica si interessano ai politici ma no questa è una domanda nuova no non si è mai interessato che significa non si è mai interessato di politica non sono mai stato iscritto in nessun partito e non ho fatto politica nel senso più assoluto se intende dire come candidato io non lo so vita politica vita di partito questa è cosa Presidente che la domanda sia formulata in forma chiara e cioè vado a dire distinguere tra l'attività politica e l'interesse per la politica che sono due cose molto diverse ma la domanda si è svolta attività politica o una cosa scusate ma la domanda è chiara l'abbiamo capito tutti si è svolta mai dei ruoli nella politica ha detto ha avuto mai delle funzioni cioè ha rivestito delle sale domanda è questa mai quindi diciamo lei della delle vicende nostre politiche ha saputo mai nulla ma quali anche questa è una domanda formulata in modo vago non è è troppo un riferimento dell'attività politica avvocato per cortesia è una generosità estrema questa cambio la domanda Presidente a proposito sempre di attività politica ritorniamo un momento indietro io avevo fatto una domanda un po' generica in ordine a fatti di politica non politica io vorrei invece chiederle questo nella nei suoi interessi c'era quello della politica o no? nei suoi interessi personali Presidente io devo porvi a questo tipo di domande generiche insinuanti di incerta no Presidente questa no sono gli interessi che coltivano allora per dire si è abbracciato una fede politica su questo punto mi sembra testimoniato e beh Presidente voglio dire non possiamo consentire siamo d'accordo siamo d'accordo Presidente non non so evidentemente come formulare la domanda ma ritengo il sapere se lui aveva coltivava interessi di carattere politico questo mi pare una cosa che si possa già l'ha chiesto prima e ha detto che non si è mai interessato non ha mai svolto funzioni la riconduciamo la riconduciamo a quel numero senza l'ultima domanda che lo devo fare proposto la sua estradizione lei sa che si la estradizione fu chiesta all'autorità giudiziaria italiana esatto l'ultima io parlo quella dell'83 quando lei fu arrestata nell'83 esatto lei sa chi curò le pratiche per l'estradizione in che senso in che senso dico questa estradizione è avvenuta no scusa non ho capito io la domanda la faccio più specifica questa estradizione è avvenuta sotto il governante Orto è già stata domanda l'avvocato Corpi prima ha già fatto l'avvocato Corpi questa precisa domanda sì sì è avvenuta che lei sa che io sapevo no non lo ha preso dopo lo ha preso stamattina lo ha preso stamattina e furono fatte particolari sollecitazioni per la sua estradizione non lo posso sapere io questo a chi si è rivolto se ci sono stati da chi a chi io non lo so cioè lei sa che ci sono le pratiche di ufficio certo questo ci sono delle pratiche fa stato e stato è stato e stato non sa lei è venuto sono venuti funzionari di polizia italiana a prenderle ricorda sì e quando fu arrestato veniva il dottor De Luca che le ricorda la squadra mobile di Valermo mi sembra di sì mi sembra non sono sicuro non è sicuro no e poi lei il viaggio di ritorno con chi lo fece con il vicequestore De Gennaro con un un capitano dei carabinieri Pellegrino e con un altro capitano della finanza che non ricordo più il nome ho capito non ricordo il nome e questo coincide poi con il suo pentimento esatto tutto questo sì una altra domanda difesa Calò che lo ha come testa diretta volevo sapere signor Buscetta se il fatto che Calò sia stato il cassiere della mafia è un fatto vero un fatto notorio oppure un fatto giornalistico secondo me è un fatto giornalistico la mafia la cosa nostra non è una cassa comune come? la mafia aveva una cassa comune? no 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 non la conosco e mi sembra una cosa solo giornalistica perché io non conosco casse della mafia la cassa è personale di ogni persona di ogni singola persona dunque signor Buscetta quando fu decisa l'espulsione di Badalamenti per quel suo interessamento per di Cristina l'autorizzazione data di Cristina per quell'omicidio famoso omicidio di Galtanissette Calò faceva parte della commissione sì quindi anche Calò decise l'espulsione di Badalamenti sì ora se Calò avesse saputo che bontade continuava a frequentare Badalamenti secondo le regole non scritte di Cosa Nostra cosa poteva succedere? no non ho capito la domanda se Bontade se Calò avesse saputo che Bontade malgrado l'espulsione continuava a frequentare Badalamenti Badalamenti secondo le famose regole si sarebbe schierato in commissione per l'uccisione di Bontade o anche per l'espulsione pure di Bontade bene quando lei venne a Roma nell'ottanta Calò chi gli presentò a Roma? solo due persone cioè Diotaleri e Balducci ora mi faccia capire una cosa perché questa gliela devo contestare nel in un interrogatore dell'ottanta quattro a Falcone che io in questo momento non ho ma mi riservo di presentare alla corte lei ha dichiarato che non conosceva assolutamente Ernesto Diotaleli chi? non conosceva assolutamente Ernesto Diotaleli mi sembra impossibile e che Calò gli presentò esclusivamente Domenico Balducci mi sembra impossibile e comunque se avrei detto una cosa così non avrei detto il vero perché io sono stato a casa di Diotaleli a mangiare insieme a Calò nell'ottantaquattro comunque i suoi ricordi erano molto più vicini esatto e se io le dico che lei disse che di Diotaleli parlò Salomone di Salomone di Diotaleli parlò Salomone in Brasile in quanto parente di un dentista le ricorda qualche cosa? sì è vero è vero che avevo un parente dentista e allora l'ha conosciuto a Roma o non l'ha conosciuto per niente? ma mi leggo il verbale avvocato non ce l'ho le ho detto e va bene allora perché ne parliamo? è una contestazione presente se non c'è la contestazione però mi ne sento di perdura avvocato o fa la contestazione leggendo il verbale oppure ci accontentiamo di quello che il test risponde comunque lui mi conferma che se ha detto che di non aver conosciuto Diotaleli questo è un falso nell'ottantaquattro sì ecco bene oh Buscetta secondo il suo non secondo il suo parere sarebbe una un'opinione secondo queste regole non scritte di Cosa Nostra può essere nominato un uomo d'onore un uomo che assume stupefacenti soprattutto se non è un siciliano per esempio un romano che notoriamente assume stupefacenti no ma è confusa la domanda più chiara se un uomo d'onore si può essere un uomo d'onore una persona che assume stupefacenti specialmente se se già c'è stato poi si tratterà l'espulsione ma che si faccia un uomo d'onore che senza ancora esserlo assume stupefacenti no può un capofamiglia nominare una persona uomo d'onore e poi tenerlo nascosta alla sua famiglia e non so fino a che punto non lo so non posso rispondere a questa domanda ci sono regole non scritte di Cosa Nostra di cui lei ha parlato e che c'entra se può tenerlo nascosto cioè un capofamiglia nomina uomo d'onore tizio può tenere nascosta questa notizia agli altri membri della famiglia se lui lo sa e lui lo nomina scusi cioè se viene nominato un uomo d'onore in una famiglia può colui che l'ha nominato non dirlo agli altri della famiglia no deve dirlo deve dirlo deve dirlo sì che succede se se invece lo tiene nascosto e gli altri membri della famiglia poi lo vengono a sapere che può succedere è colpa di chi l'ha tenuto nascosto e quindi si prenderanno i provvedimenti con chi l'ha nascosto che sanzione sanzione li giudicheranno loro logicamente non la morte ovviamente non la morte la ringrazio ho finito difesa la barbiera signor Buscetta io ho poche domande per lei e tutte nell'interesse del signor Michelangelo la barbiera il primo gruppo di domande mira ad avere dei chiarimenti su alcune cose che sono state dette ma non completate la prima di questa è un mandamento da che cosa è composto? da tre famiglie tre famiglie come? contigue uno all'altro quindi è mai possibile o è mai potuto accadere che la famiglia di Santa Maria di Gesù abbia fatto parte dello stesso mandamento con la famiglia di Passo di Rigono? no, se gli è autonomo loro no, assolutamente non è possibile perché di mezzo c'è Pagliarelli c'è Altarello esatto e c'è Bocca di Falta un soldato appartenente ad una famiglia di Cosa Nostra da chi riceve ordini? dal suo rappresentante e dalla commissione e dalla commissione può ricevere ordini? o dalla commissione o dalla commissione senta salvo l'unico caso o gli unici due casi che conosciamo di persone che abbiano migrato da una famiglia all'altra è possibile per un appartenente a Cosa Nostra passare da una famiglia ad un'altra famiglia? beh io ho pochissimi episodi da ricordare e io li conosco perché glielo ho già sentiti dire dico queste sono delle eccezioni delle eccezioni sì quindi la regola qual è? eh di dove si nasce si muore esattamente bontà de Stefano le riferi mai che inserì lo salvatore era direttamente coinvolto nella deliberazione del delitto pecorelli? no le riferi mai che era indirettamente coinvolto nell'omicidio pecorelli? no non l'ho detto in nessun verbale come scusi? non l'ho mai detto in nessun verbale infatti lo so bene però siccome la corte questo non lo sa ho interesse che lei lo dica qua davanti inserì lo salvatore finché fu in vita quindi fino all'11 maggio 81 le riferi mai di essere rimasto direttamente o indirettamente coinvolto nel delitto pecorelli? no le risultano o le sono mai risultati rapporti di amicizia tra i cugini Salvo e Salvatore Inserillo classe 41 per intenderci? sì c'era un rapporto sì mi scusi rapporti tra i Salvo e Inserillo sì io intendo dire non rapporti in modo geneico rapporti di amicizia di affettuosità rapporti di amicizia sempre però la preferenza era per bontà di e badalamento ma bontà di era molto amico con Inserillo questo lo so ma io le ho chiesto se i Salvo sì i Salvo potevano essere ma addirittura qualche volta se non ricordo male ho visto l'Inserillo guidando il fuoristrada dei Salvo sì non erano i rapporti che aveva con bontà ma c'erano rapporti diciamo non erano così stretti come con bontà senta signor Busce per quelle che sono le sue conoscenze del funzionamento di Cosa Nostra un capofamiglia avrebbe potuto incaricare di un delitto di un delitto qualsiasi l'uomo d'onore di un'altra famiglia senza passare attraverso il rappresentante di quest'ultimo no assolutamente no signor Busce quali elementi di fatto l'hanno portata ad escludere che fioravanti Giuseppe Valerio sia estraneo al delitto Mattarella io credo di aver dato questa risposta ai giudici non ricordo a chi però è un fatto che io arrivando a Palermo nel marzo del 1980 con un permesso del giudice di sorveglianza quindi libero io mi incontrai con tante persone i più intimi mi incontrai anche con Calò e nessuno nessuno dico nessuno si lamentò del fatto che fosse stato ucciso l'onorevole Mattarella non sapendo da chi ora per me che sono un po' pratico sono un po' vecchio un po' vecchio vecchio per me è molto significativo perché se l'omicidio non fosse stato commesso da Cosa Nostra sarebbe stato come dire api di cielo ci sarebbero state delle indagini in seno a Cosa Nostra per sapere chi aveva fatto questo omicidio invece tutto era tranquillo tutto era sereno per cui io ritenevo perfettamente inutile che non fosse vero questo discorso signor Pecetta io la voglio impegnare un altro secondo su questo argomento lei quando è stato interrogato una volta su questo argomento ha detto al giudice se lo deve dimenticare che Fioravanti possa entrarci con questo delitto lei è stato tassativo diciamo mi sembra di cogliere in questa sua risposta così perentoria qualcosa di più che in una deduzione fondata sugli argomenti che lei ha detto quindi a parte quello che lei ha detto adesso c'è qualche altra cosa che la induce ad escludere che Fioravanti potesse essere stato responsabile di questo diritto avvocato avvocato posso dare una risposta diversa però se mi richiamate io mi fermo no no non per fare contento me ma se lei conosce fatti precisi che potesse escludere vorrei dare una risposta un po' per capire un po' questa corte anche per capire avete mai sentito di attentati fatti in Sicilia dai terroristi io mi riporto alla cronaca perché in Sicilia non si facevano attentati terroristici in Sicilia non si permetteva a nessuno di fare niente e allora la stessa risposta mi riporto adesso la risposta non so non conosco altre cose però la mia esperienza mi suggerisce che l'atteggiamento di Cosa Nostra tanto pacifica dopo la morte di un grande parlamentare era il presidente della regione siciliana nessuno pensava a niente a me mi dava la massima tranquillità che Fioravanti non c'entrava nell'omicidio senta andiamo alla figura del signor Micanangelo Labberbera prima che le fosse presentato nel 1980 così come ci ha detto lei lo aveva mai visto? no ne aveva appreso l'esistenza da qualcuno? assolutamente no quindi posso concludere che non gliene avevano mai parlato? sì non me ne avevano mai parlato e lei ha elementi per ritenere cioè non per ritenere io lo posso chiedere per affermare che la Barbera da quanto facesse parte di quella famiglia mafiosa che lei ha indicato? da quando non lo so ma che facesse parte di quella famiglia lo so è perfettamente bene nel periodo che ha detto lei quindi 80-80 quando l'ha accostato lei risulta che questa persona Michelangelo la Barbera anche per sentito dire se avesse avuto mai un soprannome no cioè un momento io l'ho conosciuto personalmente io per Angelo no Angelo detto in italiano Angeluzzo no no a parte il diminutivo intendo dire sopra il nome no 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 non conosco nessuno no 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 quando lei lo ha conosciuto quando lei lo ha conosciuto nel 1980 che grado aveva questo la Barbera di cui ha soldato soldato ma il soldato è nella gerarchia diciamo di Cosa Nostra quale gradino rappresenta il più basso il più alto no 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 né più basso né più alto ho risposto già ieri quando si entra quando si entrava a far parte di Cosa Nostra la dignità era uguale a quella del rappresentante quindi mi sembra che io non so fare questa no no signor Buccetta forse io non le ho ispirato bene la risposta non intendo dire io dal punto di vista della dignità così come la chiama io intendo dire dal punto di vista del valore gerarchico mi riferisco alla distinzione tra soldato ma il valore gerarchico si può passare guardi avvocato lo do una risposta si può passare da semplice soldato al rappresentante senza fargli tutti gli altri senza fare tutti gli altri va bene va benissimo senta una cosa signor Buccetta io trovo nel materiale di questo processo una affermazione ovviamente non le chiedo un giudizio trovo scritto a proposito al signor La Barbera di appartenenza alla famiglia a bontate tra virgolette la domanda è questa lei risulta questa appartenenza di La Barbera alla famiglia a bontate no l'appartenenza di Angelo per me La Barbera è nella famiglia di Passo di Regano di cui il rappresentante è Salvatore inserirlo senso altro allora modifico il vocabolo appartenenza trovo scritto sempre tra virgolette legato alla famiglia a bontate lei risulta questo legame tra La Barbera e la famiglia a bontate si è messo in altri termini si cioè l'amicizia del suo rappresentante no no mi scuso non parlo per interposta persona io parlo di legame tra un soggetto e un altro ma quando noi consideriamo che cos'era inserirlo per bontate e viceversa possiamo dire della vicinanza dei soldati di inserirlo e dei soldati di bontate cosa possibilissima di una stretta amicizia possibilissima per tutti i soldati non per La Barbera solo no 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 per tutti senta trovo sempre nel materiale di questo processo è sempre tra virgolette la indicazione di Federico faccio una parentesi ha parlato di un Federico lei lo ha soprannominato Pinzetta e non ne conosco il nome sinceramente di questo Pinzetta lei ha fatto un piccolo errore perché il Federico Pinzetta di cui ha parlato quello soprannominato Pinzetta era Federico Salvatore come? era Federico Salvatore non Federico ah sì 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 è vero la ringrazio è vero non so chi sia non c'è di che è stato un piccolo errore peraltro scusabile per l'omonimia quindi allora io trovo questa affermazione nel processo Federico Angelo e la Barbera appartenenti alla medesima famiglia le risulta questa circostanza guarda io non so più chi è adesso questo Federico Federico Pinzetta però il fratello di Pinzetta il fratello di? di Pinzetta no no il fratello di Pinzetta era la famiglia di Bontate e quindi non ha niente a che vedere e quindi non ha niente a che vedere signor Buscetta io non le chiedo una data ma così genericamente se mi puoi indicare in quale anno per la prima volta lei ha fatto dichiarazione sulla Barbera Michelangelo o dirlo imputato credo molto recentemente fare uno sforzo può indicare alla Corte più o meno non si preoccupi che non è 93 94 non saprei dirlo diciamo 2-3 anni fa grossomore ma ci sono i verbali che portano una data non si ricorda non mi ricordo ma è recentemente è recentemente ma allora nonno le sembri ultroneo in tutti i verbali che vanno dall'84 al 93 quando io sento sempre lei che parla di la Barbera Angelo la Barbera Angelo al Barbera Angelo eccetera eccetera ovviamente si riferiva a chi? al al rappresentante della famiglia di Palermo rappresentante della famiglia Palermo di Palermo che si chiamava la Barbera un'altra persona per la cronaca morto pugnalato dentro il carcere di Perugia se non ricordo male si si giusto quindi parliamo è stato assassinato nel carcere di Perugia quindi parliamo di una persona morta da tantissimi anni che non ha niente a che vedere con Angelo la Barbera che è il Michelangelo che ci interessa in questo processo io le chiedo una spiegazione lei è in grado di spiegarmi o di spiegare alla cosa come mai parlando tante e tante volte di un Angelo la Barbera quello morto non le è mai scattata la molla non le è mai venuta in mente che poteva esistere o che esisteva per meglio dire un altro Angelo la Barbera che era persona omonima ma separata e comunque facente parte di cosa nostra era una molla che ha fatto cilecca però io dico questo non mi sono dimenticato solo il nome di adesso chiamiamolo con il suo nome Michelangelo da Barbera io mi sono dimenticato di nome di persone che hanno passato 4-5 anni di carcere insieme a me della mia stessa famiglia quindi la sua risposta è assolutamente soddisfacente per quanto mi riguarda cambio argomento a parte questo signor Angelo Cosentino di cui ieri si è parlato in maniera molto fugace lei ha conosciuto altre persone appartenenti alla cosiddetta decina romana qualcun altro si l'ha conosciuto ma non mi ricordo il nome non si ricorda ma si trattava di persone diciamo uomini d'onore a tutti gli effetti quindi con tutti i diritti e doveri uomini d'onore con tutti i diritti e doveri anche se di secondo piano signor Buscetta per quello che io ho avuto modo di capire studiare in tanti anni di processi di questo genere che io ricordi la decina a sé non esiste la decina esiste in quanto sia facente parte sia inquadrata in qualche famiglia sto dicendo cosa errato sto dicendo esatto e allora le dico questa decina di Roma a quale famiglia apparteneva cioè di quale famiglia faceva parte quale famiglia andava a comporre bontà quindi la famiglia di Santa Maria di Gesù di Gesù quindi chi era il rappresentante di Santa Maria di Gesù lei ce l'ha detto era bontà e quindi è inutile che io richiedi questo Cosentino che le risulti abitava a Roma o era un romano così per modo di dire no abitava a Roma abitava a Roma e quelle altre persone che lei ha conosciuto ma di cui le sfugge il nome sa se abitavano pure a Roma sì io per esempio adesso me ne è venuto un uomo in mente Ernesto Marchese che è morto era della famiglia di Angelino Cosentino e abitava pure a Roma e abitava pure a Roma quindi allora diciamo che le risulta direttamente che queste persone ancorché lei non ricordi i nomi di tutti è comunque sicuro che abitassero a Roma sì signor Buscetta trovo sempre tra le carte di questo processo un'altra affermazione e io le chiedo se lei per caso non abbia notizie in proposto trovo scritto da qualche parte che la barbera Michelangelo per facilitarle la comprensione della domanda apparteneva alla decina romana lei ha mai avuto notizie in questo senso no ma non solo non notizie ma lo smentisco nel senso più categorico le faccio un'altra domanda risulta dagli atti di questo processo qualcuno ha detto che prima di prendere iniziative a Roma Cosa Nostra doveva consultare la famiglia della Magliana o meglio la famiglia la banda della Magliana io le domando avvocato dove sono scritte queste cose se non le dispiagge sia alcune portano la sua firma alcune portano la sua firma in calce e io li rimetto a disposizione sono qui vuole che ne dia lettura o si fida del mio ricordo dottore faccia la domanda sentiamo perché lui non ha avuto modo né di sentire la domanda né di poter rispondere ovviamente allora io le dico signor Buscetta mi scusi rifaccio la domanda abbiamo perso forse il filo le risulta lasciando perdere quello che ho letto poi alla fine dell'interrogatorio mi pregierò di soddisfare la curiosità pubblica non voglio nascondere a pubblico ministero l'origine della circostanza assoluta allora le dico è vero o non è vero le risulta o non le risulta che prima di prendere iniziative a Roma la cosa nostra doveva consultare la banda della maia no perché sarebbe stato un controsenso lei è mai stata confidata l'identità degli esecutori materiali del delitto pecorelli no e non credo di averlo detto mai nessun verbale infatti lei non lo ha mai detto ma la corte non conosce tutti i suoi presenti verbali quindi cose che per lei e per me sono scontate devono purtroppo essere diciamo messe in chiaro in questo vuole spiegare alla corte che cosa significa che Stefano a bontà aveva un esercito che io mi donore che aveva bontà era un numero molto rilevante quindi la mia espressione un po' un po' ingrandita è un esercito ma parliamo sempre di un numero limitato rispetto alle altre famiglie aveva un numero molto vasto ma signor Buscetta ovviamente non le posso chiedere di quante persone si componeva l'organigramma della famiglia di Santa Maria di Gesù ma quantomeno approssimativamente per quello che sono le sue notizie dell'epoca perché ci riferiamo al 1979 quanto potevano essere approssimativamente gli appoggi ma credo che intorno o superiore a 200 persone superiore a 200 persone lei ha un'idea ovviamente fondata su elementi di fatto di quanti killer erano alle dipendenze di Stefano Bontano ma io un momento fa ho spiegato non so se all'avvocato sbacchi che aveva una decina che si era costituito lui che agiva solo per conto suo non lo capisco le chiedo scusa signor Buscetta io mi sono distratto un attimo mi può ripetere la sua risposta può rispondere di nuovo perché non ha sentito l'avvocato io ho detto un momento fa all'avvocato sbacchi che contrariamente a tutto quello che si faceva nelle altre famiglie Stefano Bontati aveva scelto 10 persone e la riteneva a sua disposizione quindi già parliamo di un numero di 10 di 10 le risulta l'avvocato sbacchi poco fa le ha chiesto se Marino Mannoia fosse uno tra i 10 esattamente le risulta se è caduto il contorno Salvatore fosse uno dei killer di Stefano Bontati si le risulta se Giovanni Bontati fosse un killer Giovanni Bontati è il fratello di Stefano Bontati benissimo infatti rimasto coinvolto nell'omicidio di Barbera Giuseppe Taborre Alfredo non sento non sento a Napoli 27 giugno vuole parlare un pochino più vicino neanche sono allontanato Presidente dico le faccio questa considerazione perché risulta da atti processuali il coinvolgimento di Giovanni Bontati quale esecutore materiale dell'omicidio di Taborre Alfredo e Barbera Giuseppe è venuto a Napoli il 27 giugno del 1977 ne ha mai saputo nulla? no no signor Buscetta le ultime le ultimissime domande ho quasi concluso nel 1979 le fu proposto di sondare sondare le Brigate Rossa per sapere se erano disponibili a rivendicare l'omicidio se fosse avvenuto qualora fosse stato commesso del generale dalla Chiesa ricorda questo particolare? questo ha risposto la precisazione quale sarebbe? si rivolse per questo sondaggio a Lauro Azzolini si quale condizione poneva Lauro Azzolini per accedere a questo? ha già risposto a questo che doveva uno dei terroristi partecipare appena Azzolini le diede questa risposta lei che cosa fece? si dice che dovevo mandare a dire niente da fare e così è stato non ce ne è parlato più aspetti cerchi di focalizzare bene il momento e la circostanza Azzolini le dice in carcere che loro intanto sarebbero disponibili a rivendicare in quanto qualcuno di loro prende parte del delitto giusto? si quando Azzolini le dà questa risposta lei la trasmette all'esterno? certo e attende una contro risposta diciamo una controferta? no è finita allora diciamo che è lei stesso che decide su due piedi che quella proposta non è accoglibile no no io mando la risposta se ci sono altre notizie o altre cose da avanzare quando sarà il momento possibile mi si dirà non mi è stato detto più niente signor Buscetta le devo allora a questo punto rileggere qualcosa che lei ha dichiarato al procuratore della Repubblica in data 26 novembre 1992 no mi scusi aspetta non vorrei aver fatto confusione 20 novembre 92 si si giusto le leggo il periodo interessato ne parlai genericamente a Cuneo con Lauro Azzolini e questi mi rispose che la rivendicazione sarebbe stata possibile solo se all'omicidio avesse partecipato un brigatista fino a qui ci siamo si poiché tale partecipazione non era possibile il progetto cadde chi lo ha stabilito che questa partecipazione non era possibile lo ha stabilito lei su due piedi lei sta continuando a leggere o lei sta parlando lei io le ho letto adesso le faccio la domanda per avere il suo chiarimento dico fu lei a stabilire senti mi interessa non è una proposta che io posso trasmettere ma io non ho dato la risposta e lei mi ha detto ho una contestazione da fare qual è la contestazione perché già le ho dato la risposta forse noi non riusciamo a comprenderci su questo ma io ho detto a lei il test dice che ha risposto questa domanda non aveva potere decisionare si è limitato a riferire fuori quello che gli aveva detto a Zolini no signor presidente così ho capito io esatto così ho detto così ha detto il test io ho l'impressione che il test stia rispondendo in una maniera errata perché probabilmente trattandosi di cose avvenute 18 anni fa non ricordo bene allora io le leggo le continuo a leggere quello che c'è scritto in questo suo verbale in questa sua dichiarazione allora la Zolini mi rispose di no perché le BR intanto rivendicavano gli attentati in quanto che avesse partecipato almeno uno di loro punto trasmisi quindi fuori la risposta che le Brigate Rosse non accettavano cioè non è che trasmise fuori la controfferta di Lauro Azzolini lei trasmise fuori il direttore qual è la controfferta di Lauro Azzolini io chiedo scusa avvocato qual è la controfferta di Azzolini che doveva partecipare un brigatista no no scusa la controfferta di Azzolini è sì noi siamo disposti ad accettare però deve partecipare no 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 non siamo disposti ad accettare io non ho mai detto questo la testa ha risposto molto chiaramente scusate se no andiamo a no mi sembra che ha risposto chiaramente mi ha detto l'Azzolini disse che se non avesse partecipato non avrebbe quindi non è che ha detto no ha detto se partecipa uno di noi non è che allora dovrebbe chiedere a lui è disposto qualche brigatista a partecipare no ma signor Presidente c'è anche un'altra cosa io mica sono andato da Azzolini a andarci a dire guarda noi mafiosi facciamo il fatto poi voi lo rivendicate io ho parlato per frase con lui aggirando e ho porso la questione in una maniera molto indifferente per sentire un po' sondando che cosa mi rispondessi risposi in quella maniera e per me trasmissi fuori l'affare finì quindi non è che ho parlato chiaramente guardate che noi di cosa nostra ammazziamo dalla chiesa ma ci mancherebbe signor Bocet è proprio perché io conosco bene il suo modo di ragionare a quei tempi così come lei lo ha descritto tante volte che mi sembra assolutamente incredibile che lei poteva fare delle avanze diciamo come ambasciatore di cosa nostra questo lo escludo anch'io ma proprio non ce lo vuole dire allora dico ma lo riteneva possibile lei un delitto commesso da un terrorista e da un associato a cosa nostra un delitto commesso io non lo capisco si può ripetere la domanda avvocato riteneva possibile dico per la sua mentalità per quella che era la consuetudine ma è una sua ipotesi che dovrebbe fare lui no e presidente infatti come vede io mi sono dovuto fermare perché se non ho elementi di fatto da chiedere mi devo porre e dico ma proprio non ci dobbiamo arrivare a presidente tra l'altro all'ultimo tratto della sua risposta ci fermiamo qui signor Buscetta tutto quello che è stato detto fino adesso mi pare che non legittimino con una confusione di questo signor Buscetta le pongo la domanda mi scusi io volevo forse su questo il test non ha detto cioè praticamente nella prima domanda che lei ha fatto voleva sapere se lui il test Buscetta avesse un potere decisionale no 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 se avesse un potere decisionale cioè la ricostruzione adesso io dico così come lo ricostruisco io Azzolini gli fa capire o gli dice pur non avendo preso il discorso in pieno gli fa una proposta che lui sa bene signor Buscetta non essere in ogni caso accoglibile per la mentalità di Cosa Nostra e delle persone che rappresentavano Cosa Nostra e quindi capisce subito che quello è un argomento che non può portare avanti io l'ho interpretato così e volevo anzi desideravo che signor Buscetta mi desse una conferma in questo senso senza attendere il controinterrogatorio e quando l'ho interrogato io gli ho posto la domanda se con altri membri di organizzazioni criminali erano mai state fatte azioni omicide congiunte io sto chiedendo nel momento in cui lui davanti a una situazione davanti a una proposta chiamiamola francamente indecente quale poteva essere ritenuta quella fatta da Azzolini il signor Buscetta giustamente per la sua corrente di pensiero chiude il discorso muore là e dice non c'è niente da fare io dico che questa è stata la mia interpretazione le chiedo signor Buscetta è la esatta ricostruzione di ciò che è accaduto oppure no quale quale parte quello che ho detto appena io cioè che la ipotesi di una partecipazione congiunta tra un terrorista e cosa nostra fosse addirittura improponibile ma io l'ho mandata fuori la notizia di ritorno non c'è stato niente avvocato va bene allora va benissimo anche così la ringrazio prego mi scusi su questo argomento la corte vorrebbe sapere quando è avvenuto il colloquio con Alzzarini in che periodo nel 79 nel 79 nel 79 e l'organizzazione mafiosa in quell'epoca aveva interesse a uccidere dalla chiesa questo non lo so però è dall'organizzazione che mi viene la proposta no no signor Buscetta lei ha risposto in maniera tassativa su questo addetto ha detto testualmente certo non era interesse di Cosa Nostra uccidere dalla chiesa nel 1979 se vuole le cerco la pagina anche perché in Sicilia non avevano fatto niente ho fatto qualche dichiarazione dicendo proprio così se vuole le cerco la pagina io la leggo no no io la ricordo benissimo avvocato è vero presidente soltanto due chiarimenti di la Barbera ovviamente la Barbera sì sì soltanto due chiarimenti perché ha già detto tutto il collega signor Buscetta volevo chiederle quindi in sintesi se il Bontade avesse avuto qualche questione importante da risolvere a Roma a chi si sarebbe rivolto ma senz'altro ma questione importante sotto che aspetto signore questioni importanti per il Bontade lei meglio di me può sapere quali potevano essere le questioni importanti politiche questioni di mafia questioni di mafia questioni di mafia questioni di mafia Presidente in effetti mi sembra che non è posta in maniera chiara e precisa la domanda ma la mia domanda è mutuata dalla ricostruzione del pubblico ministero presidente quindi se mi consente vorrei insistere se il Bontade aveva alle sue dipendenze ai suoi ordini una decina romana io mi chiedo chiedo al signor Buscetta se il Bontade doveva risolvere una questione di rilevante importanza importante a chi si sarebbe rivolto la domanda richiede come risposta una valutazione un'opinione la mancanza senza riferimento in relazione con riferimento alla riconoscenza del signor Buscetta non le stiamo chiedendo una domanda di questo genere Presidente avvocato sia più preciso per cortesia avvocato sia più preciso per favore comunque lei ha riferito che Mannoia era uno dei killer più qualificati di Bontade gli altri due se non sbaglio gliele ha ricordato il collega Contorno e un'altra persona le vengono in mente altre persone qualificate come tali killer alle dipendenze di Bontade che potevano agire si ho detto una decina si una decina abbiamo detto Contorno Mannoia e non mi ricordo più di altri nomi Federico Angelo si e non mi ricordo più di altri nomi il momento che mi ricorderò glielo dirò signora a me interessano adesso ovviamente non dopo e un'altra un'altra cosa la lei ha conoscenza che la mafia usasse come consuetudine o di prassi delle armi in particolare anziché altre armi un tipo di armi voglio dire un tipo specifico di armi io non lo so non lo so non ne ho conoscenze lei ha partecipato o perlomeno è stato accusato di delitti di sangue di omicidi di omicidi sì lei non non sa quindi se la mafia preferisse utilizzare alcune armi anziché altre ma parliamo del periodo perché il periodo attuale non lo conosco io non lo so le chiedo se c'è una distinzione nel periodo nel periodo in cui lei ha militato di cosa nostra nel periodo in cui io ho militato e quindi andiamo fino al 62 si usava un rivolvero o una doppietta nient'altro non c'era nessuna ricerca di arma speciale un'ultima cosa lei ha detto parlando genericamente delle regole di cosa nostra che un uomo di cosa nostra appunto non rivela la sua qualifica a un uomo che tale non è ha detto questo sbaglio ecco benissimo detto ciò un uomo di cosa nostra è a sua conoscenza che abbia mai perpetrato un omicidio unitamente a un uomo non appartenente a cosa nostra ha già risposto a questa domanda ieri il presidente ma se lo fa rispondere lei questa mattina ha riferito che un uomo di cosa nostra poteva anche commettere delitti con persone riferendosi a Reggio Calabria appartenenti alle organizzazioni criminose ma questo ha fatto capire era sempre cosa nostra decentrata in una regione diversa dalla Sicilia un testo che abbia detto questo ha detto al contrario che c'è la partecipazione anche con uomini non con uomini d'onore questo ha detto no no scusa scusate per favore risponda la domanda avvocato Paccoi la prego risponda la domanda che ha fatto l'avvocato ecco se mi risponde il test direttamente magari no no grazie compriamo 10 minuti poi prendiamo no dobbiamo parlare ancora difesa vitalone e difesa carminati e poi riprovinciamo il contesano ma non hanno parlato ma non hanno parlato mai ma il contesano vuoi la taormina per la difesa vitalone silenzio prego solo per alcune puntualizzazioni e anche breve torniamo un attimo sulla eh questione eh Bossi e i suoi rapporti con questo eh con questa persona nel carcere di Cuneo lei ha dichiarato eh di aver avuto eh in consegna da parte eh di Bossi di alcuni materiali di alcuni documenti vuol dire di che cosa si trattava eh trascrizione di intersezzazione telefonica senta lei nel in un interrogatorio del 4 dicembre dell'84 al dottor Falcone fece riferimento invece alla consegna di eh verbali di suoi interrogatori di interrogatori di esso eh Bossi beh avrò confuso la la competenza di che cosa dicevo però eh era questo quindi si trattava lei conferma che si trattava quindi di eh di verbali di intercettazioni telefoniche sì le furono consegnati questi verbali che cosa ne fece io sì li restituì al Bossi ecco li tenne del tempo per poterli consultare che cosa eh li lesse sì prego li lesse cioè li portò con sé questi verbali come li portai con me se li portò via non li lesse insieme a Bossi no no li lesse da solo li lesse da solo ecco ricorda se prese appunti su questo di questo intorno a questo materiale che andava consultando no non ha preso alcun appunto no senta e venendo specificamente alla intercettazione telefonica era una sola quella che eh le fu consegnato o fu molto materiale che le fu consegnato erano molte telefonate ecco eh lei ricorda eh la telefonata alla quale eh tra l'altro avrebbe fatto riferimento anche eh questa mattina eh a proposito della eh nella quale sarebbe eh comparso sarebbe stato uno degli interlocutori eh un politico si ricorda questa telefonata? Sì Tra chi intercorreva questa telefonata? Tra Bossi e quest'altro politico Tra Bossi e quest'altro politico e questo politico eh che cosa avrebbe detto secondo il suo ricordo? Ma le telefonate sono più di uno lei si riferisce alla parte finale delle telefonate io mi riferisco a questa telefonata che lei ha ben individuato intercorsa tra Bossi e il politico sì che non voleva non volevano un moro vivo cioè era una dichiarazione una comunicazione che Bossi riceveva dal politico? Dal politico sì senta noi eh tra le carte che eh sono state allegate al fascigo del dibattimento da parte del pubblico ministero esattamente nell'ambito del documento numero centotré eh allegato tra l'altro anche indicato anche nella reazione preliminare che ha svolto il pubblico ministero noi abbiamo eh identificato il eh documento del quale si tratta cioè questa intercettazione telefonica ecco io le vorrei mostrare questa intercettazione telefonica posto che eh è l'unica eh nella quale eh si fa riferimento eh a quelli che lei qualifica come come politici eh si fa riferimento a costoro le vorrei mostrare questa telefonata perché lei eh possa leggerla scorrela rapidamente le abbiamo fatto anche eh una evidenziazione dei punti che ci interessano eh per eh capire eh se lei può confermare che eh si trattò di una telefonata che intercorse tra Bossi e eh il politico e eh per sapere se eh lei può confermare che eh questo politico che lei questa mattina o comunque ieri non ricordo eh ha identificato nel senatore Vitalone no no io non ho mai parlato di senatore Vitalone dunque mi pare ha detto ha detto ha detto il nome ma non sa ha detto non so chi sia ecco no eh presidente chiedo scusa eh il la indicazione è precisa io parlo di quello che ha detto ieri noi questo sappiamo parla di Vitalone parla di Vitalone sì dov'è la cosa ecco mi ricordo in particolare una telefonata di Bossi verbale 6493 con un politico che diceva questi non lo vogliono liberare a Moro questo politico era Vitalone io non so se oltre al giudice Vitalone esista un altro Vitalone certo è che il Vitalone della telefonata parlava come un politico della democrazia cristiana ecco io col permesso della corte vorrei che il test potesse esaminare il documento quello ripeto che è stato prodotto dal pubblico ministero per rivistare il documento 103 ha detto è vero che è stato acquisito agli altri sì allora può vederlo senz'altro non si tratta non si tratta di una contestazione presidente si tratta soltanto di chiarificare esatto scusi avvocato il numero 103 perché agli atti c'è una registrazione una trascrizione di intercettazioni che sono state ammesse e poi diciamo un brogliaccio di trascrizione che non è stato ammesso questo non riesco a comprendere comunque è questo il testo del documento cioè se è quello che riguarda le intercettazioni ammesse oppure quello che è stato stracciato perfetto grazie mi dai una copia per favore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti io non so se posso dire se la stessa di cui parlavo io facendolo così scorrendo non so leggendo attentamente perché non posso guardi signor Bucista di conversazioni di questo genere non ce ne sono altre e per questa ragione è stata crediamo indicata dall'accusa comunque guardando questa e non può essere avvocato guardando questa mi consenta come le vede c'è una prima parte nella quale si discute tra i due interlocutori che non sappiamo quali sono ma le iniziali e EU dovrebbero stare per Edoardo Formisano e Ugo Bossi come le vede nella prima parte si parla a lungo del problema legato al suo trasferimento dal carcere di Cuneo del quale si sarebbe fatto carico il Bossi nei confronti di Formisano interpellando Formisano e invece qui si discute dell'inottemperanza par di capire dello stesso Formisano poi esattamente a quello che lei può constatare essere il foglio cento centocinquantasei comunque di quelli che le ho dato il terzo ultimo si passa ad un altro argomento volevo vedere perché io per il 21 giugno ho concluso e parlo con te e parlo con quell'altro ecco può cortesemente eh eh indicare eh dove eh 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 compare il nome di Vitalone e di quale Vitalone si tratti sono leggendo il foglio centoquarantasei o no il terzo ultimo che è centocinquantasei centoquarantacinque foglio centoquarantasei si quale parte poi dopo no il foglio successivo al centoquarantacinque allora centoquarantasei centoquarantasei grazie a tutti ascolta un minuto ti sto facendo una domanda specifica ha a che fare con quell'avvocato lì e prosegue fino a dire alla sest'ultima riga eh l'ha trovata? e l'avvocato Vitalone di cui devo vedermi parla chiaro no? insomma è quella la sì e allora? dico quindi ehm può prendere atto innanzitutto che la eh questa telefonata non eh interviene tra eh Bossi e eh il politico ma interviene tra Bossi e certamente altro che comunque poteva essere consigliato un politico ma che era Formisano sì può prendere atto che in questo documento si parla di un Vitalone e quindi ecco perché è una precisazione rispetto a quello che lei ha sempre detto ma appunto per cercare di ricostruire bene eh la eh le dichiarazioni che lei ha fatto sì quindi leggendo questa dichiarazione eh questa intercettazione se questa è la intercettazione alla quale eh deve farsi riferimento può precisare la sua dichiarazione nel senso eh che si trattava di Vitalone ma dell'avvocato sì c'è opposizione Presidente prima vorremmo sapere se i documenti che le ha fatto vedere Bossi quei documenti di cui lei ha parlato se sono faccio a ricordarmi che ho visto questa telefonata beh adesso io non so se questo è trascritto però la sostanza le telefonate erano moltissime erano molte telefonate sì e come lei non ricorda molti telefonati di Bossi parlando con mia moglie che si interessava non per i fatti che non ha niente a che vedere con l'onorevole Moro ma che si interessava per la mia saluta e per il trasferimento la precisazione che vuole sapere l'avvocato è un fatto Presidente chiedo scusa è bene anche precisare che questa è la intercettazione telefonica che riguarda proprio la questione del trasferimento del signor Bruscetta da Cuneo ad un altro carcere per cui è proprio esattamente la intercettazione che egli ha ricordato quando ha fatto riferimento al colloquio telefonico tra Bossi e un politico Presidente questa non può essere messa come affermazione il test dovrebbe essere messa in forma di domanda è questa la telefonata o no cerchiamo di chiarire prima questo il test ancora non l'ha detto ma il test è già letto al test la dichiarazione che lui ha reso al pubblico ministero ma non è stato ancora chiesto se è questa la telefonata di cui parlava non mi ricordo signor Presidente c'erano tanti era un perlomeno Presidente era un pacco di intercettazione telefonica di telefonate questo ho capito però si fa riferimento a una telefonata nella quale lei fa il nome di un politico quindi sembra che in tutto quel pacco non ci sia che sia io non la metto in dubbio questa telefonata per l'amore di Dio me ne guarderebbe però dico se la conclusione delle telefonate è proprio questa io questo non posso stabilirlo allora se la telefonata è questa e comunque io dico che se è necessario accertare se tra il pacco di telefonate che sono state prodotte ed acquisite agli atti del facilito dibattimento bisogna ricercare se vi siano altre telefonate nelle quali sia individuabile quella tra bossio e politico lo si faccia perché possa il test rispondere alla domanda che noi abbiamo fatto io l'ho fatta la domanda sulla consapevolezza che questa è l'unica intercettazione telefonica nella quale compare il nome di Vitalone se vogliamo intanto acquisire una risposta sulla base di questa telefonata alla difesa sta bene se la corte ritiene che per completezza della risposta si debbano esamiare tutte le telefonate possiamo farlo in questa sede presidente diamo per scontato che effettivamente quello che dice l'avvocato dormino è vero non ci sono altre telefonate in questo senso però resta il fatto la domanda è stata fatta il test è risposto che non ricorda se si tratta di quello ma presidente chiedo scusa questo è il documento che è stato prodotto ma siamo perfettamente d'accordo allora io chiedo siccome quod non est in actis con quello che segue sulla base di questo documento che la difesa esibisce al test trattasi di documento prodotto dall'accusa ecco egli è in grado di precisare le sue precedenti dichiarazioni laddove correttamente disse che quando parlava di vitalone o si parlava di vitalone non era in grado di stabilire chi fosse perché non aveva avuto mai modo di sentire parlare di questa persona può precisare se ove questa sia l'intercettazione che il suo pensiero anzi le sue dichiarazioni ma io domando con riferimento a questo mi ha chiesto cioè voi date per certo che fra tutto quel pacco non ce ne siano altre che fanno riferimento al nome di vitalone quindi è solo quella adesso siccome lui ha reso delle dichiarazioni gli si chiede di precisare in base a questa lui si ha detto che non si ricorda o comunque ma non mi ricordo però leggendo la pagina e leggendo ben chiaramente scusi mi metto gli occhiali si si metta gli occhiali c'è anche una premessa ecco l'avvocato lì è il fratello ecco l'avvocato lì ecco quindi si fa interimento a un avvocato a un avvocato io non ho mai parlato di senatore ma l'abbiamo sentito è una precisazione senta lei ricorda che cosa le disse Bossi quando lei ebbe a riconsegnargli le intercettazioni telefoniche che aveva finito di consultare no ricorda se parlaste ricorda se parlaste di Vitalone o comunque del politico no io ho avuto le intercettazioni telefoniche per leggere in una maniera di avvisare a mia moglie se mia moglie fosse stata interrogata per le telefonate intercorsi fra lui e mia moglie non per guardare al fatto delle quindi lei non ricorda di avere indicato a Bossi di avere trovato il nome di Vitalone nella lettura delle intercettazioni no non ricordo né ricorda che in quella circostanza Bossi fece riferimento al fatto che si trattava dell'avvocato Vitalone no le telefonate mi sono state date per un'altra ragione non per guardare se c'era o non c'era l'avvocato Vitalone senza lei ha detto che non ha mai conosciuto questo Formisano o sbaglio si sa chi era questo Formisano no sa che era stato condannato in un processo che riguardava anche Turatello che peraltro non andò in contra a condanna per intervenuta morte per traffico di armi ha mai saputo lei di questo processo a carico di Formisano no lei ha mai saputo da chi fu intrapreso questo processo no se mi dice gli anni posso rispondere che possibilmente non ero più il processo è degli anni del 78 78 il processo si inizio nel 78 no mai saputo non le risulta quindi che si trattò di un processo svoltosi a Roma a Milano sulla base di una relazione di servizio redatta dal dottor Vitalone allora magistrato no non conosco il Formisano Vitalone lo conosce nemmeno senta Bossi le ha mai detto che era arrivato uno stop per la operazione della quale lei era stato incaricato a proposito del contatto con i brigatisti nel caso del trasferimento dal carcere scop no non l'ha mai detto no lei ha mai ricevuto comunque controordini da Bossi per questa operazione no il 612 del 93 al PM Marini e al PM Marini e Ionta dichiara che Ugo Bossi non ebbe mai a dirle che da qualcuno fosse arrivato uno stop all'operazione che avremmo dovuto iniziare conferma questa circostanza senta lei e Sansone avevate lo stesso avvocato si chi era Flavio se non vado errato lei ricorda avvocato che avrebbe dovuto pagarlo ognuno per conto suo non le risulta invece che fosse badalamenti a dover pagare l'avvocato anche per lei oltre che per Sansone no per Sansone non posso rispondere perché ho detto venti minuti fa che l'amico vero di Sansone fosse badalamente senta lei ricorda di avere sentito insieme a Sansone in televisione la notizia dell'arresto di badalamenti ed altri si della pizza con nation si no di badalamenti non della pizza con nation di badalamenti in Spagna in Spagna si lei si ricorda chi era stato arrestato con badalamenti in Spagna il nipote e il figlio sempre il nipote e il figlio e chi altro vi era coinvolto se lei ricorda non ricorda no lei rimase sorpreso da questa dalle persone che erano state arrestate in questa circostanza ma ho detto tre persone e solo quelle conoscevo e delle persone coinvolte non ricorda se qualcuna il nome di qualcuno ma coinvolte dove nell'arresto negli arresti ma sto dicendo solo tre persone non risulta che tra le persone coinvolte in questo processo vi fossero ve ne fossero alcune che lei riteneva sue amiche che invece si mostravano sue avversarie ma quando quando sono state arrestate lui ha risposto dicendo che conosce il nome di tre persone di tre persone cioè badalamente badalamente figlio e il nipote che si chiama randazzo altre persone non ricorda nessun'altra persona possibile nemica di badalamente che lei riteneva nemica di badalamente ma io credo che nessuno sia stato arrestato insieme a badalamente ma questo lo può coinvolto se non arrestato coinvolto in questa coinvolto dove in Italia in America in Spagna no non rivoluzione va bene abbiamo finito un'ultima domanda Presidente chiedo scusa un'ultima domanda senta lei ha detto che i salvo erano uomini d'onore e che la loro qualità era ritenuta tenuta riservata all'inizio lei sa quando si viene a conoscenza si sa a cominciare da parte sua che i salvo erano uomini d'onore io lo sapevo fin dal 72 se si fosse venuto a conoscenza prima non lo so e dopo chi lo sapeva dopo di lei dopo si era divulgato cioè dopo quanto tempo in che anni tutti conoscevano il salvo per le persone che entravano in carcere cioè intendo dire uomini d'onore uomini di cosa nostra scusi io le leggo una dichiarazione da lei resa il data 21 non ne ho idea non ne ho idea non lo sa no non lo so la difesa di carminati grazie presidente non è per una captazio benevolentia nei confronti della corte ma poiché mi ritengo completamente soddisfatto delle le mie curiosità le ritengo completamente soddisfatte in base alle risposte che da stamattina Buscetta è andato risparmio alla corte le 452 domande che avevo preparato per Buscetta pure sto scherzando a voi è di scherzare anche l'avvocato Naso va bene è rimasta la difesa di Badalamenti sì la difesa di Badalamenti certo signor Buscetta lei ha sempre riferito e ce lo ha anche ribadito nel corso di queste udienze davanti alla corte di aver ricoperto all'interno di Cosa Nostra malgrado le sue capacità malgrado la considerazione in cui era tenuto dai vertici di Cosa Nostra malgrado la sua partecipazione alla fase costitutiva della commissione il grado diciamo inferiore il primo grado nella scala gerarchica di Cosa Nostra di soldato lei risulta però che Antonino Calderone ebbe a dichiarare all'autorità giudiziaria che ai tempi in cui il rappresentante della famiglia di Cosa Nostra di Porta Nuova era Filippone Gaetano lei ne era il vice rappresentante sì mi ricordo quindi Antonino Calderone ha riferito questa circostanza ma ho risposto alla giudiziaria quando me lo disse a quale famiglia apparteneva Antonino Calderone a Catania a quale famiglia Catania perché nel corso del suo rapporto di collaborazione iniziato nell'84 lei fino all'88 ha sempre omesso di riferire il nome di Antonino Calderone come appartenente a Cosa Nostra mentre invece riferiva la composizione delle varie famiglie e ne riferiva anche i relativi appartenenti me ne sono dimenticato non volevo assolutamente salvarlo ho detto stamattina che mi sono dimenticato anche di gente che era stato per 5 anni in carcere con me appartenente alla mia famiglia che non mi sono dimenticato di citarli lei se non sbaglio ieri ha riferito che non era escluso che Cosa Nostra potesse compiere omicidi al di fuori della Sicilia avvalendosi della collaborazione di membri appartenenti alla malavita locale poi le è stato chiesto di fare un esempio particolare lei ha riferito ha citato l'esempio di omicidi avvenuti in Calabria è vero? sì ma non è stato lei stesso a riferire che in Calabria operavano regolari famiglie appartenenti a Cosa Nostra? sì lei ha riferito anche la circostanza che mentre era in attesa di essere estradato dal Brasile nell'autunno dell'83 tentò il suicidio ingerendo della stricnina come se l'era procurata dal momento che lei era in stato di detenzione in attesa dell'estradizione è una domanda che può fare solo lei che vive in Italia non perché vive in Brasile i carceri di Brasile sono un collaboratore come mai lei aveva la stricnina meditava il suicidio oppure la deteneva per altri motivi meditavo il suicidio perché preferivo la morte che essere preda dei corleonesi ecco quindi la teneva riservandosi di usarla se fosse caduto in mano ai nemici per evitare che avessero la soddisfazione di ucciderla quindi non per il suicidio ha risposto ha detto bene senta lei è stato detenuto presso il carcere del lucciardone di Palermo dalla fine del 72 all'agosto del 77 in quale reparto lei si trovava in stato di detenzione in un primo tempo alla nuova sezione dopo 4-5 mesi all'infermeria e poi rimasto in infermeria per tutto il periodo si come mai si trovava in infermeria perché accusavo tubercolose renale era realmente ammalato no ho detto stamattina no nel 1980 lei ha ottenuto la semilibertà usufruiva anche di permessi premio in quel periodo di permessi 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 regolari non premi si chiamavano permessi premio comunque permessi regolari va bene non lo so la sua latitanza coincide per caso proprio con un rientro che lei doveva effettuare da un permesso di recarsi a Palermo sì per quale motivo si diede alla latitanza pur essendo stato ammesso al beneficio della semilibertà perché la mia vita da semilibero non era facile ricevevo visite quotidiane da parte delle autorità di quella città mi sono rivolto al giudice di sorveglianza di Torino dicendoci io tutte le mattine ritornando a casa trovo poliziotti che fanno delle perquisizioni se un giorno si trovasse una pistola sotto il mio cuscino chi mi crederà che non sono stato io a metterla mi disse ma io non ho rimedio né posso mettere freno alle perquisizioni della polizia questa fu una decisione che presi non è per caso che lei doveva scontare anche un'altra sentenza di condanna che si aggiungeva a quella per la quale sì era arrivato un nuovo mandato di vattura per una sentenza passata in giudicato di due anni e che per poter ottenere nuovamente i benefici della semilibertà per lo meno avrei dovuto scontare altri sei mesi sette mesi o quattro mesi non ricordo bene di carcere cose che io non volevo più affrontare questa nuova condanna diventata per lei definitiva fu effettivamente scontata da lei successivamente quando quindi venne riarrestato a seguito dell'estradizione io non so risponderle bene però lei come avvocato conoscerà che si fa il cumulo si sommano gli anni si dà il beneficio dei 40 giorni l'anno quindi fu messa anche nel cumulo quindi ha scontato anche quella condanna certo io non me la sono nascosto in stato di detenzione carceraria oppure in altro regime ho detto nel cumulo di pena signora scusate però in stato di detenzione cioè lei è stato ristretto in carcere per questa condanna oppure l'ha scontata usufruendo di misure alternative ma se la prima cosa che mi è stata comunicata al rientro cioè quando sono stato estradato dal Brasile all'Italia la prima cosa che mi sono stati comunicati sono stati mandati di cattura per le pene definitive senta lei prima rispondendo ad una precisa domanda dell'avvocato Sbacchi ha smentito la circostanza che Antonino Calderone riferì all'autorità giudiziaria circa un omaggio il regalo di un brillante che lei avrebbe fatto al procuratore della Repubblica di Cunio Sebastiano Campisi per ottenere qualche comportamento di favore nei suoi confronti nel periodo della detenzione presso il carcere di Cunio è vero che comunque il Campisi ebbe un incontro con lei a seguito del quale intercesse presso il giudice di sorveglianza affinché le fosse concesso un permesso premio a cui lei ambiva molto io non ricordo se si chiama Campisi però le posso dire che ho avuto un incontro con il procuratore di Cunio regolarmente iscrittomi a modello 13 il professore il dottore Campisi se si chiama Campisi non lo ricordo bene ma sarà senz'altro questo forse non ha fatto nessun provvedimento a mio favore però si è adoperato presso il giudice di sorveglianza perché lei ottenesse questo permesso avvocatesse non so risponderle a questa domanda perché io non ho chiesto al dottor Campisi che mi aiutasse presso il giudice di sorveglianza e non credo che il giudice di sorveglianza ascoltasse il dottor Campisi dovrei ricordarle che nel corso di un interrogatorio tenuto il primo febbraio 88 lei ha riferito di aver parlato col procuratore della Repubblica al quale sposi la mia necessità di ottenere un permesso per recarmi a Milano e il magistrato si convinse della fondatezza della mia istanza e segnalò il fatto al magistrato di sorveglianza e quindi ho parlato col procuratore ma per segnalare non che mi feci il favore il procuratore segnalare e questo io credo che ogni detenuto ha ragione di parlare con il procuratore per dire vede le mie condizioni di salute è un prassi normale questa? credo di sì e poi lo sa lei meglio di me lei ha riferito che all'inizio del suo rapporto di collaborazione il magistrato che appunto gestì questo rapporto era il dottor Falcone che rapporto aveva con il dottor Falcone? è vero che lei lo considerava il suo punto di riferimento nel rapporto di collaborazione addirittura c'è una sua testuale espressione in cui veniva chiamato da lei il suo faro? perché mi ero con tanta frequenza mi ero abituato a conoscerlo e per me è rimasto come un segno indelebile come persona corretta leale e coraggiosa solo per questo ma che io devo parlare chi fossi il dottore Falcone non mi sento ma non lo ha chiesto questo ha chiesto questo ha risposto solamente a questa domanda ma lo considerava un punto di riferimento allora perché se il dottor Falcone era così importante per lei ebbe a mentirgli in più occasioni sia in ordine all'appartenenza a Cosa Nostra di Gioacchino Pennino gli omise l'appartenenza di Antonino Calderone a Cosa Nostra e tra l'altro gli mentì su un'ulteriore circostanza negando categoricamente più volte di essere stato lei ad essere stato fermato in una macchina dalla polizia e di aver dato il falso documento di Adalberto Barbieri avvocato mi permetto di dirlo che lei dovrebbe leggere un po' di più i processi perché ma leggendo i processi si rende conto delle risposte che ho dato al dottore Falcone il perché non parlai del fermo di Milano che si trattava del coppio volchese quindi non avevo intenzione di parlarne comunque su questo ci sono state già le contestazioni e poi ho forse una serie di contestazioni precise proprio su questo aver detto non aver detto certe cose al giudice Falcone però questo fatto di aver mentito categoricamente e in più occasioni circa il fatto che lei si avvalse di un documento falso è stato da lei più volte ripetuto e ribadito e è agli atti di questo procedimento e già ho risposto a questo signore lei ha sempre detto di non aver riferito al dottor Falcone di fatti relativi a collegamenti tra mafia e politica però avrebbe potuto riferire al dottor Falcone circa l'omicidio Pecorelli il solo nome dei mandanti mafiosi riservando eventualmente a seguito delle indagini che il dottor Falcone avrebbe compiuto l'individuazione se del caso di quelli politici come mai non l'ha fatto ognuno si regola per le idee che ha proprie il generale dalla chiesa venne nominato alla carica di prefetto di Palermo se non sbaglio il 30 aprile dell'82 perché nei primi mesi dell'82 c'era stata una notevole recrudescenza dell'offensiva mafiosa in Sicilia il generale fu ucciso il 3 settembre dell'82 durante questo periodo non le risulta che Badalamenti si trovasse in Brasile? nel periodo dell'uccisione del generale in cui è stato dalla chiesa nominato prefetto a Palermo fino a quando è stato ucciso che si trovasse a Palermo non lo so però si trovava in Europa non era in Brasile se non sbaglio lei ha riferito che Badalamenti si trovava in Brasile dal giugno dell'83 dal giugno dell'82 e quindi il prefetto viene nominato l'aprile dell'82 e allora domanda qual è che io rispondo Badalamenti si trovava in Brasile praticamente nel periodo all'incirca in cui fu nominato fu trasferito il generale dalla chiesa a Palermo e poi venne ucciso io non conosco queste date signora me li dica lei però dal giugno dell'83 Badalamenti dell'82 Badalamenti si trovava in Brasile vero? giugno o luglio dell'82 si trovava in Brasile sì se in questo periodo Badalamenti si trovava in Brasile come faceva ad affermare che dalla chiesa non aveva emesso alcuna misura alcun provvedimento contro la mafia se praticamente è stato materialmente assente dall'Italia per tutto il periodo in cui il generale dalla chiesa operò quando è stato nominato il generale dalla chiesa? il 30 aprile dell'82 sono tre mesi di attività quattro mesi di attività fino a quando lui si sposta è morto a settembre dell'82 sì ma lui può innanzitutto potrei rispondere che lui può saperlo perché si telefona si parla arrivano persone arriva il figlio arriva il nipote in Brasile quindi può saperlo però dico l'attività già del generale della chiesa lui la conosce il provvedimento di trasferimento era dell'aprile 82 io credo che almeno un mese e due di assestamento per la presa in possesso per ragazzi in Brasile Presidente sta chiedendo a Buscetta se è stata opinione di badalamenti sul generale della chiesa non ho capito riferisce con certezza il test di Buscetta che badalamenti gli avrebbe detto che nel corso dell'operatività del generale dalla chiesa e come fa a sapere perché badalamenti lo diceva scusami allora chiedi se gliel'ha detto sono d'accordo però la circostanza è assurda scusi avvocato su questo punto ha risposto il test più volte quale particolare vuol sapere con precisione lei perché non ho capito neanche io a questo punto il test ha già detto quello che lei che cosa vuol sapere con precisione badalamenti lei diede mai dei riferimenti di fatto in ordine a questi provvedimenti che non avrebbe preso il generale dalla chiesa cioè che cosa il generale perché il generale dalla chiesa non poteva aver emesso alcun provvedimento non lo so perché il generale dalla chiesa non può avere nessun provvedimento io questo non lo so io sono in Brasile Gaetano Badalamenti viene in Brasile ed è lui che porta le novità a me no io a lui quindi non posso saperlo poi la domanda va bene va davanti le risulta che Badalamenti e Salvo Lima avessero rapporti diretti? no non mi risulta a me quindi lei conferma che Salvo Lima non fu mai avvicinato da Badalamenti no no questo non lo confermo perché non lo so ma a me non mi risulta ecco lei nel corso del a Padova nel corso dell'esame ha più volte ribadito che non le risultava che Salvo Lima fosse stato mai avvicinato da Badalamenti e lo ripeto quindi ne ha conoscenza ma come siamo capiti ha detto che no che altro vuole criticare lo ha detto prima e lo ripete adesso nel corso di un interrogatorio innanzi al dottor Falcone del 2 febbraio 88 lei ha riferito di essersi offerto insieme a Salvatore Greco per far evadere i rimi che allora erano detenuti per l'omicidio leale in quanto riteneva che essi fossero estranei all'omicidio di cui erano accusati ma che Rimi Vincenzo si rifiutò di evadere in quanto testualmente disse che un uomo d'onore non scappa conferma questa circostanza? Sì come era considerato Vincenzo Rimi all'interno di Cosa Nostra? nella sua provincia di Trapane bene? è vero che tutti sapevano all'interno di Cosa Nostra che Vincenzo Rimi e il figlio non fossero assolutamente responsabili dell'omicidio di Stefano Leale? Sì lei ha riferito in relazione al golpe borghese che il figlio di Vincenzo Rimi Natale si sarebbe occupato di prendere delle armi necessarie proprio al golpe in una caserma militare di Roma è vero? Così ho saputo sì perché allora sempre nell'interrogatorio del 2 febbraio 88 avanti al giudice Falcone lei ha dichiarato di escludere un coinvolgimento di Rimi Natale nel golpe borghese dal momento che a quell'epoca era troppo giovane stiamo parlando che ho già deposto qua davanti a questo tribunale che la mafia si estenne dal golpe ma non poter controllare se il figlio volle continuare per fare il golpe la mafia non era più d'accordo a fare il golpe ma non è che posso rispondere per il figlio che volle continuare e che io so che sia entrato in una caserma militare a prendere dei mitra o delle armi la mia domanda è diversa lei nel corso di un interrogatorio ho reso avanti al giudice Falcone il 2 febbraio 88 ha escluso che Natale Rimi potesse aver preso parte al tentativo di golpe o perlomeno all'accordo relativo al tentativo di golpe perché era troppo giovane è vero che possiamo avere lettura del passo del verbale è un verbale che non è agli atti del dibattimento non è agli atti del procedimento però è indicato in una memoria presentata nel procedimento di Palermo e tra l'altro io formulo la circostanza al test che indipendentemente dall'esistenza in questo procedimento di verbale è tenuto a rispondere no Presidente sulla circostanza ha già risposto per quanto riguarda la contestazione ci opponiamo se riguarda un verbale che non è compreso tra gli atti del pubblico ministro Presidente il processo penale è la cosa acquisisce nel dibattimento avvocato mi chiede se è necessario sempre avere come supporto un verbale relativo a declarazione avvocato mi scusi mi sembra che il test non abbia risposto alla domanda precisa che ha fatto l'avvocato cioè ha risposto a un'altra domanda l'avvocato ha chiesto che ha detto se è mai vero che lei abbia escluso che il nipote abbia partecipato al golpe perché era troppo giovane il figlio quindi avrebbe detto questa circostanza poi avrebbe detto l'altra la quale si dice invece che avrebbe preso delle armi ma noi lo consideravamo così quindi che lui poi abbia considerato era questa cioè se in una precedente dichiarazione aveva escluso la partecipazione di Natale con noi aderiste o no all'invito del principe borghese di partecipare al tentativo di golpe no no quale fu la posizione di Badalamenti nell'occasione per il no lei ha dichiarato che i suoi rapporti con Badalamenti ebbero alti e bassi in una sua dichiarazione lei riferisce che per diversi anni ci sono stati momenti in cui non le piaceva avere più l'amicizia di Badalamenti dal momento che si comportava in maniera equivoca è vero che ha dichiarato questa circostanza ma l'ho detto fino a stamattina sì prego non ho capito lo ha detto dice che lo ha detto e lo ha detto parliamo della sua frequentazione con Badalamenti nel periodo in cui si trovava in Brasile lei ha parlato di due periodi un periodo che va dal giugno luglio dell'82 al dicembre dell'82 in cui avvenne una frequentazione diciamo più assidua vero? un secondo periodo che va dal febbraio giugno dell'83 in cui lei ha riferito che i rapporti si allentarono vero? sì tra un periodo e l'altro esattamente nel dicembre 82 le risulta che Badalamenti fece rientro a Palermo per trascorrere le festività natalizie così mi disse lui risponde al vero che in quel periodo lei subì altri gravi lutti se non sbaglio le vennero uccisi il genero i nipoti ed anche il fratello? sì ha mai ritenuto Badalamenti responsabile della morte dei suoi parenti come poteva pensare una cosa simile dal momento che lei aveva un ottimo rapporto con Badalamenti tant'è che Badalamenti la faceva oggetto di confidenze così particolari e delicate come per esempio quella di aver commesso un omicidio ne avesse commesso solo uno potremmo ridare allo scandalo quello per cui il fatto di avermelo il fatto di avermelo di essersi raffreddati i nostri rapporti è dovuto che io pretendevo una risposta certa da Badalamenti che venendo in Brasile non l'avesse fatto sapere ad altri che era arrivato in Brasile invece lui quando tornò lui mi disse che era venuto in Italia dall'Italia e tornò nuovamente in Brasile in alcuni ragionamenti in fase successiva lui mi disse che aveva saputo che si era tentato di uccidere Giuseppe Greco detto con un soprannome Scarpazzetta e che l'attentato era fallito io lui disse ma allora capisco perché mio fratello mio nipote muore perché capiranno con la tua andata in Italia che io abbia preso parte a questa decisione mentre tu sai che io ti ho detto di non andare in Italia e di non cercare rivincite perché non era questo il momento quindi sto facendo una sintesi ma i discorsi sono più vasti più larghi più ampi va bene passo un'altra domanda lei ha mai accusato badalamenti di traffico di stupefacenti no risulta che in un procedimento a carico di badalamenti negli Stati Uniti lei affermò a seguito di una specifica domanda postale dal pubblico ministero che badalamenti era stato imputato in Italia per traffico di droga che era stato imputato sì che esito ebbe la sua deposizione ai fini del procedimento beh lei ha parlato però di due cose che vorrei distinguere lei mi ha parlato di accusa e poi mi parla di avere detto in un pubblico dibattito se badalamenti era stato imputato in droga posso rispondere in tutta verità ancora oggi badalamenti era carcerato con me perché imputato per droga la domanda seguente qual era? che esito ebbe la sua deposizione cioè la sua deposizione venne considerata ai fini processuali oppure no? eh non lo so l'aiuto a ricordare lei ha riferito che la sua risposta fu espunta dal verbale proprio perché non riguardava sue conoscenze dirette o specifiche sull'attività del badalamenti è vero? guardi signori e signora il procedimento penale negli Stati Uniti ha una forma diversa di quella che c'è in Italia negli Stati Uniti si risponde agli avvocati e non si risponde al presidente del tribunale si risponde si risponde agli avvocati e l'avvocato di Badalamente mi ha fatto delle domande ben precise e mi ha detto lei ha visto il mio cliente trafficare in droga cioè che io con i miei occhi avevo visto Badalamente trafficare in droga e io ho risposto no perché io non avevo mai visto Badalamente caricare una valigia con della droga ma scusi se la sua deposizione riguardava solo l'imputazione il fatto che Badalamente fosse stato imputato di un procedimento avente ad oggetto il traffico di stupefacenti che necessità c'era di questa precisazione era l'avvocato di Badalamente che me la domandava l'avvocato di fiducia di Badalamente ma come poteva essere espunta dal dal procedimento una domanda simile se riguardava soltanto la presunta imputazione di Badalamente per traffico di stupefacenti ma lei vuole la mia opinione signorina non posso darla agli avvocatessi comunque la sua dichiarazione venne spunta dagli atti del procedimento lo conferma? certo e dagli atti di procedimento americano grazie ho concluso allora la parola torna all'ufficio pubblico mistero eh? eh sì sono finiti tutti c'è un momento in cui finiscono tutti siamo arrivati a questo momento sono molte le domande sono molte le domande eh ma non sappiamo quante saranno le domande comunque penso che ormai per quanto mi riguarda sarò brevissimo veramente molto breve una sola eh precisazione ancora riguardante queste telefonate che le ha fatto queste trascrizioni perdono che le ha fatto leggere Bossi eh l'è stato detto da Bossi o da qualcun altro che uso di queste telefonate era stato fatto nel processo nel processo penale sì cosa le è stato detto io non so da chi l'ho appreso ma certamente forse l'ho appreso da Bossi che le telefonate arrivato a un certo punto in un processo celebrato davanti alla corte si fossero avvicinati il pubblico ministero all'avvocato difensore e siano state tolte delle telefonate erano state tolte tolte delle telefonate lei e cioè non so dirlo forse in un'altra maniera ma voi avete capito che cosa intendo dire sì certamente non usa termini tecnici però nella sostanza vuol dire che erano state tolte dal processo escluso allora lei si ricorda che questa decisione venne presa dal tribunale come? in qualche modo sempre per quanto le è stato riferito dal tribunale di Milano dal tribunale di Milano sì e si ricorda per quale ragione sempre secondo quanto è stato riferito erano state escluse le dissero perché erano state escluse Bossi o chi altro? non ho un ricordo ben preciso ma mi sembra per il segreto di Stato perché erano intervenuti i servizi segreti non ricordo ma c'era qualche ragione perché il Presidente ordinasse che queste telefonate non si esibissero sì guardi solo due domande che forse le sembreranno le cui risposte le sembreranno anche ovvie e abbiamo detto che dopo l'espulsione dei badalamenti alcuni esponenti di Cosa Nostra tra i quali e qui ci interessa Stefano Bontade continuavano a tenere rapporti con lui ci ha detto anche che questo era tenuto nascosto perché era una cosa contraria alle regole e le chiedo quindi le risulta in qualche maniera che Bontade abbia dato notizia o abbia fatto capire in qualche modo a Giuseppe Calò che continuava a mantenere questi rapporti con badalamenti no non poteva non poteva non poteva dire Bontà una cosa simile a badalamenti Bontade a Calò vuol dire a Calò a Calò sì un'ultima domanda è questa perdono un attimo sì sì un attimo un secondo lei ci ha detto già che per un certo periodo Calò e Bontade sono stati entrambi nella commissione facevano parte entrambi tutti e due insieme della commissione esatto lei ci sa indicare approssimativamente in quale periodo sono stati tutti e due contemporaneamente in commissione Bontade o Badalamenti tutti e due lo so come vede ne avevo anche io un attimo di diffusione Badalamenti Bontade aveva un ruolo particolare nella commissione o era un membro qualsiasi della commissione uguale al Calò non aveva un ruolo particolare Bontade Bontade semmai era una persona che in commissione non ci stava più bene perché c'erano discorsi contrastanti fra un piccolo gruppo della commissione e l'altro gruppo più grande della commissione io ho finito la parte civile mi è rimasta una sola domanda che non deve sembrare ingenua ma deve portare a una precisazione che ritengo necessaria signor Buscetta più volte nel corso di questa giornata le è stato contestato di aver tacciuto alcuni nomi e alcune circostanze al giudice Falcone negli anni precedenti al giudice Falcone e comunque ai magistrati dai quali è stato ascoltato negli anni precedenti il 92 e soprattutto il 93 in particolare alcuni nomi lei non li ha indicati negli anni 80 e comunque prima del 92 e soprattutto è logico prima del 93 io le chiedo se è mai successo il contrario vale a dire lei ha mai indicato nel corso delle tante deposizioni un nome attribuendo di una circostanza senza che ciò fosse vero ma io ho detto questo mi sembra in una mia deposizione ho detto un momento io ho detto sempre la verità al dottore Falcone non parlando solo dei politici io non ho mai detto qualche cosa che non risultasse a verità perlomeno questa presunzione ha avuto delle reticenze per un certo periodo ma non ha mai mentito mentito questo è il discorso nient'altro allora la parola ai tre difensori che avevano il test come test diretto difesa Andreotti rimane la difesa della Barbera e difesa Calò la difesa della Barbera non ha domande da porre la difesa di Calò ringrazia allora possiamo ecco una domanda deve fare il giudice una sì sì siamo buscetti va bene sì sì no abbiamo finito il presso di quello che io avevo previsto gli avvocati parlano sapendo tutti gli atti noi no però alcune precisazioni per comprendere meglio quello che è stato detto sono a sua disposizione allora cominciamo per cortesia lei mi pare che abbia detto faceva parte della come si chiama famiglia la famiglia di Santa Maria del Gesù no io no allora cominciamo Porta Nuova Porta Nuova Bontade che famiglia Santa Maria del Gesù Santa Maria del Gesù Calò Porta Nuova Porta Nuova quindi erano diverse sì Inserillo Passo di Rigano Passo di Rigano quindi allora lei ha parlato di una decina a Roma sì facente parte di quale famiglia Santa Maria del Gesù quindi della famiglia di Bontade che lei sappia tra la famiglia tra i membri di questa famiglia di questa decina di Roma i membri erano dei killer o avevano altre funzioni nell'ambito della famiglia io personalmente nella decina di Roma non ho mai conosciuto un killer non c'erano killer no e questo è un conto una domanda che ha fatto il pubblico ministero mi ha già dato una risposta al posto di Beralamenti quanto fu espulso chi andò? Michele Greco Michele Greco fatte queste premesse di famiglie lei ha detto che in caso di espulsione praticamente gli espulsi erano lasciati al loro destino tanto che generalmente si concludeva con la morte da parte dei loro nemici ma la espulsione già che lei ha detto che la commissione aveva una competenza provinciale valeva per tutti i membri della provincia o valeva per tutti i membri dell'associazione dove c'era Cosa Nostra anche in America allora questa espulsione veniva comunicata a tutte le famiglie a tutte le famiglie e io una volta dissi a Giudice Falcone per darle un'idea che badalamente non poteva essere contrabbandiere di droga ed è in un mio verbale fatto a Giudice Falcone perché lui non poteva avere contatti con uomini d'onore d'oltre oceano ho capito allora torno solo su questo lo basava che non poteva essere non perché io sapevo chiaro ha già detto al pubblico ministero che non vi era il capo della commissione erano praticamente tutti pari tra di loro tutti pari ma materialmente se lei lo sa di fatto c'era qualcuno che emergeva all'interno della commissione si il capo della commissione è diventato durante questi interrogatori però noi quando creammo la commissione chiamammo di segretario a Salvatore Greco inteso Cicchidelli che sarebbe stato il capo della commissione invece lo chiamammo segretario perché invece di essere il capo era colui che si preoccupava di cercare gli altri capopandamenti per mettersi d'accordo per gli appuntamenti e per i ragionamenti diciamo che era il coordinatore era il coordinatore non un capo non un capo poi camminando camminando si stabilì che il capo diventò greco e poi il capo diventò rina ma non era questa la funzione del capo allora sulla base di queste considerazioni di fatto può dire se all'interno della commissione allorché nella commissione vi era badalamenti inserillo calò e bontade c'era qualcuno che aveva più ascendente di questi e che imponeva in un certo qual modo i propri punti di vista chi imponeva i propri punti di vista devo dirlo sinceramente anche se non appartiene a questo processo era salvador erina però faceva in una maniera molto garbata facendole porgere le notizie che lui desiderava che fossero ammesse da michele greco da michele greco perfetto senta il rapporto bontade inserillo lei ha già detto che erano molto amichevoli sì ma tra i due aveva più ascendente inserillo o più ascendente bontade 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 anche se inserillo proveniva da una famiglia dove i mafiosi non riesco a contarli quanto erano va bene un'ultima cioè più di un'ultima cosa lei ha detto di aver conosciuto in un brevissimo periodo chiamiamolo Michelangelo la Barbera sì sapeva che funzioni aveva nella famiglia di inserillo signor giudice non ci sono funzioni nelle famiglie lei mi ha detto diciamo diciamo allora le giro la domanda le giro la domanda per quello che può interessare questo processo lei ha detto che della decina di Angelo Cosentino a Roma non conosceva killer lei sapeva che in caso di necessità la Barbera poteva essere utilizzato come killer sì anzi benissimo sapeva se era un esperto di armi no questa qualità non la conosco non la conosce ma poteva essere un uomo di azione che noi chiamavamo uomo di azione senta un'altra cosa se un capo mandamento ha bisogno di ordinare un'azione illecita un omicidio una rapina qualunque attività e vuole servirsi può servirsi con il consenso dell'altro capofamiglia di soldati di un'altra famiglia ma questo chi lo stabilisce è la commissione la commissione e la commissione aveva no aveva devo dire aveva perché adesso non ho più conoscenza io aveva la possibilità e aveva anche il potere di poter indicare i soldati delle varie famiglie che avrebbero questo quando diciamo diciamo che fino al 1980 è così questo quando l'azione era un'azione stabilita dalla commissione ma quasi sempre le cose erano stabilite dalla commissione allora la mia domanda ulteriore una volta precisato questo se Badalamenti voleva commettere un omicidio e non aveva Badalamenti e Badalamenti fuori dalla commissione aveva la possibilità di rivolgersi a bontade e inserirlo e ho detto sì ho detto sì perché i rapporti anche se sotterranei sono rimasti sono rimasti e bontade e inserirlo potevano scegliere liberamente chi sempre se questo in linea ipotetica potevano scegliere indipendentemente un soldato chiamiamolo soldato della famiglia di bontade della famiglia di inserirlo per i rapporti che erano i due sì quindi se ho ben capito e se era una cosa fuori dalla commissione fuori dalla commissione fuori dalla commissione senta Calò per quello che le sa chi poteva dare ordini a Calò di fare una certa cosa su Roma o bontade diciamo eliminiamo Badalamenti perché è andato fuori se bontade e inserirlo chiedono a Calò di procurare qualcuno sul territorio di Roma Calò è tenuto o può dare la sua adesione volontaria a questo? si deve mettere d'accordo con i due per fare la sotterranea o altrimenti deve dire parliamo in commissione ho capito ma non con Badalamenti non con Badalamenti fuori chiamiamolo fuori diciamo quelli che ufficialmente possono chiedere qualche cosa a Calò diciamo allora che i capi gli altri capi mandamento se il fatto non riguarda la commissione possono chiedere a Calò il quale ha tutto il diritto di dire di sì o di dire no questo non ha importanza ma hanno la possibilità di chiedere si Calò che non ha una decina se lei Calò dico Calò ma dico l'uomo d'onore che è a Roma o che è a Milano non ha importanza se non ha proprio personale sul posto può permettere il collegamento tra chiamiamolo tra virgolette il mandante e manovalanza locale questa domanda non posso rispondere non posso rispondere perché non la so esce un po' fuori della mia conoscenza va bene pochissime ancora domande lei ha detto una frase anzi prima di questo come sono regolati i rapporti tra le varie famiglie di province diverse all'epoca ovviamente di province diverse cioè le faccio questa domanda per capire perché lei ha detto che badalamenti e bontate diciamo sono caduti in disgrazia perché avevano in un certo modo autorizzato l'omicidio fuori provincia ma se era necessario fare questo omicidio fuori provincia a chi dovevano chiedere il permesso come veniva regolato il tutto in questo caso dovevano chiedere il permesso proprio a chi è morto e mi sembra difficile che ci andavano a dire no e no e quello era i rapporti erano buonissimi con tutte le province dove c'era cosa nostra ma logicamente si doveva dare una ragione una spiegazione quindi diciamo che il permesso per uccidere Madonia Francesco si doveva chiedere a Madonia Francesco oppure a tradimento diciamo come è successo come è successo va bene poi ha fatto una qui è solo una precisazione lei ha detto che era notorio chi era il referente di Lima tra tutti la specificazione che io le chiedo è questo tra tutti era tra voi uomini di onore o era nell'ambiente della Sicilia di Palermo di provincia non posso permettermi perché non conosco ma non ho neanche l'idea ma fra noi uomini d'onore era tra voi uomini d'onore che parlava un po' più di politica di voti sì benissimo un'altra precisazione tutte le dichiarazioni che lei ha reso fino ad oggi sono state rese da lei come testimone o come indagato in procedimenti connessi o collegati con quelli per cui si solo oggi sono stato come testimone come testimone mi dispiace ma dobbiamo tornare un attimo sul colloquio sul 79 il colloquio con Azzolini se può essere più preciso perché è un punto che non riesco a capire lei ha detto che parlando con badalamenti quando ha assistito diciamo in televisione alla morte di della chiesa ma perché lo hanno ucciso perché non aveva fatto niente però poi ha anche detto che nel 1979 Cosa Nostra le chiese di contattare le Brigate Rosse se perché questi in caso di omicidio li dà la chiesa si assumessero la responsabilità no 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 che lo lo rivendicasse lo rivendicasse ma mi può dire se lo sa innanzitutto chi le portò questa ambasciata non mi riferisco personalmente ma da chi dei capi veniva a questa richiesta personalmente posso dire è da chi esatto personalmente da un tale che si chiamava forse l'ha già detto Teresi Teresi esatto che era il sotto capo della famiglia di Bontate di Bontate quindi veniva da Bontate ma può dire se ha avuto modo di capire perché questo interessamento della mafia alla uccisione della chiesa già nel 79 quando ancora dalla chiesa era diciamo la sua andata a Palermo era di là da venire dopo tre anni neanche in idea quindi io domandai quando usci quando mi vidi con Bontate diciamo libero va bene e lui mi disse ma che vai pensando è acqua passata comunque studiare la chiesa si era creduto di diventare chissà che cosa non sa se ci fu un interessamento già all'epoca 1979 per la uccisione della chiesa da parte di persone esterne alla vostra organizzazione già l'avrei detto no non lo sa scusi l'ultima domanda forse l'ha già detto Badalamenti era la famiglia di Cinisi Cinisi è un paesino è un paesino ecco il collega vorrebbe sapere un'ultima precisazione poi abbiamo finito nel momento in cui Badalamenti è espulso dalla commissione e da Cosa Nostra questa espulsione vale anche nei confronti della famiglia di Badalamenti no no è personale è alla persona no no mi sono spiegato anche i membri della famiglia di Badalamenti no no è personale è alla persona no mi sono spiegato faccia finire la domanda va bene anche i membri della famiglia di Badalamenti se vogliono possono uccidere Badalamenti sì quindi l'espulsione vale anche nei confronti dei membri della stessa famiglia dell'espulso no no cioè vale nel senso che sono liberi di agire sì che sono liberi esatto ecco questo volevo sì sì va bene grazie non avevo capito la domanda mio Presidente io le chiedo scusa lei sa che non è mia abitudine impegnare il microfono ma in relazione ai temi emersi sul sulle domande poste dal signor consigliere Latere la difesa della Barbera ha interesse a porre poche ma precise domande al signor Buscetta le chiedo di consentirla prego siamo abbiamo il diritto signor Buscetta sono sempre il difensore di la Barbera di? la Barbera di la Barbera di la Barbera di la Barbera di aver conosciuto tutti gli appartenenti alla decina romana no quindi alcuni li ha conosciuti ed alcuni non li ha conosciuti esatto quando lei dice che non c'erano killer nella famiglia nella decina romana si riferisce ovviamente o meglio tolgolo ovviamente a quelli che conosce io dovrei rispondere molto semplicemente dicendoci a quelli che conosco ma nell'ambiente di Cosa Nostra si separa che la decina la prego no presidente vorrei completarsi la risposta faccio faccio lasciamo completare la risposta lei sa meglio di me signor pubblico ministero la prego forse sono stato l'unico difensore che non ha attirato opposizione è verissimo non voglio cominciare ora è verissimo lei mi è maestro e sa benissimo che il testimone non può riferire voci correnti tra il pubblico sia pubblico vasto sia pubblico ma non abbiamo ancora capito se erano voci correnti tra il pubblico ha detto si vociferava si sentiva nell'ambiente io non ho capito la domanda la domanda è questa nel momento in cui il signor Buscetta ha detto io non conoscevo killer nella famiglia romana si riferiva a quelle alle persone che erano di sua conoscenza ovviamente e questo è il senso della domanda ma io volevo completare qual era la nomea della decina romana signor Buscetta la nomea non può fare ma non è in cosa nostra però il nome è distretto si che lo può dire la testimonianza di un dato comunque ha detto ha detto che si riferiva ma è anche però non credo che no no scusi insisto perché non credo che si possa assimilare alla voce corrente fra il pubblico una notizia una nomea è un'espressione che ha causato il signor Buscetta in questo momento però ci sta parlando di notizie ricevute nell'ambito di cosa nostra poi ci dirà anche se da chi l'ha saputo però intanto vogliamo sapere queste notizie o no perché non mi pare che si parli di voci correnti tra il pubblico è l'interpreto ufficiale di Buscetti il pubblico ministero no non ci stiamo con l'ingegno certamente in questo caso è inutile fare dell'ironia gratuita solo dicendo che al viso del pubblico ministero non si parla di voce correnti non fa l'interpretazione autentica di Buscetti io non sono contrario a che il signor Buscetta risponda per me va benissimo che lui completi la risposta però che risponda dando degli elementi di fatto lo invito lei ha fatto una domanda il test ha risposto e vuol fare una precisazione la faccia riferendo elementi di fatto se può farlo lei ha detto dice io intendevo tra le persone che conoscevo però voglio precisare ecco su elementi di fatto non perché ho sentito qualcuno che glielo ha detto elementi di fatto signor Presidente sono le voci che si hanno in Cosa Nostra va bene allora le voci che si hanno in Cosa Nostra va bene passo ad un'altra domanda signor Buscetta per quello che io so di lei avendolo appreso negli atti processuali io non ho mai sentito dire che lei sia stato un killer di Cosa Nostra mi conferma? sì e se lei non essendo killer di Cosa Nostra durante il periodo in cui ne faceva parte il suo rappresentante le avesse dato l'ordine di uccidere una persona cosa avrebbe fatto? avrebbe seguito o no? l'avrei seguito se me lo diceva il mio rappresentante anche per l'età che avevo per i rapporti che avevo con lui perché bisogna questo anche precisarlo potevo dirle anzi lui stesso mi avrebbe prevenuto dicendomi questo quello che anche io avrei concordato che meritavo la morte e l'avrei fatto e allora signor Buscetta corrisponde alle chiamiamole regole di Cosa Nostra il fatto che qualsiasi uomo d'onore purché formalmente inserito nell'associazione è potenzialmente un killer nel momento in cui gli viene chiesto di eseguire un omicidio ma sono perfettamente d'accordo con lei e io sono perfettamente d'accordo con lei però vorrei che anche gli altri fossero d'accordo con tutti e tutti signor Buscetta no 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 lo decide la corte non indipendentemente indipendentemente dal ciò che è stato detto fino a quest'anno la decina romana era in grado per quelle che sono le sue conoscenze non le voci comuni di assicurare un supporto logistico intendo dire ospitalità mettere a disposizione mezzi dare un'assistenza a qualche azione da compiere a Roma sì signor Buscetta lei poco fa ha detto che un eventuale accordo tra calo e bontate poteva essere ha usato l'espressione sotterraneamente alla luce delle sue conoscenze e riferendomi al 1979 e riferendomi ai rapporti tra calo e bontate così come lei li ha descritti per due giorni di seguito in quest'aula lei può sostenere che potesse esservi un accordo sotterraneo tra bontate e calo per la esecuzione di un delitto a Roma o in qualsiasi altra ma questa sarebbe un'ipotesi sì sì come ipotesi io non posso escludere niente lo so io le ho detto alla luce dei rapporti così come lei li ha descritti come ipotesi non posso escluderlo come ipotesi non posso escluderlo signor Buscetta l'ultima precisazione che le chiedo la penultima precisazione che le chiedo lei risulta qualcuno le ha mai detto o lei è stato in grado di percepirlo o di osservarlo che il signor Michelangelo la Barbera possa aver mai fatto uso di armi in vita sua no io non l'ho visto con le armi in mano non l'ho visto non dico solo io l'ho detto lei risulta lei è stato detto ho avuto modo di saperlo ho avuto modo di saperlo dal suo rappresentante il suo rappresentante Salvatore Inserillo mi disse che era un uomo di valore era un uomo di valore su questo non ho nulla da dire Inserillo Salvatore stiamo parlando di una persona che è deceduta l'11 maggio 81 sbaglio sì sì mi scusi come mai lei non ha mai detto questa circostanza nelle occasioni in cui lei è stato chiesto di parlare di la Barbera di parlare di la Barbera Michelangelo o Angelo come lei lo chiami ma non lo so perché non me l'hanno chiesto io mi metto a raccontare io non sono buono a raccontare signor Buscetta ricordo male se le dico che lei le uniche attribuzioni che ha riferito al signor Michelangelo la Barbera erano il fatto che si trattava di una persona poco in vista appartata e di pochissime parole eh sì e lo ripeto e lo ripeto signor Buscetta le risulta che Michelangelo la Barbera abbia ucciso Mino Pecorelli no se non l'avrei detto bene possiamo personalmente non mi risulta possiamo licenziare il test grazie può andare scusate un momento sì sì no no lei può andare devo aspettare sì sì ecco sono qui sono qui prego grazie volevo dire ai difensori e al pubblico ministero avete fatto riferimento più volte a contestazioni quindi avete chiesto avete chiesto che venga acquisito al dibattimento che vengono acquisiti relativi verbali ne abbiamo dato precisazioni quindi vengono acquisiti tutti i verbali per i quali ci sono state contestazioni formali va bene abbiamo fatto una riserva se la corte vuole che la sciogliamo subito se non è urgente per altri per quello che dovremmo vedere in udienza di 15 giorni fa mi sembra per favore forse ci sono delle stanze istruttorie che devono riassumere perché si sono disperse nell'udienza la corte si era riservata l'acquisizione o meno di quella famosa relazione medica dalla quale risulteresse che Bucetta aveva scritto Stricni su un pezzo di carri ah ecco si c'era quella i pubblici hanno fatto riferimento a testi di relato credo se potete un attimo se potete un attimo riassumere le istanze istruttorie mi pare che c'erano richieste di relato c'era l'audizione della moglie di Bucetta questo ha fatto lei avvocato questa richiesta poi c'era la richiesta di acquisizione di quel documento e da parte della difusione di notte non c'era altro altre istanze istruttorie non c'è la memoria se non ricordo male avevamo fatto per favore si e ti dico scusa avevamo chiesto come quando finisce avevamo chiesto la produzione dei verbali usati per le contestazioni e questo e va bene questo ci eravamo riservati per chiedere la citazione dei testi brasiliani immersi dalle dichiarazioni del signor Bucetta oggi e cioè se non ricordo male però se proprio non dobbiamo scioglierla adesso la riserva possiamo farla la prossima volta comunque i testi che emergono dalla deposizione i testi brasiliani che avrebbero scattato la fotografia per quanto riguarda la produzione del verbale ci siamo opposti e confermiamo questa opposizione per una questione di coerenza come non ho capito scusa per quanto riguarda la produzione della relazione brasiliana chiesta dal professor Coppi ci siamo opposti e continuiamo a opporci per coerenza però la circostanza è stata chiarita nel corso della deposizione di Bucetta se non va derrato professor Coppi se non ricordo male quello ha scritto Stricli ma mi pare se non ricordo male si si mi sembra che il testo l'abbia detto ha detto di aver scritto esattamente ha detto che lo ha fatto dopo non che l'avrebbe fatto prima la domanda era fatta in un altro modo comunque poi ha messo una certa circostanza poi c'è l'avvocato Darmina che voleva dire la sua circostanza è questa quello che emerge dalle dichiarazioni di Bucetta sulla produzione della relazione continuiamo a opporci come dicevo prima non fosse altro che per un problema di coerenza non con quello che abbiamo detto prima ma col fatto che non sono introducibili relazioni informative rapporti eccetera se non attraverso il testo che li ha fatto purtroppo è questo una sola cosa il microfono il microfono avvocato visto che la circostanza viene considerata ormai acquisita se su questo siamo d'accordo e mi pare che il verbale ne darà atto noi non perché si sia d'accordo con il pubblico ministero ma rinunziamo alla richiesta di acquisizione di questo documento rimaneva invece l'accordo ne prende atto mentre rimane sempre il famoso problema della registrazione di quel colloquio con Schembach che noi abbiamo sentito essere nelle mani dell'avvocato Ligotti che Buscetta avrebbe detto non avere nessuna difficoltà a che venga acquisita quindi si lui ha dato il suo parere poi quando sentiremo il test d'accordo va bene l'avvocato Termina voleva dire qualcosa scusa noi non conosciamo ancora il testo del verbale che è stato redatto qualche giorno prima che venisse esaminato come test il signor Buscetta quello al quale è stato fatto riferimento al quale ha riportato l'ufficio del pubblico ministero di Perugia anche perché avremmo interesse a conoscerlo per capire se ci sono da fare altre domande al testimone per cui noi chiediamo che ci sia messo a disposizione anche scusate avvocato Termina noi abbiamo detto in un'ordinanza ieri che il pubblico ministero aveva chiesto a voi se poteva mettere la discussione voi vi siete opposti il problema è risolto no presidente forse non è chiara la cosa noi abbiamo detto semplicemente che il deposito di questo atto discende automaticamente dal secondo comma del 430 del codice noi su questo abbiamo fatto un'ordinanza noi diciamo che ad oggi anche in relazione ad eventuali domande che avremmo potuto porre sulla base delle nuove consapevolezze ove ne fossero provenienti da questo verbale noi vorremmo essere nella condizione di conoscerlo perché è un nostro diritto e siccome Buscetta è presente saremmo ancora in grado di potergli fare domande laddove lo conoscessimo siccome non lo conosciamo noi ci riserviamo di risentire Buscetta sul contatto questa è una vostra richiesta comunque sul punto la Corte ha emesso un'ordinanza che mi sembra ben precisa ma Presidente non era un problema della Corte era un problema che noi chiediamo in questo momento di poter sentire di poter esaminare il test Buscetta sui contenuti di un atto che non conosciamo e che vorremmo conoscere ma scusate il pubblico ministero ieri prima che la Corte emettesse l'ordinanza si era dichiarato disponibile a passare alle altre parti la copia di questo verbale se il pubblico ministero lo vuole fare lo faccia ma è un atto che per noi è inutilizzabile come Corte Presidente ma io lo dico per comodità della Corte perché altrimenti sulla base di quelle dichiarazioni che dovessero emergere da quel verbale potremmo essere nella condizione di richiedere e lo vedremo esatto e lo vedremo allora l'udienza è sorpresa scusate c'è il dottor Vitalone che deve fare una dichiarazione il dettaglio della deposita del parere su quella sì quello volevo infatti dirlo anche io ma quello lo discuteremo alla fine e prima di questo vi volevo dire volevo dire a tutte le parti che il pubblico ministero ha depositato nel termine che la Corte aveva dato il suo parere in merito alla deposito della memoria del dottor Vitalone ecco è un parere depositato poi noi abbiamo tempo di decisioni ma voi potete vederlo e poi ne parleremo la Corte si riserva di decidere in merito a quella memoria c'è comunque il parere del PM prego Presidente l'11 maggio scorso proprio all'esordio della istruttoria dibattimentale il pubblico ministero produsse un documento che la Corte esaminò e che restituì dichiarandolo irricevibile quel documento conteneva fra l'altro esplicito riferimento ad attività di indagine preliminare la cui verifica è stata oggi compiuta davanti alla Corte d'Assisi io non ho atteso oggi immediatamente dopo aver preso lettura di quel documento del pubblico ministero che offriva un riferimento non preciso né puntuale alle dichiarazioni rese dal signor Buscetta ho provveduto a presentare alla procura della Repubblica di Roma coerentemente ad altre iniziative di analogo contenuto una denuncia per falso ideologico nei confronti del pubblico ministero di questo processo per avere falsificato le dichiarazioni del signor Buscetta con riferimenti che non avevano alcun riscontro nelle risultanze processuali questa sera mi permetto soltanto di aggiungere è stata costruita una artificiosa confusione sul nome di Claudio Vitalone e sul ruolo del signor Edoardo Formisano come avrete potuto accogliere dall'intervento del mio difensore professor Taormina il signor Formisano ed un'altra persona che risponde al nome di Uco Filocamo sono stati condannati con sentenza del Tribunale di Milano alla pena di anni sette mesi due di reclusione e 320 mila lire di multa in seguito ad una relazione di servizio prodotta dal sostituto procuratore della Repubblica Claudio Vitalone voi sentirete ancora questo tentativo di accostare il mio nome a quello di Edoardo Formisano è una persistente mistificazione alla quale io reagirò con tutti gli strumenti consentiti dall'ordinamento vi prego di prendere conoscenza di questo documento che io produco denuncia in data 25 ottobre 1995 contro il pubblico ministero di questo processo e chiedo scusa l'involucro è sbagliato ed è sbagliata la data comunque si riferiva ad altra denuncia il documento è questo questo qui lo vuol produrre siamo nella posizione dell'altro documento perché anche l'altro documento era sostanzialmente una denuncia quindi ne bisogna anche di questo documento valuterebbe la pertinenza la rilevanza è finita la vostra decisione lo facciamo il pubblico ministero e presidente direi posso esprimere fin d'ora il parere del pubblico ministero è perfettamente identico a quello che riguarda l'altro documento e che sul quale abbiamo risposto abbiamo fornito delle indicazioni osservazioni diciamo le stesse identiche cose anche per questo va bene quindi per entrambi la corte si riserve la decisione lo facciamo alla fine di questa tornata di udienze allora l'udienza sospesa riprende domattina alle 9.15 e debbono essere sì cerchiamo di essere puntuali anche domani ci aspetta una giornata c'è l'ordine per scusate per la traduzione degli imputati detenuti presenti e bisogna perché non è arrivato non abbiamo nessuna comunicazione ulteriore oltre il giorno di oggi per l'imputata la barbara che aveva detto che voleva venire ma poi è rinunciata a comparire per le udienze di ieri e di oggi quindi per domattina il gruppo al venire deve essere stato o portato o deve arrivare qualche cosa perché non abbiamo nulla dell'imputata la barbara ciao a tutti bentornati sulla pagina facebook che continua a crescere e bentornati anche sul canale youtube